Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti, Napoleone III di Franco Cardini, regia di Vittorio Attamante. Buonasera, sono Franco Cardini e nonostante io faccia di professione in medievista dovrò e lo farò con piacere intrattenervi su un personaggio, direi un personaggio chiave, di due secoli or sono, cioè del XIX secolo del nostro 800, dell'800 romantico, dell'800 che per noi è l'800 del risorgimento, anche dell'800 delle grandi rivoluzioni, perché in fondo la rivoluzione francese è vero che è cominciata alla fine del 700, ma fa sentire i suoi effetti e uno di questi effetti è anche Napoleone stesso, non il Napoleone III di cui parleremo, ma il suo grande zio Napoleone I. quindi Napoleone III è un uomo, uno statista, uno studioso, ma detto anche questo, è uno studioso di notevole livello che vive proprio gli anni centrali del XIX secolo, nasce a Parigi nel 1808, muore a Cislehurst e nel Kent nel 1873, sapete quando un regnante muore lontano dal luogo che ha visto i suoi fasti, significa che gli è successo nell'ultima parte della vita qualche cosa, è un rovescio politico ed è infatti il caso del nostro Napoleone III, quindi vive per 65 anni, che per il XIX secolo non era tutto sommato un'età poi così disprezzabile, un 65enne poteva dire di aver avuto una vita relativamente lunga, anche se non proprio lunghissima, nemmeno per quei tempi. Al suo imperiale zio era andata molto peggio, Napoleone I non arrivò molto oltre i 50 anni, anche se furono 50 anni straordinariamente intensi, ma stando insieme in queste serate ci renderemo conto che anche quel Napoleone al quale noi guardiamo con una certa sufficienza, qualche volta perfino con un senso di ridicolo, saranno i suoi lunghi baffi a punta, sarà la sua lunga barba che ci sembra un po' caprina, sarà il suo gusto per le uniformi, molto più pronunziato di quello dell'imperiale zio che invece amava questi abiti, l'abito da colonnello dei cacciatori oppure l'abito da ufficiale d'artiglieria, che era anche un po' trasandato, il grande imperatore. Mentre Napoleone il piccolo, come lo chiamava malvagiamente, come possono essere, come sanno essere malvagi solo gli intellettuali, Victor Hugo, l'ha sempre chiamato così, Napoleone il piccolo, per distinguerlo da quel Napoleone il grande, la cui ombra si proietta per tutto l'Ottocento e per tutto il cosiddetto secondo impero, ha segnato pure un'impronta importante nella sua Francia e in tutta l'Europa, quindi parleremo di un uomo che ha vissuto 65 anni, ma di questi ne ha trascorsi molti, 18, dal 1852 al 1870, sul trono, in un tempo che è stato per molti versi il vero decollo delle fa contemporanee. Napoleone, Luigi Carlo Napoleone, della famiglia dei Bonaparte, o Bonaparte, come diciamo noi di solito, Luigi Carlo Napoleone, tre nomi non da poco, nasce a Parigi nel 1808. Fermiamoci qui, fermiamoci subito, fermiamoci su questa sequenza dei tre nomi. Sapete che i tre nomi per i francesi sono sempre stati molto più importanti che non per noi, ad esempio, nella nostra tradizione onomastica cattolica, anche noi italiani di solito abbiamo tre nomi, secondo dei quali tradizionalmente, fino a poco tempo fa, era il nome del padre putativo di Gesù, Giuseppe. Le bambine si chiamavano tutte Maria. In Francia il discorso è un po' diverso. I tre nomi si portano con rilievo, si dà loro importanza, si dà loro un'importanza programmatica, si declinano molto spesso, anche se noi omettiamo di conoscere i francesi con tutti e tre i loro nomi, ma ancora oggi nelle scuole francesi si insegna questa sequenza tripartita. Quindi Luigi, Carlo, Napoleone. nasce nel 1808 e nasce a Parigi. E fin qui, direte, è banale, dove altro avrebbe potuto nascere. Eh no, mica tanto. Mica tanto perché quando lui nasce nel 1808, suo padre, Luigi Bonaparte, è già re d'Olanda da un paio d'anni. Luigi Bonaparte resta re d'Olanda in questo caledoscopico sistema di monarchie dinastiche, in parte dinastiche, in parte reinventate, con le quali Napoleone organizzava e gestiva la sua Europa, Luigi dicevo uno dei molti fratelli di Napoleone. Non poi troppo il prediletto, anche perché tutto sommato Luigi era abbastanza schivo per un verso e indipendente per un altro, non aveva l'intraprendenza di Giuseppe, non aveva la sensibilità politica di Luciano. Era uno che però stava un po' per suo conto e così il suo imperiale fratello lo sperisce a fare il re d'Olanda. L'Olanda è importante. L'Olanda è importante perché dopo il sole splendente di Austerlis, nel 1805, l'imperatore comincia a pensarci sul serio alla prospettiva di una futura possibile invasione dell'Inghilterra e a questo punto l'Olanda, con la sua tradizione navale, con la sua esperienza anche coloniale, con i suoi marinai espertissimi, diventa un anello importante nella catena del potere europeo di Napoleone. Eppure anche Luigi, fra Amsterdam, Rotterdam, Laya, le residenze di Campania, in Olanda ci sta e non ci sta. E infatti Luigi Carlo Napoleone nasce nel 1808, appunto a Parigi. Nasce, come dicevo, da Luigi Nubolaparte e da un altro personaggio straordinario dell'avventura napoleonica, Hortensia Boarnet, la figlia di Giuseppina. Luigi Carlo Napoleone, figlio di Luigi Bonaparte e di Hortensia Boarnet, quindi figlio della figlia dell'imperatrice, anche se si tratta di un'imperatrice che poi conoscerà il divorzio e che verrà allontanata e che per certi versi però resterà sempre un personaggio influente nella corte, diciamo così, nella corte segreta dell'imperatore. L'imperatore tende a ricordarsi dei suoi anche quando per doveri di Stato o per altri motivi li ha abbandonati. Luigi Carlo e Napoleone. È un progetto regale, senza dubbio. Beh, il primo nome Luigi ripete quello del padre, come era abbastanza comune, anche se non comunissimo, nelle famiglie nobili e anche in quelle rege. Ma Luigi è non a caso uno dei nomi tradizionali della monarchia francese dei Borboni. È vero, così si chiamava il padre. Quindi si può pensare che al ragazzo viene al bambino, anzi viene imposto questo nome, semplicemente non segue alla paternità. Ma le cose non sono così semplici, perché in realtà in questo momento, siamo nel 1808, nonostante il sole di Austerlis, l'imperatore Napoleone sta cercando ancora una sua legittimazione fra le feste coronate d'Europa. E quindi il riferimento alla famiglia Borbonica, quasi fosse una sorta di invito ad accettare i Buonaparte come successori legittimi, è qualcosa che non va dimenticato. Poi c'è Carlo, e Carlo è evidentemente Carlo Magno. E poi c'è, infine, il nome del grande zio. Quando il piccolo Luigi Carlo Napoleone fa i suoi primi passi sulla scena della vita, è il caso di dirlo, insomma, siamo nel 1808, è l'anno in cui scoppia la crisi spagnola. La crisi spagnola dell'impero e l'avvio delle guerre napoleoniche di Spagna, noi oggi lo sappiamo, col segno di poi, è uno dei campanelli d'allarme. In Spagna l'impero scricchiola. I partigiani realisti spagnoli danno del filo da torcere alle truppe di Giuseppe Napoleone, re di Spagna, e quindi alle truppe imperiali francesi. Il trono è ancora saldo, siamo nello splendore dell'età napoleonica, ma le avvisaglie della crisi sono in fondo più vicine di quanto non paia, di quanto non si dica. E allora ecco che i sette anni, i primi sette anni di vita di Luigi passano presto, passano in una infanzia dorata, se si vuole, ma nel 1815 l'impero napoleonico crolla definitivamente, anche dopo l'avventura dei cento giorni. Il piccolo Luigi vive da allora con la madre, con Hortensia, ormai separata dal marito, e conosce l'esilio. Italia, Svizzera, Baviera. Sono tre paesi che gli saranno sempre cari e che anche in seguito avranno un ruolo nelle sue scelte. Eccolo quindi in esilio il nostro Luigi Napoleone. Il cognome che ha e la sua parentela a questo punto gli pesa, ma gli pesa in un modo particolare. Questo ragazzo, questo giovinetto, amerà, fino da giovanissimo, riprendere le fila di un discorso che non è tanto un discorso dinastico. Il giovane, l'adolescente, Luigi Napoleone, l'adolescente principe Luigi Napoleone, che porta orgogliosamente questo titolo di principe, in fondo non si sentirà tanto legato a un destino regale o addirittura imperiale, quanto si sentirà piuttosto legato alla natura di grande riformatore, di grande creatore di novità. Ma se si vuole, in fondo, diciamolo pure, di grande rivoluzionario dello zio Napoleone. E Luigi Napoleone ha un interesse spiccato per l'aspetto, per così dire, ideologico, diciamolo pure fra virgolette, ma diciamolo, per l'aspetto politico del regno e dell'impero napoleonico. Quindi si lega, fino da giovanissimo, ai rivoluzionari del suo tempo. Non ama la restaurazione. Beh, direte bella forza, come può il nipote di Napoleone amare la restaurazione. Beh, molti altri membri della famiglia di Napoleone se ne sono in fondo fatti in una ragione. I Napoleoni, di buona parte, durante la restaurazione, molto spesso si sono goduti in pace i loro patrimoni, magari in disparte, e non hanno amato granché tornare alla ribalta. Anche noi, in Italia, a Firenze, avevamo un Napoleoni del principe Gerolamo, che aveva sempre una gran paura a ogni scossone rivoluzionario di dovere essere in qualche modo richiamato ad assumere un ruolo politico. Luigi Napoleone, invece, no. Luigi Carlo Napoleone buona parte pare avere un certo spirito rivoluzionario. Ama l'Italia, ma l'Italia è anche l'Italia dei moti del 21. Certo, per i moti del 21 Luigi, che è nato nel 1808, era un po' troppo giovane, ma non per quelli del 30. E il 21enne, 22enne Luigi, che parla bene l'italiano, nel 1830 lo vediamo entrare niente meno che in relazione con Ciro Minotti. Quindi occuparsi di quello che stava succedendo nel ducafo di Modena, e nel febbraio del 1831, addirittura, insieme a suo fratello, partecipa all'insurrezione della Romagna contro il dominio pontificio. Quindi una sorta di principe rosso, di giovane principe giacobino, che non mostra nemmeno in niente quegli interessi religiosi e quello sequio alla Chiesa, che poi sarà anticipo quello che diremo nelle prossime serate, ma in fondo lo sanno tutti, sarà un connotato del secondo impero, questo rapporto strettissimo con la Chiesa in genere e con il pontefice. In particolare, lo stato pontificio è arrivato fino al 1870 solo grazie alla volontà e all'appoggio di Napoleone. Bene, questo pomeriggio cattolico, questo meriggio cattolico, questo tramonto anche cattolico che avrà l'imperatore, non è assolutamente un giorno che si veda dal mattino, come si usa dire. Il giovane Luigi Bonaparte è anzi, non diciamo che sia un atti clericale, non diciamo che sia un mangiapreti, non si esprime, ma certo è uno che ama la rivoluzione, che ama il cambiamento, che forse vuole rimettere in gioco la sua famiglia attraverso il cambiamento. Poi succede una cosa, che lo fa cambiare di posizione. Buonasera, eccoci ancora col nostro principe Luigi Napoleone, figlio della sorella di colui che era stato a lungo il viscere del Regno d'Italia, quindi in un certo senso uomo che fa parte della nostra storia nazionale e ne fa parte come, e lo vedremo quanto in profondo. Dicevamo che nei primi anni della sua esperienza il giovane, il giovanissimo principe Luigi Napoleone si distingue per un interesse rivoluzionario, per una vicinanza ai rivoluzionari specie italiani, Ciro Menotti, rivoluzionari della Romagna che vogliono, che sognano di rovesciare il potere pontificio. Una volontà di tipo rivoluzionario che a un certo punto si ferma e cambia, diciamo così, di segno. Dovremo imparare a queste sorte di docci scozzesi, alle quali Napoleone III amerà sottoporre spesso la storia. Nel 1832 ormai i moti del 31 sono falliti e quindi qualche maligno potrebbe anche pensare che in fondo il principe Luigi Bonaparte, esule all'estero, trae buona lezione di prudenza dal fatto che i colpi di Stato, le rivoluzioni, non sembrano essere andati a buon fine. Ma forse non è proprio così, perché c'è un fatto, c'è che nel 1832 muore il cugino di Luigi, il duca di Reichstadt, figlio di Napoleone I. Lo conosciamo il duca di Reichstadt, è Leglon, la piccola Aquila, è il re di Roma. È colui che avrebbe dovuto succedere a Napoleone, è figlio naturalmente del secondo letto, e figlio di Maria Luisa d'Austria, di Maria Luisa d'Asburgo. Quindi Luigi Napoleone, in quanto tale, non lo ama granché, bisogna capire, in fondo Luigi è nipote di Giuseppina. Anche se poi sugli Asburgo il principe Luigi, quando sarà diventato presidente della Repubblica e poi imperatore, avrà modo di ricredersi per la verità. Però il fatto che il duca di Reichstadt muoia nel 1832, giovanissimo, è una sorta di malattia che resta ancora misteriosa. Molti libri parlano della misteriosa consunzione del duca di Reichstadt, lasciando capire che questo ragazzo è stato indotto in qualche modo a rovinarsi con i suoi vizi, con la sua vita sregolata. Il fatto che se ne sia andato il naturale successore, naturale erede delle pretese al trono imperiale che non c'è più, sembra fornire al principe Luigi un motivo per cambiare posizione. Luigi mette da parte da allora gli entusiasmi rivoluzionari, anche perché negli anni 30 sembrava proprio che questi entusiasmi non andassero a nessun buon fine. D'altra parte c'è stata una rivoluzione nel suo paese, la Francia, ne riparleremo e cambia atteggiamento. Non bisogna dimenticare che mentre il giovane principe Bonaparte si balocca con Ciro Menotti, con i rivoluzionari repubblicani della Romagna, con la sua amata Italia, del resto in fondo era pur sempre nipote di un corso e i corsi sono stati a lungo cittadini della Repubblica di Genova, come era il padre di Napoleone, prima di diventare appunto, se non francesi, comunque legati strettamente alla Francia. Quindi mentre lui è in Italia e si balocca con i suoi rivoluzionari, anche se lo faceva forse sul serio, ma fino a un certo punto nel 1830 succede qualche cosa di fondamentale. Le gloriose giornate del luglio, la cacciata del re di Carlo X, il re Borbone, il re azionario che ha reimposto una linea rigorosamente legittimista alla Francia e che ha fatto rimpiangere il giacobinismo addirittura. Ma il giacobinismo, i francesi ormai, quando pensano al giacobinismo, i francesi del 30 non pensano a quello della rivoluzione francese, pensano a quella sorta di strano giacobinismo imperiale che Napoleone, reduce dall'esilio all'Elba, aveva cercato di imporre durante la brevissima stagione dei cento giorni. Quindi è un Napoleone tinto di rosso, in un certo senso, quello che si rimpiange sulle barricate del luglio del 1830. Se ne va il re azionario Carlo X, ci si rivolge al ramo della famiglia di Borbone, che tradizionalmente era il ramo liberale, si va a ripescare proprio il figlio di Filippo Egalité, il principe Filippo d'Orlean, Luigi Filippo. Eccoci di nuovo ai Luigi, ma si parla di Borboni e quindi il nome Luigi fra loro è più legittimo. Luigi Filippo inaugurerà una monarchia liberale, patriottica, affarista, però con personaggi di spicco, con personaggi notevoli, un grande storico come il Chiltir, un politico a tutto tondo come Ghisò. inaugurerà, dicevo, un regno che durerà non poco, 18 anni, si potrebbe quasi fare dell'ironia, anche l'impero di Napoleone III durerà 18 anni. I 18 anni di Luigi Filippo e della sua monarchia di luglio, della sua monarchia liberale, sono quelli che vanno dal 1830 al 1848. Sono proprio compresi come una parentesi fra due grandi momenti rivoluzionari. Luigi Bonaparte sente che il suo avversario, il nemico da battere, l'uomo al quale bisognerà contendere anche la popolarità, è proprio questo suo omonimo borbone, Luigi Filippo. Da allora, tra i due Luigi, si aprirà una sorta di duello a distanza. Come si fa il duello a distanza quando si è esuli? Anche se si vive in un esilio dorato e non ci mancano i mezzi, mentre l'avversario siede invece su un trono. Napoleone sceglie la strada del pensiero, ama scrivere, ama riflettere. Si ritiene un politico, si ritiene anche un filosofo della politica, se si vuole. Espone i suoi progetti in una serie, in una lunga serie di pubblicazioni che sostengono soprattutto alcune cose. L'idea di nazione, per esempio. Luigi Bonaparte riprende dalla miglior tradizione romantica quest'idea di nazione come idea eminentemente politica. La nazione come frutto della volontà e di una volontà popolare, di una volontà, se si vuole, delle masse. E in effetti il principe Luigi si occupa anche di masse. Si occupa dei problemi della società di massa del suo tempo. Le città si ampliano, il sistema industriale sta arrivando ormai a risultati mai visti prima. Le città e le periferie diventano luoghi scomodi, luoghi pericolosi, luoghi malsani, ma sono il centro produttivo pulsante. Almeno dei grandi paesi che hanno già affrontato, viso aperto, il problema della rivoluzione industriale. E la Francia fra esse. Napoleone per il momento scrive. scrive un primo buffo puscolo nel 1833 intitolato Fantasticherie Politiche. Avrebbe potuto parlare di storia alternativa, di quella che noi chiamiamo lucronia. Perché in fondo il suo modo paradossale di parlare di politica consiste nel figurare degli scenari del tutto nuovi e improbabili. Sei anni dopo, nel 1939, fa pubblicare invece un suo scritto molto più importante e impegnativo. Intitolato, sintomaticamente diremmo noi, delle idee napoleoniche. Che cosa pensava il suo grande avo? Come vedeva la vita popolare? Come vedeva la democrazia, il governo, il rapporto tra la volontà di tutti, la volontà generale e la volontà dei capi? Ebbene, questo scritto del 1839, le idee napoleoniche, è una sorta di manifesto di quello che potremmo chiamare un bonapartismo popolare, aperto alle masse operaie e contadine. Sì, però, diciamocelo chiaro, questo intellettuale, questo agitatore da tavolino, scrive un po' troppo. Pensa forse che le rivoluzioni si fanno con la penna. Non lasciamoci troppo guidare da questo cliché. Ora, una delle tante idee un po' ridicolizzanti che abbiamo su Napoleone III è che fosse un grafomane. Beh, in realtà, tutto sommato, a giudicare, per esempio, dal suo più tardivo libro su Giulio Cesare, un libro che è certamente encomiastico e che nasconde senza dubbio la volontà di far propaganda per l'idea di impero e per l'impero popolare, però nello stesso tempo è tutt'altro che una biografia poco importante di Giulio Cesare. Anzi, lo conosciamo in fondo come uno dei libri più lucidi di tutto l'Ottocento sulla storia del grande condottiero romano. E infatti, Luigi Napoleone, in realtà, scrive perché per lui lo scrivere è un sostituto dell'agire, ma nello stesso tempo è anche una preparazione all'agire. Luigi sente che sta arrivando in qualche modo il suo momento. Verso il 36 comincia a passare ai fatti. Ne ha viste abbastanza del regime neoborbonico di Luigi Filippo. Non ha dubbi che questo regime sia un stanco, sia una sorta di regime di ripiego, in fondo. Luigi Filippo non ha lo slancio del vero restauratore, non è uomo particolarmente geniale politicamente, con l'andare del tempo si è fatto anche molto sospettoso. Il sospetto chiama azione rivoluzionaria, o se preferite il contrario, è l'azione rivoluzionaria che richiama il sospetto. Ma certo, Luigi Filippo non è più troppo disposto a sopportare la minaccia di quello che è obiettivamente un candidato al trono francese. Si fanno due tentativi di rovesciare il re Borbone di Francia, il re Borbone e liberale di Francia. L'uno a Strasburgo, il 30 ottobre del 1836, e l'altro a Bologna, il 6 aprile del 1840. Il principe Luigi finalmente fa capolino di nuovo in Francia. in maniera indiretta, morganatica, tutto quello che volete. C'è veramente del nuovo. Ha molto riflettuto il principe Luigi durante i suoi anni di esilio, che sono stati un esilio pieno. L'uomo è in una sorta di gabbia dorata, o meglio, è fuori dalla gabbia, perché è fuori del suo paese, nel quale non avrebbe potuto operare adeguatamente, ma nello stesso tempo è tenuto abbastanza a bada, anche dal punto di vista economico e finanziario. I suoi conti sono, come diremmo oggi, più o meno congelati. Certo, ha molti amici, ha molti referenti. Studia accuratamente. Fra l'altro qui direi che un nostro grande studioso attuale, uno studioso italiano, Luciano Canfora, che ha studiato soprattutto Luigi Napoleone, interessato all'antichità e in particolar modo, ovviamente, alla figura di Giulio Cesare, ebbene, dicevo, Luciano Canfora ha fatto notare come siamo davanti a uno studioso e a un intellettuale tutt'altro che improvvisato, tutt'altro che dilettante. E d'altra parte è un uomo d'azione. Anche questo va detto. Ha, pur del suo grande zio, qualche cosa, la nostalgia del campo di battaglia, la polvere da sparo, il seder sui tamburi, come diceva l'imperatore Napoleone I. E Luigi Napoleone sottolinea questa atmosfera vile, questa atmosfera ingannevole e snervante al tempo stesso, sono parole sue, attenzione, che sempre trascina con sé gli esiliati. Ecco, Napoleone, Luigi Napoleone, è un grande interprete di questa atmosfera corruttrice dell'esilio. È qualcosa che in fondo ci ricorda le riflessioni di Levi nel Cristo si è fermato a Eboli, l'esilio corrompe, l'esilio snerva. Bisogna uscirne. E Luigi ne esce. Buonasera, seguiamo ancora il nostro principe Luigi Bonaparte nella sua giovinezza abbastanza avventurosa, abbastanza tempestosa, alla ricerca di un modo, di una cifra per riprendere il messaggio, per raccogliere il testimone del suo rapporto con il suo grande zio, con l'imperatore Napoleone I. A Boulogne, il 6 aprile del 1840, Luigi ha tentato una sorta di colpo, di colpo di mano, se non proprio di colpo di Stato. Ci aveva già provato, nell'ottobre del 36, a Strasburgo. Ma Strasburgo era forse un pochino poco francese, e di fatto lui aveva scelto proprio quella Boulogne, grande città, grande nodo industriale, manifatturiero, che, egli pensava, sarebbe stata più sensibile al verbo rivoluzionario, anche se portato avanti dal membro della casa imperiale, nonostante tutto ancora più illustre e più nota in Europa. Invece niente, nuovo insuccesso, addirittura cattura e detenzione perpetua nella fortezza di Ham. Beh, le detenzioni perpetue, sapete, non durano di solito a lungo. In effetti, Luigi Bonaparte entra nella prigione nel 1840, con la prospettiva di non uscirne più, e invece ne esce sei anni dopo, nel 1846. Facciamo, per meglio capire cosa sta succedendo, anche, intendiamoci, che cosa gli sta succedendo dentro. Facciamo un piccolo passo indietro. Arriviamo alla rivoluzione di Boulogne e, ancora prima, chiediamoci che cosa facesse prima di affrontare questo quadriennio aperto con il colpo di mano del 1836, perché c'è da chiedersi che cosa stia succedendo. Sta succedendo una cosa importante e non è un caso se Luigi Bonaparte insiste proprio in questo periodo della fine degli anni 30 a voler ripresentarsi sulla scena politica internazionale. La Francia è stanca, è stanca e delusa dei suoi re, del suo re Borbone, sia pure un Borbone moderato e liberale, come si era stancata del suo Borbone reazionario. La Francia vuole qualcosa. Vittorio Gola ha detto splendidamente che cosa vuole la Francia. La Francia rivuole il suo imperatore. Napoleone è morto, ma nel 1840 le sue ceneri rientrano nel suo paese e vengono accolte splendidamente, trionfalmente, come sappiamo tutti, sotto la volta della cupola degli invalidi, del monastero, museo, in parte addirittura, se si vuole, colonia per anziani, che era il monastero degli invalidi a Parigi. Luigi ha approfittato proprio di questo momento, di quest'anno, di questo 1840, per attaccare Bologna, per cominciare a diffondere a Bologna il suo nuovo credo rivoluzionario. Ebbene, le cose gli vanno male. Napoleone torna e torna con tutti gli onori a Parigi e sappiamo di questo straordinario tributo di folla, l'ultimo trionfo dell'imperatore, ma il nipote viene pizzicato dopo il colpo di mano di Bologna e spedito nella fortezza di Ham. detenzione perpetua, ma ne fa solo sei anni. Beh, si fa presto a dire solo sei anni, sei anni naturalmente possono essere un'eternità. In questi sei anni cerca di riorganizzare il suo partito. Pensa oscuramente che in fondo quella detenzione non sarà perpetua. Riorganizza il partito buonapartista. Non gli viene poi troppo bene tutto sommato, ma qualche cosa. qualche amico, qualche seguace lo mette insieme. Uno, per esempio, fedelissimo, il persegnì, personaggio che avrà un qualche ruolo per lui di buona parte, scappa dalla fortezza di Ham, fugge, evade nel 1846. Si direbbe giusto in tempo. Le circostanze dell'evasione restano poco chiare, anche se su questa evasione è stato scritto moltissimo. Certo che il transfuga Luigi Napoleone esula in Inghilterra nel 1846 ha motivi precisi per chiedersi chi veramente egli sia diventato. Arriva il momento del mutamento, un nuovo mutamento. Arriva il 48. Arriva l'anno dei portenti. Come si atteggia il giovane Luigi? ma è non più giovanissimo fra l'altro rispetto a questo momento. Rientra in gioco. Rientra in gioco già con la rivoluzione di febbraio, quindi con Lamartine, con Blanc. Si occupa dei problemi relativi al diritto al lavoro, guarda con interesse all'esperimento degli atelier nazionno, cioè delle fabbriche di Stato. viene eletto deputato all'assemblea costituente nelle elezioni suppletive del giugno. Non è da poco quello che sta succedendo. C'è stata una prima rivoluzione nel febbraio. Questa prima rivoluzione ha molto preoccupato quella stessa borghesia che 18 anni prima aveva difeso, aveva anzi portato al trono Luigi Filippo d'Orlean, il re di luglio, e che poi però se ne era dichiarato in un modo o nell'altro insoddisfatta. Viene la seconda rivoluzione a giugno la Repubblica Francese a questo punto assume chiari connotati conservatori e liberali. Luigi Napoleone si candida. Per la verità c'è una legge c'è una legge addirittura del 1832 quindi una delle prime leggi elaborate dal regno di Luigi Filippo che gli impedirebbe di fare questo passo ma egli lo fa comunque e eccolo deputato. Abbiamo la grande azione politica all'interno della Repubblica che nasce nel 1848 dalla cacciata di Luigi Filippo abbiamo l'azione politica importante interessante di L'Erdruy-Rollin e l'Assemblea Generale Costituente Luigi Napoleone si candida siede nell'Assemblea Generale Costituente e a questo punto può cominciare a ricostituire il suo partito buonapartista perché ci sono vari modi di essere buonapartisti Luigi sceglie un modo che privilegia le questioni sociali per un verso la costruzione della nazionalità per un altro è vero che alla vigilia della rivoluzione di giugno aveva giocato con audacia forse non troppo con con correttezza si era dimesso il 15 giugno proprio alla vigilia del grande ribaltone in questo modo si era tenuto al di sopra della della mischia non si era fatto compromettere nell'insurrezione popolare del 21 giugno ma non si era fatto coinvolgere nemmeno dalla repressione durissima disumana delle truppe guidate dal generale Cavegnac questo naturalmente attira verso la sua personalità grandi simpatie popolari Luigi Bonaparte non è un forcaiolo non è un reazionario non è uno che spara sugli operai non è uno che spara sul popolo di Parigi e a questo punto la leggenda napoleonica che già circolava negli ambienti dei centri subalterni soprattutto della capitale un Napoleone repubblicano un Napoleone quasi terrorista oppure se si preferisce il Napoleone sociale dei cento giorni sì è chiaro lo sappiamo tutti il Napoleone nei cento giorni è il Napoleone della costituzione di Benjamin Costant è un Napoleone liberale ma è anche un Napoleone fortemente oseremmo dire demagogicamente teso verso i ceti subalterni è questa la strada di Luigi Bonaparte non lo sappiamo certo nel settembre del 48 viene rieletto autorizzato definitivamente a risiedere in Francia nell'ottobre e a questo punto può farsi veramente il suo partito il 10 dicembre del 1848 grande data si vota per le elezioni presidenziali nella giovanissima nuova repubblica francese una repubblica che non ha nemmeno un anno alle elezioni presidenziali il corpo elettorale è circa di 7 milioni e mezzo i votanti i francesi maschi gli età maggiorenne che votano sono 7 milioni e mezzo ebbene quasi 5 milioni e mezzo una percentuale straordinaria i tre quarti circa vota perché presidente della repubblica per i prossimi quattro anni la presidenza della repubblica va costituzionalmente di quadriennio in quadriennio sia il principe Luigi Bonaparte un principe presidente della repubblica un principe discendente strettamente discendente da Napoleone nipote di Napoleone Napoleone era suo zio ricordiamolo presidente di una nuova repubblica vorrà pur dire qualche cosa il nuovo presidente si trova a doversi costituire una base di consenso che in qualche modo sia nuova Luigi Bonaparte non ignora che i suoi atteggiamenti demagogici il suo pensare al popolo o il suo dire di pensare al popolo gli ha procurato molti malumori e molti sospetti in una borghesia che ormai è passata a destra e guardate questo modo di dire passata a destra non è affatto casuale nel 48 lo hanno dimostrato alcuni storici e politologi contemporanei cito per esempio non so il primo che mi viene in mente Ernesto Galli della Loggia nel 1848 succede un fatto veramente veramente nuovo succede che le borghessie in qualche modo si collegano alla tradizione della destra tradizionale la destra realista la destra monarchica la quale ha sempre avuto una grande perplessità una grande animosità un grande sospetto una grande antipatia per ideali come quelli della nazione ideale di nazione che era nato nella rivoluzione francese come contrapposto all'altare come contrapposto al trono ebbene nel 48 la destra realista e cattolica e la destra moderata e liberale senza mai identificarsi l'uno nell'altro diventano un tutt'uno Napoleone è un po' troppo sospetto di essere un candidato fra virgolette di sinistra deve guadagnarsi la stima e la fiducia di questa nuova destra il presidente Luigi Napoleone Bonaparte il presidente Bonaparte nel 48 si trova a 40 anni presidente della repubblica dispone della burocrazia dispone dell'esercito e però a questo punto si trova davanti un blocco borghese aristocratico di destra che lo sospetta in fondo è buffo dirlo adesso e dirlo in questo modo ma il principe Bonaparte è considerato un uomo di sinistra la gente anche ai bassi livelli della società civile francese lo considera un uomo di sinistra non solo per quello che lui ha detto e fatto durante gli anni della monarchia di Luigi Filippo caratterizzandosi in fondo come un populista sia pure con tutte le virgolette del caso del resto è difficile pronunciare la parola populista senza metterci le virgolette come sapete ma c'è di più il nome Bonaparte evoca ormai non solo la gloria del ritorno delle ceneri dell'Aquila da 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 Sant'Elena e poi il suo seppellimento alle sinvalide ma ricorda qualche cosa di fortemente legato ai cento giorni e al ritorno giacobino di Napoleone Napoleone quando torna dall'isola d'Elba ci torna come restauratore della rivoluzione lo dico paradossalmente per sottolineare quanto sia stato paradossale Napoleone è un Napoleone di sinistra quello dei cento giorni nonostante costituzionalmente non lo fosse affatto ricordiamoci del rapporto con Benjamin e della costituzione liberale ebbene il principe Bonaparte deve tranquillizzare questa nuova destra lo dico un po' scherzosamente ma ricordandomi quello che Galli della Loggia appunto diceva del 48 come luogo in cui la vecchia destra e la nuova destra si ritrovano e la tranquillizza appunto con scelte come la spedizione contro la Repubblica Romana che soddisfa i cattolici come la repressione del moto del vecchio ministro repubblicano il Rue Rollin il quale era amico di Louis Blanc e aveva cercato di organizzare appunto una sommossa repubblicana insomma quest'uomo accusato di essere di sinistra passa in pochi mesi a destra non a caso Benito Mussolini ha sottolineato che in fondo il principe Luigi Bonaparte gli è stato maestro in certi funambolismi politici Buonasera Vittorio Ugo lo abbiamo letto tutti e sappiamo bene come il 48 ha significato in tutta Europa grandi speranze grandi prospettive che si sono chiuse poi oppresse compresse represse il caso di dirla da una macchina reazionaria nel 48 francese dopo il peso che gli operai avevano avuto nella rivoluzione di febbraio e dopo che i costi per il rovesciamento della monarchia di Luigi Filippo erano stati pagati anche in concessioni fatte agli operai per esempio gli atelier nazi o no queste fabbriche che in fondo lasciavano molto a desiderare sul piano della produzione sul piano dei costi ma che si tenevano in piedi per dar lavoro forzosamente ai ceti popolari con il nuovo governo gli atelier sono chiusi sappiamo che il pericolo rosso che si era opposto alla chiusura degli atelier è stato battuto duramente sanguinosamente dal generale Caveniac e sappiamo un'altra cosa sappiamo che il principe Luigi Napoleone in Parlamento si è mantenuto per così dire sotto tono non ha preso le difese coraggiose di quegli operai dei quali spesso parlava e dei quali amava intrattenersi ma non ha preso nemmeno con dignità le parti non dico delle aree più rigorosamente di destra del Parlamento ma anche semplicemente le parti delle forze in presenza che agivano nella repressione la polizia per esempio no Luigi Napoleone resta ambiguo il suo esordio nel 48 è un esordio sotto tono e questo gli permette lo abbiamo già visto di avere una schiacciante maggioranza allorché si presenta nel dicembre del 48 come il nuovo presidente di questa repubblica rifondata di questa repubblica che ha attraversato un momento di pericolo rosso e già si parla di pericolo rosso e del rosso come colore repubblicano ma che poi ha scelto tutt'altra via tutt'altra strada e diversamente non avrebbe potuto accadere Napoleone insomma inaugura la sua carriera alla luce e questo va detto di una forte ambiguità Napoleone insomma che cosa vuol fare a questo punto si trova davanti un'Europa in fermento si trova una Francia profondamente divisa diciamo le cose un po' volgarmente come stanno si rende conto di avere tenuto i piedi in due staffe ne deve abbandonare una per il momento accantona i suoi interessi le sue passioni sociali e operaistiche e decide di appoggiare fortemente la politica dei cattolici per un verso dei proprietari terrieri e dei finanzieri e degli imprenditori per un altro guardate non sono scelte conseguenti non tutti i cattolici erano abbienti anzi il cattolicesimo francese è anche un cattolicesimo aristocratico per un verso ma anche profondamente popolare per un altro e quindi evidentemente trovarsi a doversi confrontare con seguaci che sostengono un leader per motivi religiosi ma che sentono molto lontano da lui sul piano della sensibilità sociale non è molto facile d'altra parte non c'è scelta la maggioranza il potere che conta in Francia è radicatamente tenuto dalle chiese anzi dalla chiesa cattolica dalle chiese nel senso che le chiese cattoliche sono degli straordinari centri di aggregazione l'ottocento francese è un ottocento che nelle città e soprattutto nelle campagne vive in parrocchia e vive parrocchia per parrocchia poi c'è l'esercito e l'esercito si aspetta grandi cose dal nipote di colui che l'aveva portato alle splendide vittorie dell'impero nel primo quindicennio del secolo e poi ci sono le banche il potere finanziario potere finanziario al quale bisogna dire Napoleone guarda sempre con un occhio molto critico e dinamico potere finanziario che in nessun modo nemmeno con l'alibi del risparmio può essere associato a una politica di scarsa circolazione del denaro potere finanziario che significa fondamentalmente investimento Napoleone III Napoleone il piccolo per dirla con la maligna espressione di Vittorio Hugo Napoleone il piccolo dicevo governa scegliendo con precisione con forza una parte facendo con forza una politica ma nello stesso tempo non dimentica mai di ammiccare ai ceti subalterni se non li favorisce con la legge fa sì che essi guardino a lui grazie alla capacità di organizzare spettacoli per un verso spettacoli militari per esempio e lavori pubblici per un altro e poi naturalmente c'è la vita della campagna e anche qui Napoleone dà un contributo particolare alle riforme agrarie dopo il 48 viene il 49 questa è un'osservazione matematica inoppugnabile però se questa osservazione noi la traduciamo nel linguaggio storico e politico dell'ottocento beh allora le cose cambiano se il 48 è stato l'anno dei portenti l'anno delle rivoluzioni il 49 sarà l'anno delle repressioni Luigi Napoleone si trova a partire dal 16 dicembre del 1848 presidente di un paese dove le divisioni sociali sono arrivate a un livello altissimo estremamente pericoloso intanto fuori succedono altre cose una soprattutto la repubblica romana del Mazzini la fuga del papa da Roma una chiesa che sembra entrata in crisi i cattolici francesi non accettano non sopportano questa situazione Napoleone deve a questo punto fare una scelta di campo ma sa che aggredire i rivoluzionari che occupano Roma significa alienarsi per sempre la classe politica se si vuole subalterna ma molto importante francese non c'è scelta se si sceglie la chiesa si abbraccia definitivamente le destre politiche d'origine aristocratica o borghese e capitalista che siano se si sceglie la parte della rivolta si abbraccia la sinistra libertaria e internazionalista potrebbe sembrare un salto nel vuoto Napoleone accetta di giocare il ruolo che la classe dirigente francese gli impone per appoggiarlo decide di sostenere il papa contro la repubblica romana giacobina spedisce a Roma il famosissimo soprattutto fra noi generale Udino e questo fatto da solo significa che Napoleone principe Luigi Buonaparte è colui che ha soppresso la rivoluzione romana però c'è l'altra faccia della medaglia è colui che ha appunto liberato e sostenuto il papa ebbene non basta l'avere praticamente determinato la fine della repubblica romana con le truppe francesi mandate a sostenere il rientro del papa a Roma nel 1850 il presidente sceglie anche di sostenere la cosiddetta legge Fallu a questo punto bisogna bisogna dire che i ferri all'interno della politica francese sono veramente corti le ruro l'en il protagonista o uno dei protagonisti del 48 francese ha organizzato o si è comunque messo a capo di una vera e propria sommossa repubblicana la repressione della repubblica romana non può essere accettata dai repubblicani francesi il principe buonaparte deve pagare i suoi conti l'opinione pubblica cattolica e conservatrice pretende che all'interno si viva in sicurezza il che evidentemente vuol dire non solo reprimere e duramente le sommosse repubblicane ma anche garantirsi rispetto al risorgere di istanze repubblicane a livello di governo si comincia a delineare un fatto che per noi è assolutamente strano ma che per l'ottocento è scontato l'ottocento è un secolo che in Europa è pieno di teste coronate si comincia a capire che bisogna in qualche modo sostenere la conservazione ma c'è qualcosa di più bisogna creare nel paese una profonda mentalità conservatrice e a questo punto dopo un primo pagamento di conti alle destre del suo paese che era quello della repressione della repubblica romana mandando soldati e della riflessione della sommossa repubblicana di Ledoux Rollin ecco un secondo pagamento di conti la scelta appunto del sostegno alla legge Fallu la legge Fallu quindi la legge Fallu come parte questo l'hanno sottolineato direi concordemente un po' tutti gli storici soprattutto bellissime pagine ha scritto a riguardo quello che oggi è fra gli storici attuali e forse il migliore più grande più noto anche biografo di Napoleone III che è il francese Pierre Milzat non a caso fra l'altro buon biografo anche dello stesso Benito Mussolini il suo libro su Mussolini è un po' un classico della storiografia contemporaneistica in Francia ebbene Milzat e anche altri studiosi cito per esempio René Ramon e sottolineano come in fondo intorno alla legge Fallu ruoti tutto un complesso lavoro che il presidente Luigi Bonaparte imposta proprio nell'anno del suo tournà reazionario l'anno fra il 1850 1851 poi nel 1851 come anticipo una cosa su cui torneremo c'è al dicembre il colpo di Stato lo scioglimento della Camera gli arresti di molti deputati eccetera ma in questo momento in questi mesi di preparazione che poi culminano appunto nella legge Fallu e siamo un po' contemporaneamente ad altre leggi la legge sulla limitazione del diritto di voto eccetera il principe Bonaparte fa un'operazione delicatissima e molto intelligente da un lato scredita il Parlamento lasciando che il Parlamento difenda evidentemente il suffragio universale per esempio e con esso naturalmente la libertà e la democrazia ma nello stesso tempo facendo emergere le contraddizioni di un corpo elettoralmente scelto che riflette in fondo le contraddizioni di un paese in cui veramente bianchi e rossi sono sempre più ai ferri corti non dimentichiamo che l'espressione pericolo rosso che ancora oggi si sente usare magari scherzosamente è un'espressione emersa proprio nella politica francese a partire dal 1830 il rosso è il colore delle bandiere che gli operai in generale portavano in corteo ancora senza una precisa connotazione ideologica come sarà più tardi e durante il 48 nei moti di febbraio e del giugno quest'idea del pericolo rosso era tornata a galla così come d'altra parte nella sinistra si sentiva un pericolo bianco non a caso proprio nel 1850 la folla dei bonapartisti e non dimentichiamo che era che essi erano ormai la maggioranza usannando il loro idolo il principe Luigi Bonaparte grida e diventa proprio uno slogan amore le rouge amore le blanc e siccome si usa il tricolore se nel tricolore francese si grida amore le rouge e amore le blanc quale resta il colore il colore il blu il colore per eccellenza della rivoluzione francese il colore dell'esercito repubblicano che sta per diventare esercito imperiale all'interno di questo che ruolo ha la legge Fallot il ruolo del disvelamento della natura di destra non a caso René Raymond ha parlato di una legge liberale nel suo principio ma reazionaria nel suo ambiente nel suo contesto la legge che favorisce l'iniziativa privata nell'insegnamento e quindi che in realtà consegna l'insegnamento primario e secondario almeno il primario e secondario francese nelle mani della chiesa buonasera la legge Fallot è una legge sull'inquagramento dell'insegnamento ed è una legge allo stesso tempo sulla libertà di espressione religiosa nella pratica però si tratta di una legge monopolistica secondo la legge Fallot in tutto il territorio della repubblica la chiesa la chiesa cattolica avrà il monopolio dell'istruzione sia primaria sia secondaria e qui veramente il dibattito che si accende nel Parlamento francese è un dibattito approfondito anche divertente perché in realtà si ha proprio l'impressione che nonostante la qualità e il numero degli interventi vi sia fra la destra e la sinistra che si scontrano nel Parlamento della Repubblica francese una specie di dialogo fra sordi perché da un lato le destre minimizzano si sceglie la chiesa per l'istruzione primaria e secondaria proprio perché la chiesa dà della vita delle cose che ci circondano una visione pacificatoria semplice magari semplicistica si faranno pregare i bambini e i giovanissimi si insegneranno loro degli elementi di morale è quello che serve per ricostruire una compagine politica duramente provata dalle successive rivoluzioni e rivolgimenti già rispondono le sinistre ma in realtà noi sappiamo bene che come diceva il fondatore della compagnia di Gesù Sant'Ignazio di Loyola di un bambino si deve prendere o meglio di un uomo si deve prendere l'infanzia e poi si può lasciare tutto il resto perché l'uomo allevato fino da bambino in una eredità religiosa forte non lo abbandonerà mai la legge Fallu passa naturalmente l'opposizione se la lega al dito e infatti Napoleone non riesce a far passare all'assemblea legislativa una legge apparentemente quasi innocente una piccola modifica costituzionale che però avrebbe dovuto permettere la sua rielezione a presidente alla scadenza del 1852 in pratica le sinistre del suo paese gli hanno detto l'hai avuto vinta con la Repubblica Romana l'hai avuta non meno vinta con l'istruzione in mano ai cattolici ma non sarai nuovamente rieletto e qui scopriamo la natura vogliamo dire napoleonica di Napoleone non è un gioco di parole vogliamo dire che il principe Luigi Napoleone non ci sta a essere messo così nell'angolo e vedremo che cosa combinerà la reazione del presidente è una reazione tipica la conosciamo bene è quella del politico che sconfitto alle elezioni se è nella misura in cui può farlo e Napoleone può farlo decide di prendersi con la forza quello che il consenso non gli ha attribuito colpo di stato eseguito cinicamente duramente rapidamente nella notte fra il primo e il 2 dicembre 1851 il partito repubblicano viene sgominato con una repressione durissima arresti e deportazione di massa ma era in fondo l'unico che aveva tentato una qualche opposizione forte di questo risultato il principe presidente come molto spesso lo si chiamava si rende conto che non si può più tornare indietro se con questa brutalità ha agito ottenendo un primo risultato deve continuare ad agire con la medesima brutalità con la medesima energia contro chiunque voglia in qualche modo opporsi al suo operato ebbene cosa accade accade che il presidente indice un plebiscito è paradossale se vogliamo Napoleone è uscito perdente da una competizione elettorale che egli ha detto chiaramente che se ne deve andare dallo scanno presidenziale ha reagito con un colpo di stato conseguentemente chiede un plebiscito sarebbe come se con una mano avesse distrutto il parlamento e con l'altra chiedesse il sostegno del parlamento stesso per una riforma elettorale o giuridica eppure è quello che lui fa il 21-22 dicembre ottiene la ratifica del suo operato attraverso un plebiscito plebiscito evidentemente che scavalca le regole e i voti del parlamento e sul quale circolano infiniti dubbi il plebiscito serve a far promulgare una nuova costituzione e questo è il punto fondamentale Luigi ha bisogno di tempo non è che abbia bisogno di tempo per imporre le sue scelte politiche in quello lui è stato fulmineo quasi a somiglianza del suo grande zio però ha bisogno di tempo per far sì che il suo potere venga per così dire metabolizzato dai suoi sudditi e ecco allora una serie di passi tutti estremamente convinti e politicamente parlando convincenti sappiamo che non era nuovo a questo tipo di cose in fondo aveva già fatto passare qualche mese prima una legge che limitava il diritto di voto nella pratica tuttavia il colpo di stato del dicembre del 21 22 dicembre del 1851 è particolarmente forte perché viene costruito attorno a quella che è formalmente la più democratica delle scelte un plebiscito plebiscito che si tiene il 21 novembre del 1852 ormai il colpo di stato era avvenuto ormai l'opposizione era decapitata si era fatto arrestare il TIRS si era fatto arrestare lo stesso generale Cavenia quasi come se si volesse dare per così dire un colpo al cerchio e una alla botte una strizzata d'occhio alla sinistra e un ammiccamento alla destra il nuovo plebiscito quello del 21 novembre del 1852 sancisce che la repubblica sarà trasformata in impero è quello che accade il 2 dicembre del 1852 Napoleone in quella data il principe presidente Luigi Napoleone diventa l'imperatore dei francesi con il nome di Napoleone III noterete che il primo nome Luigi e non parliamo del secondo Carlo sono stati fatti entrambi cadere siamo dinanzi alla volontà di presentarsi da parte del nipote come l'erede e il successore diretto dello zio a questo punto dovendo atteggiarsi ad imperatore è evidente che egli deve avere tutte le carte in regola a partire da quella dinastica prova approcci matrimoniali con varie case regnanti europee ripete quindi la politica di Napoleone I di sfondare di entrare nella grande aristocrazia europea non gli va bene e infatti nel 1853 sposa la contessa Eugenia de Montico spagnola che gli avrebbe garantito finalmente quello che da tempo egli si aspettava e si augurava cioè la nascita di un figlio il figlio Eugenio Luigi Napoleone la cerimonia di elezione è particolare Napoleone III non può certo potersi presentare come imperatore non di Francia evidentemente ma imperatore dei francesi il che implica una precisa volontà democratica una volontà popolare ma questo imperatore dei francesi per chi è tale? Per grazia di Dio? Senza dubbio ma si deve recuperare anche l'altro aspetto della politica del tempo e allora si inaugura un'espressione che avrà grande successo da allora in poi fino si può dire alla fine del ventesimo secolo i re sono eletti tali per grazia di Dio e volontà della nazione i due elementi la grazia di Dio e la volontà della nazione sembrano collegare sia una destra che guarda ancora alla tradizione contro-rivoluzionaria a una tradizione desunta dal mondo medievale e infatti il cattolicesimo francese molto poco interessato da dinamiche di tipo protestante a parte qualche particolare situazione nell'arco alpino nello stesso tempo però la volontà nazionale non si può eludere non eludere la volontà nazionale significa fondamentalmente due cose significa far progredire lo stato significa renderlo forte significa anche compiere una politica di carattere sociale ben indirizzata più più dello zio Napoleone primo l'imperatore Napoleone terzo si occupa delle condizioni dei ceti subalterni se ne occupa con forza se ne occupa con convinzione al punto tale che vara in poco tempo tutta una serie di leggi favorevoli ai ceti più bassi del paese quindi abbiamo un personaggio che si qualifica quasi con un doppio volto e lo presenteranno qualche volta in questi termini è un fautore del liberismo più acceso e del paternalismo più chiuso oppure è piuttosto un fautore di un principio di progresso sociale e civile forse la risposta sta tutta nella politica finanziaria dell'imperatore l'imperatore sta favorendo fortemente le borse e i giocatori di borsa per questo necessita anche di forti interventi di grandi lavori pubblici bisogna vederla questa Parigi di Napoleone terzo beh è impossibile non vederla Parigi conosciuta da molti e le opere di Napoleone terzo dalle hall che adesso non ci sono più fino ai grandi boulevard sono noti è nota anche la natura leggermente forcaiola da ordine pubblico dei grandi boulevard che del resto ci piacciono tanto giustamente ci piacciono tanto sono gli anelli che un tempo intorno al centro storico di Parigi che un tempo erano occupati dai bastioni e dietro le bastioni naturalmente c'era un dedalo di piccole viuzze di viuzze proletarie le viuzze dei miserabili di Vittorio Hugo oppure nel ventre di Parigi di Gensu non dimentichiamo che Sui è stato anche parlamentare durante la Repubblica tenuta dal Presidente Bonaparte ed era rappresentante di una repubblicanesimo estremista ebbene tutto questo viene raso al suolo e si fanno quegli splendidi boulevard dove la ricca borghesia e la nuova nobiltà bonapartista possono percorrere durante le loro passeggiate con belle carrozze però sono anche boulevard impossibili da chiudere con le barricate barricate di mobili le barricate di detriti quelle care alla rivoluzione del 48 e sono anche boulevard così agevoli da essere percorsi dalle cariche di cavalleria che dovrebbero disperdere i ribelli rivoltosi quindi siamo davanti a un progetto ben chiaro ebbene un gioiello di questa Parigi di Napoleone III è l'edificio della Borsa e poi c'è anche la Borsa commerciale lì vicino ai margini ovest anzi ai margini sud per l'esattezza delle Hall di tipo una grande costruzione rotonda così come la Borsa ricorda il Partenone sono i due templi si può dire di questo nuovo impero così cattolico ma allo stesso tempo così pagano dove senza dubbio si adora come avrebbe detto il Salvatore nei Vangeli si adora anche Mammona perché dire che si adora Mammona beh perché il secondo impero l'impero di Napoleone III è un impero fortemente segnato dall'uso del danaro e da un uso dirigistico del danaro il principe Luigi Napoleone ancora prima di diventare presidente e imperatore l'aveva detto con chiarezza già in un suo bello appunto lucido appunto del 1839 un governo non è un'ulcera necessaria come alcuni pretendono ma piuttosto è un motore benevolo di tutto l'organismo sociale quindi il governo come promotore dirigistico di una realtà che sarà nonostante tutto e nonostante certe premesse che potrebbero sembrare premesse fra virgolette di sinistra sarà un governo liberale anzi iper liberale difesa della libera iniziativa in tutte le sue estrinsecazioni soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione governativa per le società anonime il cui capitale è inferiore a 20 milioni di franchi la legge del 1863 badate che 20 milioni è una cifra enorme e quindi naturalmente abolizione dei titoli obbligazionari nominali quindi un liberalismo estremo accompagnato però da un attento dirigismo autoritario sono gli ingredienti del buonapartismo che poi per esempio in Italia passerà alla politica fascista buonasera gli estimatori di Napoleone o meglio del principe Luigi Bonaparte Presidente della Repubblica Francese fra 48 e 52 e poi divenuto imperatore Napoleone III imperatore dei francesi per la grazia di Dio e volontà della nazione nel dicembre 1852 in seguito a un plebiscito questa sua politica dicevo è stata variamente interpretata in generale quelli che apprezzano Napoleone III e bisogna dire che a parte gli storici gli studiosi gli addetti ai lavori come si usa dire non è che poi siano molti e questo perché probabilmente la fama di Napoleone I del suo grande zio finisce con l'eclissare un po' questo impero di Napoleone il piccolo come diceva appunto Vittor Hugo che è caratterizzato da affari da interessi da giochi in banca da abilità finanziarie varie e insomma il tutto rispetto alla gloria militare Napoleone I sembra piuttosto in sottotono d'altra parte si tende a sottolineare altresì come Napoleone III fosse strettamente legato alla vita anche immediata del suo tempo e del suo impero molto di più di quanto non lo fosse Napoleone Napoleone I Napoleone III giocava in borsa scriveva dei libri che poi venivano messi in commercio aveva una visibilità fra l'altro molto superiore a quella dello zio anche perché nel frattempo evidentemente erano aumentate le possibilità tecniche di mostrarsi se si pensi soltanto a un dato obiettivo che è sconvolgente lo sviluppo della fotografia quindi a questo punto siamo veramente davanti a un mondo che prendendo naturalmente il tutto con grano salis si può dire che è il nostro Napoleone III spesso sovrano ma anche imprenditore un po' padre padrone del suo popolo attento a governare in un modo trasparente per così dire quindi molto spesso addirittura per plebisciti e cosa c'è di per sé di più democratico di un plebiscito beh forse più democratico di un plebiscito c'è la possibilità di scegliere la materia su cui si va plebiscitariamente a votare e questo è il punto è appunto quello che Napoleone III sistematicamente negava ai francesi in un primo tempo si resta perfino un po' come dire disorientati davanti a questo calidoscopio di mutamenti Napoleone ci aspetteremmo perché ce lo immaginiamo come un sovrano autoritario anzi l'impero di Napoleone III è rappresentato dagli storici oggi anche rispetto a quello dello zio di Napoleone I come prototipo dello stato totalitario moderno lo stato totalitario moderno nasce da esperienze politiche soprattutto da quelle fatte in Francia e dai francesi nella seconda metà dell'ottocento di solito quando si vuol presentare un prototipo di dittatore anche se non è un dittatore dotato di pieni assoluti poteri si pensa immediatamente al generale Boulanger e al cosiddetto Boulangismo ma il generale Boulanger e il Boulangismo sono a loro volta creature di Napoleone III ingegneria democratica democrazia liberale democrazia parlamentare ma continua sperimentazione da questo punto di vista pensiamo semplicemente alla costituzione del gennaio del 1852 quella che è la successiva rispetto alle elezioni e al colpo di stato praticamente del dicembre del 51 nel 51 si fanno arrestare notevoli personaggi politici lo abbiamo già detto Thierry Cavignac questo vuol dire proprio la decapitazione dell'opinione pubblica francese ma immediatamente dopo il presidente si presenta ai suoi cittadini e forte di un carisma che gli viene fondamentalmente bisogna dirlo dall'essere nipote di suo zio nipote di Napoleone primo sostiene che sono i politici che ingarbugliano le cose sono i politici che le rendono difficili questo sarà un leitmotiv durante tutte le campagne elettorali di Napoleone e Napoleone amerà molto il ricorso a campagne elettorali anche se il metodo di queste campagne le rendeva sempre più al risultato obbligato diciamo così nella costituzione del gennaio 1852 noi abbiamo intanto una presidenza decennale quindi è chiaro che siamo avviati all'idea di un presidente a vita ora che cos'è un presidente a vita un presidente a vita è un primo console un presidente a vita è un dittatore nel senso romano del termine è Cesare che è stato voluto dittatore a vita dai romani quindi un esecutivo forte che non è soggetto o troppo soggetto ai mutamenti voluti anche dal gioco elettorale poi naturalmente c'è un sistema bicamerale un senato e un corpo legislativo voi sapete che il senato e il corpo legislativo evidentemente sono fatti sembrano fatti apposta per attutire articolare la discussione sul piano della costruzione di leggi nuove rimandarla rimaneggiarla però alla fine tutto questo il presidente il principe presidente come lo si chiamava abitualmente desidera anche un prebiscito e qui ci disorienta totalmente è autoritario Napoleone III ma quali interessi difende? a prima vista questa sua dittatura prebiscitaria il prebiscito serve proprio per un verso un pochino a gettare fumo negli occhi la frequenza delle delle chiamate alle urne di tipo prebiscitario può dare l'impressione di una sistema aperto forse non anche se non è il caso forse di chiamarlo democratico però in realtà quando si vota per dei prebisciti si vota su fatti molto precisi e circoscritti si vota dicendo sì o no praticamente il prebiscito è quasi un continuo ricorso alla fiducia solo che questa fiducia non viene chiesta al Parlamento ma viene chiesta al popolo e naturalmente il prebiscito viene viene preparato e ai prebisciti vince chi ha l'energia e le strutture necessarie a far prevalere la propria parte politica il che vuol dire quasi sempre evidentemente il il governo del resto Napoleone si serve di questo suo potere in modo straordinariamente dinamico anzitutto un programma grandioso veramente grandioso di edilizia e lavori pubblici non bisogna dimenticare che la Francia dell'ottocento è uscita da una quantità di rovine prima la guerra dei cent'anni poi ancora l'ultima fase in particolare che è stata particolarmente distruttiva poi ancora le guerre di religione che hanno interessato il periodo corrispondente alla fine del cinquecento poi l'iconoclasmo barocco i francesi del grand siècle non amavano i monumenti antichi quando potevano li distruggevano poi il momento di estrema leggerezza nella ricostruzione delle infrastrutture che è il diciottesimo secolo poi la rivoluzione francese di Napoleone e tutto quello che ne è venuto dietro e durante l'ottocento Napoleone terzo rifonda è il caso di dirlo rifonda Parigi e rifonda la Francia il suo sistema di cesarismo democrafico quindi una dittatura basata e confortata continuamente dai plebisciti vuole in realtà eliminare i contrasti sociali la classe operaia francese in fondo ci sta si sente inferiore a qualsiasi possibilità di resistenza in questo senso e del resto l'immissione vorticosa di una finanza francese e non francese a vantaggio dello sviluppo uno sviluppo che evidentemente ha i suoi corrispettivi in termini di guadagni in termini di profitti e questo naturalmente però dà l'idea di un progresso notevole e in questo la nazione segue profondamente il suo imperatore grandioso programma edilizio quindi ferrovie strade canali porti banche quando andate a Parigi ma anche se andate a Lione intendiamoci anche se andate a Marsiglia a Parigi forse si vede meglio tutto è più monumentale tutto è più chiaro guardate fate caso ai grandi edifici di interesse pubblico anche se oggi qualcuno di loro è diventato magari un supermarket vi rendete conto del segno profondissimo che ha lasciato Napoleone III sulla città e sul paese potrebbe quasi prendere un simbolo di tutto questo che è il Louvre le cortine e gli apparati esterni del Louvre sono tutti rigurgitanti di simboli del secondo impero Napoleone non è mai stato una potenza militare egemonica in Europa però data senza dubbio non dal primo ma dal secondo impero lo straordinario credito che la cultura francese la lingua francese la letteratura francese debbono a tutto quanto lo circonda praticamente la Francia diventa col secondo impero e non con quello col grande impero di Napoleone ma col secondo impero impero affarista se gli si sono detti tutti i peggiori episodi però è da allora che la Francia diventa veramente il punta e il diamante dell'Europa in un certo senso il nucleo il nucleo forte il nucleo infrangibile dell'Europa la trasformazione di Parigi comincia subito nel 1852 Napoleone III ne vuol fare una grande capitale perché e si torna lì sa bene che il suo potere non è assolutamente egemonico in Europa se la sua capitale deve diventare importante e quindi giovare alla sua stessa immagine ne dovrà fare una città alla quale si va per essa e che si ammira per quello che essa è questo creerà evidentemente un moto internazionale di ammirazione anche nei confronti dell'efficienza del governo che ha messo insieme una sale meraviglia quindi trasformazione urbanistica profonda si calcola che in 13 anni tra 1852 quando subito comincia il progetto e il 1865 quando il progetto in un certo senso è già terminato ma è buffo che proprio nel 65 cominci la crisi discendente di Napoleone e ci fa pensare che questi 13 anni siano un limite convenzionale invece non è così proprio in questo periodo abbiamo i piani li conosciamo tutti del profetto Haussmann e con i piani del profetto Haussmann Parigi cambia totalmente i suoi connotati abbiamo già parlato della grande vetrina dei boulevard non dimentichiamo che gli edifici che sono in un certo senso i santuari della Parigi del secondo impero in qualche modo sono tutti collegati ai boulevard o sono a poca distanza da essi l'opera per esempio sbocca con la sua abside chiamiamola con un termine che richiama l'architettura religiosa perché in fondo l'opera come la banca andare all'opera come andare in banca nella Parigi di Napoleone nella Francia di Napoleone badate anche nell'Inghilterra coeva nell'Inghilterra dell'impero che comincia a costruirsi proprio in quegli anni è la stessa cosa Napoleone guarda attentamente con invidia anche con un certo senso di inferiorità alla Londra del tempo non a Berlino per Berlino bisognerà aspettare Napoleone non farà tempo tutto sommato ad apprezzare Berlino che sarà un'operazione degli imperatori degli Hohenzollern a far diventare grande ma quello che mi preme sottolineare perché abbiamo già parlato un po' delle due borse la borsa rettangolare che ricorda il Partenone e quella rotonda che ricorda il Pante non sono citazioni casuali siamo davanti a un discorso molto preciso ma quello che mi preme qui brevemente sottolineare è il rapporto tra l'elemento economico l'elemento culturale che fa proprio della Francia un paese per esempio un paese di creditori e di comptier perché la Francia del tempo è una grande esportatrice di capitali capitali che poi tornano sotto forma di rendite sotto forma anche di prestigio nella Francia stessa e la Francia delle esposizioni di Parigi quella del 1855 e quella del 1868 veramente un grande simbolo di prosperità le due esposizioni ma anche ce ne restano a ricordo nel Grand Palais e nel Petit Palais ma anche al tempo stesso il luogo nel quale si elabora una nuova dimensione di cultura buonasera la Parigi di Napoleone III che è in gran parte la Parigi che ancora oggi vediamo certo non c'era la Tour Eiffel però ci sono state due esposizioni internazionali quella del 1855 e quella del 1867 ecco il grande progetto di Napoleone occupa proprio questo spazio Napoleone comincia a lavorare per l'esposizione del 1855 da subito appena diventa imperatore anche da prima in realtà anche da presidente della Repubblica ma da imperatore naturalmente il discorso cambia se vi volete divertire quando girate per i monumenti parigini divertitevi a osservare il gioco delle iniziali vi sono iniziali scolpite in bronzo scolpite in marmo scolpite in pietra in molti modi pensate semplicemente a quelle che sono sull'apparato murario esterno del Louvre che è un tipico decor del secondo impero e vedrete che il monogramma LN incrociato che sta per Luigi Napoleone che rimanda evidentemente al presidente della Repubblica quindi è un segno usato prima del dicembre 52 sia poi sostituito dalla N caratteristica che è la N che passa per essere molto spesso lo si crede lo crede anche qualche addetto ai lavori passa per essere un simbolo caratteristico del suo grande zio Napoleone I mentre in realtà è uno simbolo caratteristico del nipote questa abitudine che se ci pensate bene è molto borghese questa abitudine di siglare tutto con le iniziali del proprio nome intendiamoci si faceva si faceva già dal almeno almeno dal XVII secolo ma l'avevano già in uso i sovrani medievali certo però il concetto di iniziale al posto dell'arme araldica per esempio e indica se non altro che lo spostamento del potere si è trasferito dalla cognome cioè dalla realtà dinastica al nome e questi monogrammi napoleonici invadono veramente la città si è parlato appunto lo abbiamo ricordato anche noi la volta scorsa di 60.000 nuovi edifici ma sono edifici molto spesso grandiosi e poi ci sono i boulevard e ci sono le nuove grandi piazze i boulevard meriterebbero forse un discorso un po' particolare perché il boulevard non è un un viale come tutti gli altri sono di solito boulevard ricavati dallo spianamento quindi dalla distruzione dei baluardi boulevard viene proprio da quella parola lì da baluardus balvardus che significa muro protettivo naturalmente il muro protettivo distrugge ostacola lo sviluppo di una città e allora lo si abbatte questo è successo un po' in tutte le nostre città dell'occidente nello stesso tempo però il muro così abbattuto lascia una specie di grande anello di area disponibile a farci una grande strada magari un viale alberato si è osservato anche che il prefetto Haussmann è un geniale un geniale architetto ma è anche un poliziotto sui grandi boulevard le cariche di cavalleria sono molto più facili ed è impensabile la barricata alla 1848 e anche questo insomma è un dato su cui vale la pena di pensare le cariche di cavalleria se si fa una grande viale per facilitare le cariche di cavalleria e per impedire le barricate vuol dire che il nostro rapporto con almeno una buona parte delle persone che noi governiamo non è poi così idillico è vero questo? è vero e non è vero storicamente sta di fatto che gli storici della società rimproverano a Napoleone una politica antipopolare e antiproletaria però era nello stesso tempo anche una politica profondamente demagogica ed ecco allora che i provvedimenti atti non a conferire attenzione maggior potere decisionale al popolo cioè alle cese subalterni ma quelli atti a farli vivere meglio beh questi questi provvedimenti abbondano nella Parigi e nella Francia dell'imperatore Napoleone III sono vietati gli assembramenti e sono vietate le associazioni di operai ma nello stesso tempo però si concedono le casse mutue gli alloggi gratuiti o comunque a prezzo facilitato e di buona qualità bisogna dire le biblioteche popolari quindi con un caratteristico leitmotiv che noi ritroviamo anche nei vari movimenti socialisti perché concedere a un operaio una biblioteca evidentemente molti regimi molti sistemi hanno fatto una politica di disincentivazione della cultura popolare questo non accade nei confronti di Napoleone Napoleone si apre a queste nuove realtà l'operaio deve essere più colto deve vivere meglio deve stare in alloggi più salubri deve avere delle casse mutue sicure a cui poter ricorrere quando i tempi si fanno duri e i tempi si fanno spessissimo duri nel secondo impero perché il secondo impero è in mano agli sfruttatori e ai capitalisti senza scrupoli però la massa dei provvedimenti presi nei confronti degli operai danno un senso di netto progresso e intendiamoci quella che noi chiamiamo libertà non è soltanto la libertà di pensare quello che si vuole ma è anche spesso la libertà di potersi permettere il lusso di agire come si vuole e quindi anche un po' di soldi che cominciano a circolare nelle tasche degli operai anche questo è un segno innovativo ed è un segno importante va anche detto tuttavia che nonostante tutte anche le provvidenze sociali per i lavoratori le casse mutue gli alloggi le biblioteche eccetera non c'è il diritto di sciopero le ore di lavoro sono limitate in alto verso le 12 12 ore di lavoro giornaliere il diritto d'associazione per i lavoratori a sua volta sarà abrogato cioè sarà permesso di poterci associare soltanto nel 1864 l'economia della prima fase dell'impero fino a circa la metà degli anni 60 galoppa galoppa naturalmente a patto di interpretarla nel suo giusto senso si è parlato dell'aumento del 300% del commercio in 12 anni che poi sono i 12 anni centrali del governo napoleonico come è potuto accadere beh noi sappiamo che quello che soprattutto preme all'imperatore è la formazione di un capitale finanziario solido attraverso istituti bancari e istituti di credito vi è poi lo sviluppo della grande industria anche quella sarebbe impensabile senza l'investimento di massicci capitali quanto ai scelti subalterni oltre alla mancanza del diritto di sciopero e alle ore di lavoro che sono 12 le vere forme di previdenza sociale malattia anzianità eccetera queste saranno conosciute soltanto più tardi mentre d'altra parte il tono del francese che vive sotto Napoleone III è un tono decoroso dignitoso quasi ricco in qualche caso molto pochi naturalmente addirittura opulento se si vuole ma fanno fanno contro tendenza certe limitazioni forti chi può esporta i capitali il che vuol dire che il ceto dirigente francese del tempo è un ceto di rentier come dicono saggiamente i nostri amici e convicini francesi o per dirla meglio è un paese di creditori che aspetta che dall'estero gli arrivi di che vivere è una prosperità quindi molto fragile solo apparente può sembrare prosperità solo a una società che ancora pochi anni prima letteralmente moriva di fame inoltre c'è un altro problema e anche questo è naturalmente collegato a questo rapporto un po' complesso di Napoleone III con l'articolata società francese c'è il problema della fame l'agricoltura francese è una buona agricoltura soprattutto specializzata i suoi vini i suoi formaggi ma è anche un'agricoltura che nell'ottocento risente ancora di un'antica tradizione è legata a strutture che soltanto recentemente con l'agricoltura industriale l'agricoltura in serra eccetera si sono modificate basta un'annata cattiva o una serie piccola serie due tre anni di annata cattiva quindi una cosa molto facile ad accadere e il paese cade preda della fame anche l'ottocento conosce le sue carestie è inutile diffondersi in questo conosciamo tutti le vicende storiche terribili di certe zone della Sicilia di certe zone dell'Italia ma anche di certe zone di tutta l'Europa in fondo pensate alle carestie in Svizzera nella prospera Svizzera collegate con la guerra del Sonderbunte ma non solo pensate alle carestie ferocissime dell'Irlanda la guerra delle patate la Francia non fa proprio questa fine ma insomma ci va molto spesso vicino tutto questo fa sì che Napoleone si guardi intorno e si chieda ma nel bacino mediterraneo dov'è che c'è il grano in quantità tale da assicurarci una sopravvivenza serena necessità di grano c'è un granaio per la Francia questo granaio è l'Algeria l'Algeria è stata conquistata nel 1830 nell'ultima fase del governo reazionario di Carlo X allora l'Algeria era l'ultimo grande paese corsaro magrebino barbaresco come diciamo noi del Mediterraneo da Algeri partivano ancora le navi che intercettavano pescherecci piccole imbarcazioni da di porto eccetera il grande poeta René de Chateaubriand nel 1826 in quella camera che era detta l'introvabile perché era un falso parlamento messo su da un regime reazionario però in quel falso parlamento René de Chateaubriand fa un vibrante lancia un vibrante atto d'accusa nei confronti di questi ultimi pirati saraceni del Mediterraneo e sulla base di quello quattro anni dopo si avrà una delle prime avventure coloniali moderne che naturalmente viene presentata al contrario come una recente crociata Chateaubriand aveva esagerato forse in toni epici e crociati certo è difficile far l'epica parlando della necessità del grano per un paese però l'insediamento dei coloni francesi è qualcosa che parla da solo non siamo soltanto fermi a questo caso particolare dell'Algeria che il governo di Napoleone III allarga in termini sociali e civili a cui si propone con sempre maggiore slancio il governatore del Senegal Faiderb siamo quindi nell'Africa del nord-ovest allarga le aree senegalesi di spettanza al colonialismo francese fonda Dakar e assiste poi più tardi a tutta una serie di iniziative religiose di cui egli stesso il governatore Faiderb sarà in qualche modo una parte cerimonie e scelte di sapore quasi medievale diventato prestato se si vuole alla diplomazia Faiderb vorrà partire in difesa della religione proteggere la religione e per questo fra 1858 e 1860 organizzerà una sorta di spedizione insieme con l'Inghilterra verso la Cina sempre nel 1860 ci sarà anche uno sbarco a Beirut altro tradizionale luogo di colonia francese fin dal medioevo e poi la creazione dello stesso impero coloniale indocinese seguita nel 57 dalla conquista della Cabilia cioè da una regione particolare dell'Algeria buonasera stiamo parlando ancora di Napoleone III parliamo della sua complessa attività politica economica legata anche alle scelte di politica coloniale la Francia ha un impero coloniale ce l'ha dal XVI secolo ne va fiera il suo impero non è stato distrutto dalla concorrenza dell'impero inglese come invece è accaduto a molti altri imperi a quello spagnolo a quello portoghese ma d'altra parte è sempre più difficile gestire una colonia e difficilissimo è giustificarne il possesso in tempi come quelli di Napoleone piccolo come si userà definirlo c'è un elemento anche se si vuole sovrastrutturale nella difesa delle colonie del colonialismo che è quello della volontà di portare la civiltà è una caratteristica nella quale i francesi onestamente si distaccano da altri popoli si distaccano dai tedeschi dagli inglesi anche dagli italiani ma gli italiani sono più poveri cerchiamo di parlare a un livello di parità o comunque di possibilità di confronto di tipo economico l'Italia del tempo non ce la può fare ma rispetto alla Germania o rispetto all'Inghilterra la Francia è in una situazione particolare i francesi sentono il bisogno forte di una spiegazione se volete di un alibi per la loro tensione coloniale lo scelgono non tanto e non solo nella scoperta della possibilità di esportare la libertà quanto nella scoperta della possibilità di esportare la loro civiltà il loro modo di vivere i loro valori perfino la loro aggregazione nazionale che parte come sappiamo da una base filiale in Francia è ancora oggi molto di moda mostrare una buffa bandessinée come dicono i francesi quindi un fumetto come diciamo noi in cui praticamente si parla del bambino di una colonia francese che viene costretto a parlare di nos en set le goulois dei nostri antenati galli anche quando il bambino in questione ha la pelle nerissima i ricci e tutte le caratteristiche che evidentemente lo segnalano come appartenente a un'altra specie umana non so se questo sia un bene o un male piuttosto una curiosità ma è importante perché la Francia dovunque va lascia un segno profondo anche nei suoi governati nei subalterni e questo credo sia effettivamente una cosa di cui tener conto negli anni 50 si era andati in Algeria ma anche in Senegal perfino in Cina per proteggere la religione si era conquistata anche la cabiglia nel 1857 la parte più riposta più segreta dell'Algeria e infine fra 1859 e 1869 si parte per la grande impresa che qualificherà il profondo nesso esistente tra buona fede e parola cristiana da un lato sviluppo economico conflitto o rapporto di civiltà insomma quest'Europa e quest'Asia sono nonostante tutto ancora troppo remote fra loro è necessario fare qualcosa l'imperatrice Eugenia de Montico si agita molto al riguardo e alla fine si lancia una grande idea grande idea che dovrebbe essere poi uno dei sostegni della stessa esposizione internazionale del 1867 che si attende con grande ansia questa grande idea è la creazione di un canale che metta in comunicazione diretta il mare mediterraneo col mar rosso e quindi con l'oceano indiano quindi in comunicazione l'Europa con l'Asia più profonda l'Asia orientale perché la circonnavigazione ormai fa sì che si possa impiegare relativamente poco tempo a circonnavigare tutte le terre del globo per non parlare poi della grande massa di conoscenza che ciò comporta naturalmente non è una scelta da suffragette per così dire non è una scelta di beneficenza Napoleone assume la presidenza della grande società che dovrà costruire il canale di Suez società progettata da Ferdinand dell'Essè e con ciò stesso non può non dichiarare che anche questo grande fattore di progresso è la prova della tensione al tempo stesso umanitaria e tesa invece verso la volontà di potenza del suo paese lasciamo che il canale di Suez faccia il suo corso ci metterà del tempo prima di essere di essere scavato però bisogna anche osservare che il canale di Suez prende per intero tutto il secondo decennio del governo di Napoleone stesso tra il 1859 e il 1869 intanto molti altri fatti sono accaduti il canale di Suez che il Napoleone III avvia d'accordo con la potenza britannica e altrimenti non potrebbe essere l'Egitto del governatore formalmente ottomano dell'Egitto stesso ma di pratica un sovrano assolutamente illuminato e indipendente che è il che divè quest'Egitto è praticamente almeno economicamente ma non solo nelle mani dell'Inghilterra è l'Inghilterra la grande interlocutrice di tutti i viaggiatori per terra e per mare cosa possiamo fare impedire che ciò accada evidentemente no associarsene è difficile Napoleone tenta queste varie strade la via d'acqua del canale Suez pur essendo stata pagata da una grande potenza sarà in un modo o nell'altro a servizio di tutti la via d'acqua del canale Suez è la missione civilizzatrice della Francia ed è anche un capitolo della politica estera Napoleone III sulla politica estera bisogna fermarsi un attimo perché vi sono degli elementi davvero originali davvero davvero divertenti se così si può definirli intanto rovesciando una tendenza ormai secolare Napoleone III dichiara più volte in maniera non equivoca la sua simpatia e la sua amicizia per l'Inghilterra d'altra parte sappiamo che fra economia inglese ed economia francese c'è in fondo una vecchia tradizione caratterizzata da collegamenti da accordi da alleanze e l'unica persona che potrebbe mutare queste cose in fondo è Napoleone III stesso l'Inghilterra è sempre come sappiamo molto guardinga quasi estragnata quando si tratta di parlare dell'equilibrio della grande continente di cui pure l'Inghilterra stessa dovrebbe essere parte gli inglesi si ritengono degli europei e senza dubbio europei tali ma degli europei un po' a parte per contro Napoleone ha bisogno dell'appoggio inglese e questo appoggio inglese costituisce un rovesciamento rispetto alla politica dello zio che era come tutti sanno fiero avversario dell'Inghilterra ma questo non basta la Francia è figlia della rivoluzione la Francia è figlia della libertà di pensiero la Francia non può gestire una situazione geo-economica geografica o geopolitica senza un corrispettivo nei confronti di altri paesi e vediamo quali l'amicizia con l'Inghilterra per Napoleone III ha un ruolo speciale certo si tratta i due paesi liberali contrapposti ad altri paesi dall'Austria a Germania alla Russia soprattutto che liberali evidentemente non sono mentre in Francia in Spagna la confusione continua a essere tanta e tale le guerre civili anche da impedire un quadro serenamente tracciato ma essere amici per gli inglesi per un francese di metà ottocento significa avere metabolizzato in tutte e un parte il capitolo napoleonico della storia patria oppure ed è il nostro caso averlo perfettamente presente ma il sapere che adesso è impossibile e al limite sarebbe anche ingiusto corrispondere con altrettanta forza con altrettanta violenza ma da qui se si vuole nasce una sorta di schizofrenia perché da un lato la politica filo inglese è rinunziabile anche perché è collegata alla grande tradizione di finanza e direi quasi di tecnologia del danaro degli inglesi c'è senza dubbio un grande ottimismo in Napoleone III c'è senza dubbio una grande volontà di fare ma non si può perdere di vista il carattere straordinariamente ancora una volta rivoluzionario in questo e anche però al tempo stesso elemento inquietante la modernità ancora una volta volta verso un iter politico che poi porterà anche ad aprire la porta ai totalitarismi Napoleone III è quello che inventa una dimensione della politica estera dalla quale alcuni decenni più tardi nasceranno i totalitarismi o perlomeno quelli di estrema destra il fascismo e poi il nazismo a mezzo che nel caso del fascismo si possa parlare di totalitarismo tu cur perché noi sappiamo che in Francia come altrove nell'ottocento è forte qualche cosa che sarà fortissimo nell'Italia nella Germania all'indomani la prima guerra mondiale la volontà di rivedere i trattati i trattati del 1815 hanno messo la Francia in ginocchio Napoleone vuole rimettere in discussione questi trattati e vuole rimetterli in discussione su due piani vuole prendere una posizione di grande potenza che le permetta di far da arbitro nelle controverse internazionali e vuole al tempo stesso favorire i movimenti nazionali e questo lo farà nei Balcani lo farà in Italia lo farà in Germania è un programma che assomiglia molto alla quadratura del cerchio ma le quadrature del cerchio questo è il punto riescono bene in un certo senso finché si ha il vento in poppa finché le condizioni i contesti in cui politicamente si opera sono favorevoli non basta lo diceva il grande zio di Napoleone III lo diceva l'imperatore Napoleone I l'imperatore per eccellenza non basta essere coraggiosi non basta essere intelligenti non basta essere in buona fede o essere quando quando vale la pena di esserlo essere invece in cattiva fede come qualche volta i politici fanno bisogna anche avere fortuna ecco Napoleone ha sfruttato e qui l'abilità dell'uomo è senza dubbio andata di pari passo con quella cosa misteriosa sfuggente che noi chiamiamo fortuna molti dicono che non esiste chissà però sta di fatto che Napoleone fino all'ora ed è un'ora che io porrei alla metà degli anni 60 verso il 65 ci tornerò un attimo per cercare di precisare addirittura meglio queste date Napoleone ha sfruttato sempre congiunture favorevoli insomma la storia gli ha voluto bene Dio gli ha sorriso cominciano alcuni guai nel corso degli anni 60 nostro vecchio poeta Giosuè Carducci scrivendo una bella poesia una bella ode barbara a proposito della disgraziata spedizione in Messico di Massimiliano d'Asburgo il fratello di Franz Josef di Francesco Giuseppe che col favore di Napoleone III cerca di farci lecca rispetto alla dichiarazione di Monroe del presidente statunitense che è del 1823 che non voleva europei che si impicciassero delle cose americane e cerca di infilarsi nell'America del Sud nell'America latina l'impero asburgico l'impero di Massimiliano è stato in realtà a metà degli anni 60 un colossale tentativo da parte di Napoleone III di mettere la zampa la sua zampa imperiale nel continente americano e sappiamo che gli americani gliel'hanno tagliata duramente ecco Giosuè Carducci sottolineava come ci fosse qualcosa di sinistro in questo impero ebbene forse è così il vento della storia comincia a soffiare contro Napoleone III da quella scelta la spedizione messicana non va bene e nello stesso tempo sorge l'astro del principe di Bismarck e della nuova Germania rispetto alla quale naturalmente Napoleone III appoggerà immediatamente l'Austria e anche in quel caso le cose non vanno bene questi due elementi ci sono spia che qualche cosa sta cambiando nel rapporto fra Napoleone III la storia e la fortuna buonasera siamo forse arrivati al cuore dell'azione di governo e del ruolo internazionale di Napoleone III il luogo nel quale l'imperatore vuole veramente porsi come emulo e comunque senza dubbio come successore del suo grande zio certo la differenza se si deve parlare di schieramenti e non ha molto senso si sa bene che in politica gli avversari di oggi possono essere gli amici domani e viceversa comunque questa differenza c'è e va segnalata Napoleone I non lo si spiega senza un continuo riferimento a questo suo feroce odio per l'Inghilterra non per l'Inghilterra come paese o come popolo ma per il ruolo politico dell'Inghilterra nel mondo il giovane Bonaparte che nel 1798 sbarca ad Alessandria ad Egitto è già uno che vuole colpire al cuore l'impero inglese in seguito il blocco continentale tutto il resto e del resto poi era diciamo che se c'era odio odio politico naturalmente era un odio ricambiato pensiamo a Waterloo evidentemente Napoleone III si costruisce costruisce la sua politica internazionale sull'asse tra i due grandi paesi liberali Inghilterra e Francia sappiamo che è un asse che ha funzionato oltre due secoli ha continuato a funzionare durante la prima in una certa misura anche durante la seconda guerra mondiale forse è entrata in crisi soltanto negli anni 50 con il governo del generale de Gaulle d'altra parte però c'è un altro ruolo che Napoleone vuole espletare anzi due quello di grande protettore di protettore nobile delle cause nazionali e quello di grande organizzatore di potenze coloniali fra le cause nazionali poi ce n'è una che gli dà particolarmente pensiero e gli ama particolarmente l'ha sempre amata l'Italia ha buoni rapporti con il governo piemontese che diventerà nel 59 il governo italiano come sappiamo d'altra parte però in Italia c'è il Papa e il Papa è un capo di Stato e il suo Stato per come è collocato sulla terra basta avere una carta geografica per rendersene conto è l'ostacolo all'unità nazionale italiana e allora cosa può scegliere Napoleone III della sua indole e della sua necessità politica continuerà a essere l'amico e il protettore dei cattolici cattolico egli stesso ma allora dovrà conculcare le aspirazioni italiane oppure accetterà di appoggiare le aspirazioni italiane ma allora dovrà abbandonare al suo destino lo Stato Pontificio è una grossa scommessa dicendo queste cose però abbiamo forse un pochino percorso un po' troppa strada forse è bene tornare alla metà degli anni 50 esaminare un problema che poi ci porterà di filato ai grandi anni della politica di Napoleone che ci è cara o che comunque ci riguarda più da vicino come italiani cioè la seconda guerra e indipendenza o quella che noi chiamiamo così poi vedremo come più propriamente la si dovrebbe definire alludo cioè a quella caratteristica situazione che si crea a metà degli anni 50 e che dipende almeno dal punto di vista di Napoleone dal fatto che l'imperatore vuole atteggiarsi ad arbitro delle cose coloniali e nello stesso tempo vuole mantenere l'amicizia con l'Inghilterra ma anche difendere il diritto delle nazioni minori o delle nazioni meno forti a vivere secondo le loro tradizioni a esercitare la loro vita vignitosamente quindi in questo c'è tutta una tradizione per esempio di revisione dei trattati del 1815 che penalizzavano non solo la Francia rivoluzionaria ma che penalizzavano un po' tutta l'Europa a vantaggio delle potenze vincitrici della Santa Alleanza e allora abbiamo un episodio che risale proprio all'esatta metà degli anni 50 dell'Ottocento 1854 1856 è la celebre guerra di Crimea la Crimea è un promontorio attualmente in zona ucraina il sud dell'Ucraina quindi il nord del Mar Nero è un promontorio soleggiato ricco solcato dai grandi fiumi delimitato dai grandi fiumi russi e in questa area si svolge un braccio di ferro tra Russia e Turchia i turchi naturalmente cercano di evitare ai russi di prendere troppo piede sul Mar Nero perché questo porterebbe prima o poi i russi a impadronirsi del Bosforo e dei Dardanelli quindi degli stretti e a sboccare nel Mediterraneo nessun paese ha interesse a che i russi arrivino a tanto nessun paese mediterraneo lo stesso paese europeo che in senso assoluto è più amico dello Tsar che è l'Austria non fa certo salti di gioia davanti all'idea che lo Tsar si possa insediare stabilmente nel Mar Nero e da lì naturalmente cercare di entrare con i suoi interessi con le sue navi con i suoi progetti nel Mediterraneo e allora cosa succede? guerra guerra fra Russia e Turchia ma naturalmente per avere le guerre bisogna per fare guerra bisogna avere un pretesto e il pretesto arriva niente di meno dalla Terra Santa il problema fondamentale delle aspirazioni russe all'ingresso nei mari caldi tocca la politica del grande padrone dei mari dell'Ottocento che del resto è rimasto tale cioè padrone dei mari fino alla metà del Novecento che è l'Inghilterra e tocca anche la Francia bisognerebbe fare un grosso passo indietro proprio un salto all'indietro e ricordarsi di quello che era accaduto nel 1805 nel giorno stesso in cui Napoleone primo vinceva gli austro-russi ad Ulm sul Danubio nell'ottobre del 1805 l'ammiraglio Nelson e anche l'ammiraglio Collingwood che non si ricorda mai vincevano invece la flotta francese a Trafalgar quindi molto vicino siamo ancora nell'Atlantico il propontorio di Trafalgar presso Cadice ma nello stesso tempo siamo già all'ingresso quasi del Mediterraneo da allora la marina inglese ha spadroneggiato sul Mediterraneo e come hanno detto spesso gli inglesi l'Inghilterra è diventata una potenza mediterranea ecco a quel punto anche la Francia ha desiderio di riprendere il suo ruolo marinaro e allora le due potenze l'inglese e la francese sono concorrenti nel Mediterraneo ma hanno un interesse comune i russi il terzo incomodo non debbono fare entrare le loro vele e ormai le loro vaporiere all'interno del mare caldo naturalmente ogni guerra ha bisogno di un caso sbelli nel nostro caso il caso sbelli però non viene proprio dal Mediterraneo viene da Gerusalemme da Beflemme dalla terra santa vedremo come la terra santa la palestina quella che oggi è grosso modo corrispondente al territorio dello stato israele è nel secolo diciannovesimo governata dal sultano di Istanbul dal sultano turco ottomano l'impero ottomano che è stato una grande realtà fra 4 e 700 ormai in crisi e non è più in grado di assicurare quell'equilibrio necessario in terra santa tra diverse comunità cristiane la terra santa naturalmente i turchi la tengono in quanto sono musulmani però molti abitanti della terra santa a parte i pellegrini sono cristiani delle più varie componenti e non è che vadano troppo d'accordo fra loro fino dal 500 alcuni paesi il sacro romano impero quindi la Austria Germania oppure la Francia oppure la Repubblica di Venezia hanno pretesso in più momenti e in varie circostanze di ergersi a protettori dei diritti dei cattolici in terra santa dall'altra parte c'è lo zar di Russia che svolge accuratamente il suo ruolo di protettore delle comunità ortodosse contro le aggressioni cattoliche questa tensione porta alla fine allo scatenare di un conflitto in Crimea intorno ad alcune aree che sia incerti debbano andare debbano essere amministrate dai turchi o dai russi e naturalmente a quel punto le potenze liberali non senza qualche scandalo per gli intellettuali europei le potenze liberali decidono di appoggiare il sultano pur di combattere lo zar di Russia ed ecco che insieme ai turchi contro i russi e testimone di tutto questo da parte russa è un personaggio d'eccezione il conte tostoi che in quel momento stava facendo il suo servizio militare dall'altra parte abbiamo schierati insieme ai turchi soldati inglesi francesi e naturalmente anche italiani il corpo di specialisti i cosiddetti bersaglieri una fanteria leggera come sapete eccetera fanno la loro apparizione proprio in Crimea fra 1854 e 1856 fanno anche vari sconti a fuoco si comportano anche in modo ineguale vengono anche sconfitti vincono eccetera comunque vengono utilizzati alla fine della guerra di Crimea si ha un congresso a Berlino nel 1856 dove si cerca di stabilire dopo l'esito di quella guerra i nuovi confini ma si parla globalmente di tutto il teatro delle operazioni di tutta la terra santa quindi ed ecco che entra in gioco la diplomazia italiana o meglio la diplomazia piemontese che cosa vuole il primo ministro piemontese che fra l'altro due anni dopo il congresso di Parigi nella cittadina di Plombier incontra personalmente l'imperatore dei francesi vuole che in riconoscimento dell'impegno italiano durante la guerra di Crimea si accetti di rivedere la generale situazione italiana l'Italia non si può unire perché troppi all'interno della penisola italica sono gli stati che sono direttamente o indirettamente interessati a un rapporto in serie di amicizia con varie superpotenze diremmo oggi noi in particolar modo per quello che riguarda l'Italia c'è una forte presenza austriaca Napoleone III si fa carico di questa realtà e promette ai piemontesi che in qualche modo agirà per convincere l'imperatore d'Austria a desistere dall'occupazione di una certa porzione nei suoi italiani non sarà possibile convincere l'imperatore si arriverà a una guerra che è la guerra franco-austriaca del 1859 noi italiani la conosciamo sotto il nome di seconda guerra d'indipendenza gli italiani c'erano erano implicati c'era lo stesso Garibaldi e via discorrendo ma il rigore del clima in qualche modo non parlo del clima del clima geografico e parlo del clima politico in qualche modo guastò la situazione gli italiani forse avrebbero potuto ottenere di più ma dopo una serie di vittorie e di affermazioni come sappiamo l'imperatore dei francesi che in quel momento aveva tutta una serie di ampie visioni politiche non poteva troppo dispiacere all'imperatore d'Austria decise di sospendere la guerra e si arrivò all'armistizio di Villa Franca il risultato fu che il regno del Piemonte non ebbe il tempo di completare quel processo di unità del paese che si prospettava di poter portare avanti con l'alibi del proseguimento della guerra contro l'Austria questo coincise con un forte incresparsi dei rapporti tra il regno di Piemonte che divenne immediatamente dopo il regno d'Italia e l'impero di Francia un esempio questo della questione italiana e della seconda guerra d'indipendenza bisogna tener presente che Napoleone III si fece ben pagare la sua simpatia nei confronti degli italiani il re di Piemonte dovette cedere alla Francia una grande città Nizza e una regione che era addirittura la regione natia della dinastia di Savoia la Savoia appunto ma che era pur sempre in territorio francofono tutto questo portò evidentemente a un stabilirsi di una certa tensione tra francesi e italiani gli italiani si ritennero in qualche modo derubati della vittoria i francesi si ritennero in qualche modo come dire troppo sollecitati dalle pretese italiane buonasera ricordavamo l'altra volta la delusione italiana quando con il trattato di Torino del 1860 il re di Piemonte di Sardegna che è diventato adesso re d'Italia deve lasciare Nizza che fra l'altro era la città la patria di Garibaldi quindi il grande eroe italiano si vide vendere la sua città allo straniero non solo ma dovette lasciare anche la Savoia quindi la patria dell'eroe Garibaldi e la regione degli stessi sovrani ceduta all'imperatore di Francia l'imperatore dei francesi che tende molto fra l'altro anche ad assicurarsi o a cercare di vedere quali possono essere le possibilità di espansione territoriale vorrebbe espandersi in certe zone nella Svizzera certo si vuole espandere verso il Palatinato a spese della compagine germanica certo si vuole espandere anche sul Belgio vorrebbe addirittura fagocitare il Belgio il Belgio vuol dire ingenti ricchezze carbone acciaio è una politica questa di Napoleone una costante politica di superbia e di prevaricazione anche che è uno dei tratti caratteristici di questo personaggio in fondo Napoleone ha una visione molto come dire materiale nella politica cerca sempre di espungere dalla politica le passioni umane il che vuol dire che tende a trattare un po' i popoli e le regioni del mondo come se fossero oggetti è un limite Napoleone probabilmente sarà anche uno dei limiti che egli dovrà pagare caro in ogni modo è chiaro che a questo punto l'Italia e la Francia sono obiettivamente in uno stato di reciproca tensione la Francia agli inizi degli anni sessanta si è convertita da paladina dell'indipendenza italiana a paladina dello status quo uno status quo che prevede che gli italiani non assorbiranno mai lo stato pontificio e noi sappiamo bene che per gli italiani prendere lo stato pontificio era vitale perché gli italiani non potevano concepire un paese unito senza la presenza di Roma ci sarebbe la necessità di far quadrare il cerchio ed è un cerchio inquadrabile da allora il governo liberale e cattolico di Napoleone III diventerà un po' uno degli spauracchi e dei punti di riferimento polemici degli italiani soprattutto dei democratici italiani che rimproverano a Red Italia l'amicizia con quel sovrano straniero l'imperatore dei francesi che impedisce loro di avere quella che essi ritengono la naturale capitale dell'Italia cioè Roma certi particolari li sappiamo non li richiamo fanno parte della nostra comune conoscenza storica come le ripetute spedizioni di Garibaldi su Roma negli anni 60 tutte fallite quello che bolle nella pentola parigina lo si capisce proprio nell'anno successivo al trattato di Torino cioè nel trattato di Torino del 1860 l'Italia cede Nizza e la Savoia ai francesi nel 1861 si ha un altro episodio a prima vista strano una spedizione in Messico sotto il comando di un maresciallo dell'armata imperiale francese il maresciallo Bazin cosa vogliono i francesi dal Messico la risposta non è facile esiste in Messico da molto tempo una situazione delicatissima il paese si è liberato dalla potenza coloniale spagnola ma sembra non riuscire a sviluppare una sua politica una sua vita politica l'idea di Napoleone III è di spedirci un imperatore europeo e da dove si può prendere un imperatore del Messico se non da quella dinastia che ha svolto per ultima le funzioni imperiali sulla terra del Messico gli Asburgo evidentemente però gli Asburgo non sono più quelli di Spagna che non ci sono più dagli inizi del XVIII secolo ci sono soltanto gli Asburgo d'Austria discendenti essi stessi senza alcun dubbio dell'imperatore Carlo V c'è bisogno di un giovane Asburgo sul trono del Messico Napoleone III individua la persona adatta in un personaggio di straordinaria simpatia di straordinaria intelligenza di grande cortesia di grande sensibilità che è l'aceduca Massimiliano fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe noi lo conosciamo già l'aceduca Massimiliano da giovane è stato pellegrino in Terrasanta e ha scritto una bellissima memoria di pellegrinaggio un bellissimo diario di viaggio successivamente è stato governatore di Trieste si è distinto come governatore di Trieste per le sue doti di moderazione di intelligenza di simpatia di affidabilità è un uomo che rappresenta forse l'interfaccia liberale del mondo asburgico un pochino più arcigno un pochino più tradizionalista conservatore anche un po' più duro forse sappiamo che l'imperatore Francesco Giuseppe non ha mai amato questa prospettiva che addirittura l'ha avversata con una sorta dando a credere dando a pensare forse è vero che la cosa non gli piaceva che aveva un presentimento e in effetti la cosa volgerà al tragico da lì a pochi anni abbiamo detto come l'avventura messicana insieme a un'altra cosa che succede nel frattempo la crescita della Prussia e l'ascesa nel cielo nel firmamento politico dell'astro del principe di Bismarck siano un pochino diciamo così le due sfortune di Napoleone le sfortune che poi preludono a una relativamente rapida discesa che vedremo nel secondo lustro degli anni sessanta fino appunto alla rovina dell'impero proprio nel 1870 la spedizione messicana l'avventura diciamolo pure l'avventura messicana va male nello stesso tempo vanno male anche altre cose Napoleone ha una sua visione della politica europea si vuol far largo vuol far largo alla Francia recuperando quei margini anche territoriali che sono sfuggiti al primo impero quindi a mire sul Belgio a mire sul Lussemburgo a mire sul Palatinato ebbene anche tutta questa sua politica delle piccole mance come diceva lui le petit peu boire che le potenze europee avrebbero dovuto alla Francia anche questa politica e lo vedremo alla fine va male e va male sempre e soprattutto perché Napoleone III accetta di giocare a scacchi col principe di Bismarck ma oimè il principe di Bismarck è di gran lunga miglior giocatore di lui impiantare un impero formalmente asburgico nel continente americano vuol dire per Napoleone III crearsi una testa di ponte paracoloniale nel continente americano stesso è un progetto notevole anche di un certo coraggio di una certa audacia di una discreta lungimiranza naturalmente l'imperatore d'Austria non ha la voglia e non ha i mezzi per soccorrere l'azione la scelta del fratello in altri termini Francesco Giuseppe non può assicurare il suo sostegno e non vuole nemmeno assicurarlo non vuole nemmeno compromettersi con questa situazione l'impero asburgico messicano se mai ci sarà dovrà sbrigarsela da solo senza pensare a patti di famiglia con l'impero asburgico austriaco ma di che cosa ha paura Francesco Giuseppe ma intanto bisogna dire che Francesco Giuseppe diffida per principio delle imprese coloniali e poi bisogna aggiungere siamo agli inizi dell'anni 60 facciamo un balzo indietro di 40 anni 1823 quella che è già la maggior potenza diciamo continentale di tutto il continente americano non solo del nord gli Stati Uniti d'America hanno emanato una sorta di veto agli europei dal continuare a occuparsi di cose e di terre americane è una famosa tesi espressa dal presidente Monroe che si pone alla base di quello che noi di solito chiamiamo l'isolazionismo americano non c'è molto di isolazionista per dire la verità il presidente Monroe si limita a osservare che gli europei non sono interlocutori graditi nel continente americano e che quindi se vi si volessero radicare sarebbero combattuti mentre nella misura in cui vogliono rimanere e qui c'è un'allusione perlomeno alla Spagna per il possesso di Cuba che resterà spagnola fino alla guerra di Cuba del 1894-98 se gli europei vogliono rimanere nel territorio del continente americano conclude il presidente Monroe lo fanno al loro pericolo è evidente che questa è una dichiarazione difficilmente aggirabile ma Napoleone III lo abbiamo già detto è un ottimista pensa che ce la farà pensa che gli americani ci staranno pensa che gli americani accetteranno di godere essi stessi i frutti di questa nuova situazione che rinsalda i rapporti tra il vecchio e il nuovo mondo si inganna da un lato c'è un forte movimento repubblicano messicano che si oppone a Massimiliano dall'altro ci sono le posizioni i servizi il denaro le influenze degli stati uniti d'america che determinano rapidamente la sconfitta delle armate austriache o meglio delle armate asburgiche che in realtà erano armate francesi in messico e la vittoria dei rivoluzionari guidati da Benito Juarez nel 1867 Massimiliano d'Asburgo viene fucilato presso la città di Cheretaro e si infrange così questo sogno la vicenda è nota molto famosa ci hanno tratto anche dei films è una vicenda anche romantica per certi aspetti la la personalità di Massimiliano il suo amore per la consorte eccetera ma dietro a questo che cosa c'è dietro a questo c'è l'imperatrice Eugenia e più che Napoleone e c'è una un'idea dell'imperatrice Eugenia un'idea maturata proprio nel momento in cui forse sarebbe stato meno opportuno che maturasse cioè durante la guerra franco-austriaca la seconda guerra indipendenza per noi perché l'imperatrice Eugenia ritiene e questo è un progetto che in un certo senso potrebbe far pensare al primo Napoleone piuttosto che al terzo ritiene che gli europei sono molto disomogenei fra loro e non possono arrivare a una vera unità e che all'interno della compagine europea bisogna creare una cordata di paesi che siano sicuri della loro reciproca amicizia come si raggiunge questa quadratura del cerchio forse facilmente pensa l'imperatrice Eugenia unendo i paesi cattolici fra di loro su un'asse che dovrà per forza passare da Parigi evidentemente da Madrid non dimentichiamo che l'imperatrice Eugenia è spagnola ma soprattutto da Parigi a Vienna intorno a quest'asse cattolico dovranno ordinarsi le potenze cattoliche minori che sono fondamentalmente la Spagna stessa l'abbiamo già detto l'Italia e la Polonia questa idea dell'imperatrice Eugenia dà luogo a una serie di fatti corrispondenze scambio di doni stampe di saggi progetti di vario genere però in fondo finisce col rivelare la sua inanità nessuno vuole accedere su serio a un patto del genere oltretutto al solito nel mezzo c'è la detestabile questione romana che è veramente una pietra d'inciampo gli italiani che nella mentalità dell'imperatrice Eugenia sono una potenza cattolica in realtà non ci stanno a fare a meno della loro capitale Roma e non c'è barba di progetto più o meno fantascientifico che abbia come centro o comunque come parte l'Italia che in qualche modo non si debba confrontare con la questione romana su questo evidentemente la vagheggiata unione la vagheggiata forma di confronto e di amicizia di collaborazione fra potenze europee cattoliche fallisce vedremo in seguito a quali risultati porterà questo fallimento buonasera siamo ormai andati molto avanti in questa nostra indagine circa la politica di Napoleone III ormai ne sappiamo molto su di lui sappiamo delle sue linee di politica estera sappiamo della sua volontà di arricchimento generale del suo paese sappiamo della passione con cui egli cercava di ammodernare di ingrandire di abbellire le sue città in particolare la sua capitale la sua Parigi ma d'altra parte però bisogna dire che intorno alla prima metà degli anni sessanta in un momento che intendiamoci non è poi così semplice collocare l'inizio della crisi però senza dubbio è un fatto che la crisi dell'impero francese comincia a farsi sentire forse il giro di boa è proprio la guerra franco-austriaca quella che noi chiamiamo appunto noi italiani seconda guerra indipendenza c'è un elemento che bisogna dire e che bisogna presentare come quello forte e qualificante ormai accanto alla falsa partenza del problema messicano quindi al fallimento sostanziale per esempio delle speranze di impadronirsi del messico questo è un piccolo elemento sostanziale non poi tanto piccolo è la crescita della germania o meglio è il crescente organizzarsi del movimento risorgimentale tedesco la germania ha avuto un movimento risorgimentale esattamente come quello italiano con molte somiglianze varie città vari stati che cercavano di unirsi che mettevano insieme le loro forze e poi questo esperimento ha approdato a due elementi uno simile tra la situazione tedesca e quella italiana e uno diversissimo la similitudine è stata che in tutte e due casi i due paesi sono stati egemonizzati e unificati da due potenze entrambe potenze militari due stati non fra i più grandi della compagine della rispettiva compagine tedesca italiana ma che sono due stati cresciuti a una notevole capacità di aggregazione sono la Prussia per la Germania e il Piemonte per l'Italia solo che appena questi stati sono riusciti a crearsi intorno una cintura di altri stati di connazionali persone che parlano la loro lingua tedeschi o italiani come loro e a creare uno stato allora qui si sono palesate le differenze storiche e anche se vogliamo quelle ideologiche perché in realtà è vero che Italia e Prussia sia pure in modo leggermente diverso in tempi leggermente diversi ma nemmeno poi tanto Piemonte e Prussia trovano il modo di costituire rispettivamente un centro di aggregazione tale che la Prussia diventa il territorio capitale e concettualmente centrale della Germania mentre questo ruolo in Italia l'avrà il Piemonte però ci sono delle differenze quali sono queste differenze? Beh fondamentalmente intanto l'Italia è un paese religiosamente parlando unitario anche se c'era già avviato un forte processo di laicizzazione addirittura di contestazione della Chiesa Cattolica però non ci sono confessioni che possono in un certo senso fare ombra alla Chiesa Cattolica mentre in Germania evidentemente cattolici e protestanti di scuola luterana sono uno stesso numero prima difficoltà questo primo elemento collegato a questo naturalmente c'è il problema della questione romana l'Italia ha proprio nel mezzo tra l'altro siccome l'Italia è una penisola lo stato pontificio lo stato della Chiesa la taglia proprio in due ha dicevo l'Italia nella sua compagine storica un grosso problema da risolvere che è la cosiddetta questione romana Napoleone III non vuole accettare che si tocchi lo stato della Chiesa la classe politica italiana non può accettare che invece lo stato della Chiesa continui a vivere una vita indipendente rispetto all'Italia sottraendo all'Italia stessa la sua capitale naturale il problema è quasi senza uscita e infatti come vedremo sarà senza dubbio un problema senza uscita perché Napoleone tiene duro e finché Napoleone sarà al governo non ci sarà nulla da fare per chiunque volesse prendere in qualche modo militarmente parlando lo stato della Chiesa poi c'è un'altra difficoltà storicamente più importante perché è di tipo strutturale cioè è vero che la Prussia e il Piemonte insieme hanno ciascuno relativamente alla loro situazione rispettivamente la tedesca o l'italiana un ruolo in fondo simile il Piemonte è la Prussia d'Italia la Prussia è il Piemonte di Germania però ci sono molte differenze e poi ce n'è una storica rispetto alla quale evidentemente non si può transigere la tradizione tedesca vuole che si costruiscano stati federali con forti autonomie dei singoli stati che entrano a far parte del processo federale e dove praticamente non esiste un unitarismo e un centralismo di tipo giacobino l'Italia dell'Ottocento al contrario ha dessunto almeno in alcuni strati della sua classe politica l'estremismo repubblicano mazziniano e garibaldino per esempio ha dessunto da tutto questo che vi fosse anche una specifica politica unitaria da adottare e il risultato è che la Germania ha sviluppato il suo discorso federale e l'Italia ha sviluppato un discorso unitario che come sappiamo proprio in questi anni ha palesato drammaticamente la sua crisi la Russia è quindi ormai da molto tempo lo stato guida della confederazione germanica si è andata sostituendo all'Austria che lo era prima della tempesta rivoluzionaria e napoleonica d'altra parte la questione tedesca è una questione molto più grave che non la questione romana la questione dico dal punto di vista politico evidentemente la questione romana riguarda i rapporti fra l'Italia e lo stato pontificio la questione tedesca è una grossa questione nella misura in cui si parte dal principio che questi paesi che appartengono tutti all'universo culturale germanico debbano trovare un'unificazione sotto l'egida di un solo stato verso la metà degli anni sessanta si afferma in Prussia un grande uomo politico il principe Ottone di Bismarck il quale è ben deciso a fare per la Germania quello che il conte di Cavour ha fatto per l'Italia cioè evidentemente portare a compimento una realtà statuale ordinata unitaria naturalmente il principe di Bismarck sa benissimo che la Germania non è riconducibile a una unità nazionale secondo i principi del centralismo giacobino quindi ci si servirà di una formula federale ma le intenzioni sono quelle aiuterà Napoleone III che è reduce da una situazione che egli ha amato poco ma nel quale ce l'aveva messo sua moglie la regina Eugenia l'imperatrice Eugenia ormai l'idea la prassi del grande partito cattolico europeo che unisca gli stati cattolici l'asse cattolico europeo è fallita e naufragata nessuno l'ha mai presa nemmeno troppo sul serio i polacchi si sono defilati da una parte gli italiani da un'altra gli ungheresi da un'altra ancora gli austriaci da un'altra di nuovo eccetera però resta la possibilità per Napoleone di incidere sull'Europa attraverso una serie di accordi con la potenza guida della Germania cioè con la Prussia fermo arrestando la sua amicizia con i confronti dell'Inghilterra fra Prussia e Inghilterra in quel momento non è ancora scoppiata quella rivalità navale che poi porterà sarà uno degli elementi che porteranno alla prima guerra mondiale e quindi il progetto sembra possibile sembra praticabile Napoleone III e il principe di Bismarck ci lavorano intorno non sono due partners proprio ben accoppiati l'imperatore Napoleone III e il principe di Bismarck intanto non si amavano un po' troppo cattolico Napoleone III almeno nella visione del luterano di ferro che era il principe ottone di Bismarck un pochino troppo militarista e militaresco il cancelliere tedesco per quell'imperatore Napoleone che noi poi vediamo sempre nelle immagini ufficiali in uniforme con atteggiamenti che ricordano un po' troppo spesso il grande zio con quei baffi che a noi sembrano un po' ridicoli eccetera ma in realtà era un uomo dai gusti e dalle propensioni anche molto borghesi era un uomo e l'iconografia del tempo ce lo ritrae spesso in tal modo era un uomo che invece amava molto anche i begli e comodi abiti della borghesia e d'altra parte Napoleone III soffriva un po' troppo il fatto che in fondo avrebbe dovuto parlare con il suo parigrado o quasi parigrado il re di Prussia mentre invece il re di Prussia gli proponeva sempre questo antipatico rigido fra l'altro più alto di lui personaggio che era il principe di Bismarck i due sono veramente male accoppiati ma soprattutto evidentemente è la sostanza del loro contendere che volge continuamente sistematicamente avvantaggio del tedesco sul francese e vedremo come quella guerra del 59 la guerra austro-francese aveva in un certo senso avvicinato la Francia alla Prussia la Prussia non ama l'Austria concorre con l'Austria fra l'altro all'egemonia nei confronti dei paesi tedeschi e l'impero d'Austria sa bene che nonostante esso disponga niente meno che di una corona imperiale in realtà non può reggere il confronto con la Prussia che è troppo più forte dal punto di vista militare tecnologico eccetera Napoleone III che detto fra parentesi è un buon tecnico ha scritto ottime cose per esempio sul tema dell'artiglieria è un uomo profondamente interessato alle novità alle novità di tipo scientifico e tecnologico naturalmente un personaggio con queste caratteristiche non ci si può meravigliare poi se si innamora delle grandi potenze militari tecnologiche è quello che succede un pochino a Napoleone III pochino e per un breve momento nel 1865 a Biarritz sulla costa dell'Atlantico vicino alla Spagna in terra francese quindi Napoleone III incontra il principe di Bismarck questo incontro di Biarritz è un po' ingiustamente dimenticato per lo meno sottovalutato diciamo dalla corrente opinione pubblica opinione pubblica che si occupa di storia voglio dire e invece è molto importante perché Napoleone gioca carte scoperte presenta a Bismarck le sue mire tedesche Napoleone in questo ha mantenuto una mentalità arcaica ancora molto vicina alla vecchia mentalità settecentesca gli stati debbono ampliarsi debbono correggere in meglio i loro confini debbono tendere a conquistare nuove risorse sul terreno eccetera va da sé che il principe di Bismarck non pensa nulla di tutto questo e si limita a stare al gioco tratta un po' Napoleone da vecchietto un po' disciplinarmente felice diciamo di questo gioco alla crescita territoriale che al principe di Bismarck appare del tutto un gioco del tutto inutile ottuso Napoleone vuole molte cose sta pensando addirittura a un ampliamento in Svizzera ma conosce bene la mentalità degli svizzeri e sa che gli svizzeri non amano non ameranno mai essere corteggiati e poi fagocitati nella potenza vicina c'è invece quella terra tedesca sulla riva sinistra del Reno che si chiama il Palatinato è una terra molto vicino all'Alsazia l'Alsazia in quel momento appartiene alla Francia Napoleone III la vorrebbe il principe di Bismarck è disposto a cedergliela buonasera avevamo lasciato il principe di Bismarck e Napoleone III a Berriz avevamo parlato delle aspirazioni di Napoleone III e di quella cosa che lui chiamava un pochino ingenuamente almeno in apparenza la politique du pourboire la politica delle mance in altri termini l'imperatore propone al primo ministro prussiano una sorta di scambio accetterà che la Prussia proceda sulla strada del collegamento con gli altri stati tedeschi nella prospettiva di creare un'unità tedesca vedremo fra poco che poi non è andata esattamente così e in cambio però vuole qualcosa qualche pulboire come diceva lui qualche mancia non sono cose da poco un pezzo di palatinato area germanica molto vicina all'Alsazia poi però Napoleone III vuole anche ancora di più sta pensando per esempio a fagocitare il Lussemburgo si potrebbe discutere sulla se il Lussemburgo sia più francese o più tedesco ma non è questo il problema a Napoleone III non interessa tanto l'affinità nazionale quanto un problema territoriale oltretutto c'è un elemento se vogliamo non oso dire infantile ma certo un po' particolare di Napoleone III questa volontà di ampliarsi per il piacere di ampliarsi di avere gloria per il piacere di avere la gloria politica imperiale insomma come diremmo noi e poi infine la cosa più grossa che probabilmente va un po' per traverso al cancelliere Bismarck Napoleone III vuole in cambio del suo benevolo silenzio sulla politica annessionistica della Prussia nei confronti degli altri paesi tedeschi Napoleone III vuole il Belgio cioè una zona molto grande già unita all'Olanda e che poi si era liberata una zona estremamente ricca estremamente colta insomma una delle migliori delle migliori aree dell'Europa al cancelliere Bismarck queste proposte paiono forse accettabili o forse no sta di fatto che un certo accordo si raggiunge ma questo accordo non verrà mai rispettato anche perché attenzione siamo arrivati al fatidico 1866 nel 1866 Napoleone III che sta ancora trattando faticosamente con la Prussia per ottenere che in qualche modo gli venga accordato il diritto di espandersi su queste zone periferiche tra Francia e Germania deve assistere impotente a una nuova tragedia europea che egli non sa e forse non può evitare nel 1866 la Prussia dichiara guerra all'Austria è un passaggio obbligato viene subito da tutti i tedeschi come una sorta di guerra praticida d'altra parte Prussia e Austria sono due paesi che non si amano a vicenda luterana la Prussia cattolica l'Austria nuova stella nascente nel firmamento degli stati tedeschi la Prussia e vecchia sede del sacro romano impero della nazione tedesca l'Austria gli stati tedeschi si dividono in occasione di questa guerra quelli protestanti si accordano con la Prussia o evitano a loro volta di schierarsi lo stesso fanno quelli cattolici con un'eccezione questa eccezione è la Baviera la Baviera è proprio lei la Baviera di questo romantico signore che è il re Luigi di Baviera Ludwig che noi lo conosciamo attraverso il bel film di Lucchino Visconti lo conosciamo attraverso delle costruzioni romantiche costosissime di cui egli ha disseminato l'intera l'intera sua regione Nymphenburg a Monaco bellissima reggia e ancora Neuschwanstein questa specie di finto mirabile a modo suo finto castello medievale ispirato ai racconti di Wagner e del Santo Graal Baviera e Austria si oppongono alla Prussia in vano questa guerra tedesco-tedesca questa guerra suicida fra tedeschi nel 1866 finisce con la vittoria alla Prussia cosa significa la vittoria alla Prussia il vincitore sarà estremamente modesto e comprensivo nell'esigere riparazioni di guerra e tutto il resto non gli interessa quello gli interessa veramente l'umiliazione dell'impero d'Austria in realtà il principe di Bismarck sta già pensando al suo re al re di Prussia su un nuovo trono imperiale è una visione audacissima quasi folle per il tempo però Bismarck capisce che ci sono le condizioni per questo ormai nessuna corona europea può essere presa sul serio come corona imperiale quell'austriaca lo è semplicemente per un fatto di dignità di decoro vista la sua vecchiezza ma è tutto e allora guerra vittoria della Prussia umiliazione dell'Austria l'Austria starà in disparte non si farà certo non si piegherà certo a una egemonia prussiana ma non parteciperà proprio per questo all'unificazione tedesca le ripercussioni di tutto quello che abbiamo detto e del quadro che abbiamo cercato di delineare che è un quadro complesso comportano anche un altro fatto lo spostamento dall'asse germanico dell'impero d'Austria verso un'asse europeo meridionale e orientale l'Austria si apre sempre di più ai paesi dell'area danubiano balcanica che non sono attenzione paesi tedeschi quindi avremo la diarchia l'Austria Ungheria l'imperatore asburgico che oltre che imperatore d'Austria anche re d'Ungheria e le due corone si parificheranno quasi può essere intesa anche come un preludio a quello che l'arceduca Francesco Ferdinando sperava prima dell'inizio della prima guerra mondiale il passaggio addirittura a un trinazionalismo a un impero austriaco ungherese e anche slavo e qualcuno pensava anche a un quadri nazionalismo mettendoci nel mezzo anche gli italiani del nord est quindi qualche cosa che avrebbe mutato completamente la visione geografica e politica europea non ci sarà il tempo per accedere a tutto questo ma le premesse in quel 67 c'erano la battaglia di Sadova una delle grandi battaglie dell'800 nel 1866 fornisce la definitiva vittoria delle armi prussiane sulle armi austriache l'esercito austriaco è un buon esercito ma è piuttosto antiquato non è numeroso non può reggere la forza d'urto dell'esercito prussiano d'altra parte c'è anche un convergimento italiano anche in questo lo segnaliamo perché in fondo è molto collegato molto più di quanto non paia alla storia di Napoleone III gli italiani combattono contro gli austriaci quindi sono alleati dei prussiani è un amore quello fra gli italiani e i prussiani o per meglio dire quello degli italiani nei confronti dei prussiani un amore fatto di ammirazione ammirazione politica per la forza per l'energia ma gli italiani non portano alla vittoria prussiana una grande un grande vantaggio anzi al contrario a parte una piccola vittoria di Garibaldi a Bezzecca molto ingigantita dai dai fatti per il resto gli italiani perdono questa guerra austro-prussiana nella quale hanno chiesto di combattere e che noi conosciamo come terza guerra e indipendenza perché è importante la terza guerra e indipendenza per i rapporti fra Napoleone III e l'Italia perché questa guerra li fa precipitare ulteriormente è chiaro che Napoleone III ha tifato per così dire per l'Austria e per la Baviera contro la Prussia è chiaro che Napoleone III continua ostinatamente a proibire che gli italiani ottengano l'avempimento di quello che essi ritengono il naturale sbocco delle loro aspirazioni cioè il possesso di Roma come capitale d'Italia e questo Napoleone non vuole ma dopo la vittoria prussiana una vittoria fra l'altro che suona umiliazione per tutte le potenze cattoliche quindi anche per il Papa dopo questa vittoria prussiana può veramente ancora l'imperatore dei francesi essere contrario all'occupazione italiana dello stato pontificio e di Roma ebbene sì l'imperatore dei francesi continua a essere contrario Garibaldi continua a disperarsi continua a fare operazioni di disturbo cercando di arrivare a Roma viene respinto viene umiliato pare proprio che non ci sia scampo per l'unità d'Italia finché questa è la mara conclusione che gli italiani traggono finché il loro vecchio amico e alleato Napoleone III che li aveva salvati durante la seconda guerra e indipendenza che altrimenti gli italiani avrebbero quasi sicuramente perduto finché il loro vecchio amico era insediato a Parigi non c'era alcuna speranza di organizzare nessuna forma di unità politica dell'Italia in altri termini non si poteva prendere lo stato pontificio l'alba dell'anno 1867 l'imperatore ha 59 anni per l'800 comincia a sentirsi alle soglie dell'anzianità è un'alba difficile il 67 è l'anno della fucilazione di Massimiliano d'Asburgo in Messico crollo del progetto americano e del progetto di unione dei paesi cattolici di cui la prospettiva di un Messico sotto gli Asburgo era parte nel frattempo i prussiani che hanno vinto contro l'Austria stanno evidentemente tessendo le loro fele hanno un rapporto privilegiato di amicizia nei confronti dell'Italia non amano e non hanno mai amato il papato non tanto perché i prussiani siano di per sé protestanti eccetera ma perché in quel momento c'è una forte tensione tra il papa e il regno di Prussia determinata dalla politica voluta dal principe di Bismarck la cosiddetta politica del Kulturkampf dello scontro di civiltà le civiltà che si scontrano sono appunto la cristiano cattolica latina e la cristiano protestante tedesca fra l'altro sono successe naturalmente molte cose in ripercussione di questo raffreddarsi dei rapporti tra Prussia e Francia è sfumata per Napoleone l'idea di potersi annettere il Belgio il Palatinato e il Lussemburgo è chiaro che dopo il comportamento ambiguo ambiguo almeno a giudicarlo dalla sponda prussiana che l'imperatore dei francesi ha tenuto durante la guerra austro-prussiana del 1866 è chiaro che questi ampliamenti questi purboar come diceva l'imperatore queste mance i prussiani non sono più evidentemente disposti a corrisponderglieli la crisi è aggravata da una serie di cose di cui parleremo nelle puntate successive da un po' di tempo almeno dall'inizio degli anni 60 o i anni 60 che si sono annunziati piuttosto complicati raffreddamento con l'Italia dopo la seconda guerra l'indipendenza poi il complesso problema del Messico in cui Napoleone III si è cacciato in un pasticcio che a guardarlo col senno di poi è senza dubbio gratuito tutte queste cose si sono aggravate per un fatto perché nel frattempo le finanze francesi non vanno troppo bene l'economia francese non va troppo bene c'è un periodo congiunturale Napoleone III ha cercato di gestirlo accettando un trattato con l'Inghilterra un trattato di tipo libero-scambista che naturalmente ha sollevato un sacco di malumori alcuni francesi avrebbero preferito un certo protezionismo sulle loro merci perché quelli inglesi costavano di meno ma non è approdato ai risultati sperati in senso positivo e poi c'è stata anche tutta una situazione politica complicata il solito grande personaggio politico francese che è il Thiers ha sollevato il problema delle libertà non ce ne sono troppe di libertà sotto l'impero di Napoleone III e allora si sta profilando la eventualità di una sorta di rivoluzione liberale all'interno dell'impero buonasera Napoleone III Luigi Napoleone il principe Luigi Napoleone divenuto poi nel 1852 il secondo imperatore dei francesi saltando il Napoleone II che avrebbe dovuto essere Leglon il figlio dell'Aquila il figlio di Napoleone ma che era morto prima il duca di Reichstadt come di solito lo chiamiamo siamo arrivati a un buon punto nel nostro tentativo di ricostruire la straordinaria carriera di questo personaggio e siamo arrivati anche a un punto di stallo il 1867 circa come spero qualche ascoltatore ricorderà e l'anno delle grandi delusioni se vogliamo l'imperatore sembra aver azzeccato esattamente tutti gli alleati sbagliati e una volta di più a farlo sbagliare se le colpe sono di altri ma io credo che le colpe fossero sue perché senza dubbio Napoleone III è stato uno straordinario protagonista dell'Ottocento e quindi si ha fatto degli errori questi errori vanno imputati prevalentemente a lui è un grande politico che non le ha indovinate proprio tutte e nel in questo fatidico 67 quando l'imperatore è sulla svolta fatidica anch'essa almeno per quei tempi della sessantina quindi sta diventando diciamo pure sta diventando vecchio succede che certi nodi vengono al pettine li abbiamo già ricordati più volte sempre in relazione con questo rapporto con gli Asburgo è strano il destino dei Napoleoni di a partire dal grande Napoleone questo rapporto con gli Asburgo è sempre complesso prima Napoleone che con la pace Damien costringe Francesco secondo sacro romano imperatore a diventare a deporre la corona del sacro romano impero di imperatori romani Napoleone pensa che in Europa ce ne sono bastano e avanzano se ce ne sono uno e quell'uno pensa di essere lui quindi l'imperatore del sacro romano impero più modestamente assume il titolo di imperatore d'Austria poi però Napoleone ne sposa la figlia Maria Luisa di Asburgo che sarà una coniuge senza dubbio del più blu dei sangui possibili d'Europa la più nobile famiglia d'Europa gli Asburgo ma anche una donna difficile una donna non troppo fedele ed è detto l'imperatore Gran Tomber de Fem a sua maniera non aveva la mano felice quando si sposava le cose sia con Giuseppina che con Maria Luisa non gli sono andate poi troppo bene meglio forse con la sua vera moglie la moglie morganantica Maria Valesca ma questo è un problema che riguarda lo zio e noi dobbiamo parlare del nipote il nipote il nipote si trova in una situazione in questo fatidico 67 in una situazione piuttosto delicata le cose del Messico lo abbiamo già detto più volte sono andate male il povero Massimiliano d'Asburgo ha fatto una fine beh ne avrebbe meritata una migliore il personaggio era di grandi qualità morali un uomo intelligente un uomo onesto buono fa la fine che fa fucilato la guerra austro-prussiana è andata malissimo per Napoleone che aveva appoggiato le potenze cattoliche cioè l'Austria e la Baviera e a questo punto bisogna ripartire non da zero ma bisogna ridefinire la situazione è questo che pensa l'imperatore ripartire abbiamo detto anche con un nuovo assetto socio-economico le cose francesi non vanno benissimo le tasse sono troppo alte gli introiti dei ceti dirigenti non sono soddisfacenti i commercianti si lamentano la situazione coloniale francese non è delle più brillanti quantomeno se la vogliamo rapportare a quella inglese e magari anche a quella olandese il colonialismo spagnolo e portoghese è in crisi ormai dall'inizio del secolo ma gli inglesi no e gli inglesi sono i veri il vero contraltare economico insieme naturalmente alla Germania ma mentre la Germania che non è ricordiamolo ancora unita fa una concorrenza pesantissima spietata alla Francia e vince lei perché ha un potenziale industriale straordinario ma siamo nell'ottocento non dimentichiamocelo e nell'ottocento sì l'industria è importante è un settore primario tira l'economia tutto quello che volete ma la gente tutti i risparmiatori gli aristocratici i medioborghesi gli operai per loro la ricchezza non è ancora la ricchezza industriale o quella finanziaria pensano ancora in termini arcaici almeno per la nostra mentalità per loro la ricchezza è ancora la terra si è ricchi se si hanno delle campagne si è ricchi se si ha una bella casa si è ricchi se si ha del denaro con tante in banca è vero che ci sono già i biglietti a corso legale ma è anche vero che la gente non li ama che preferisce ancora avere i pezzi d'oro e d'argento guardate non parliamo del medioevo stiamo parlando delle strutture ambientali dell'ottocento che sono ancora quelle della prima metà del nostro novecento semmai la ricchezza viene immediatamente dal commercio perché è più visibile che non quella industriale che passa attraverso i canali complessi della finanza via discorrendo e quindi semmai la concorrenza che fa paura è la concorrenza inglese abbiamo già parlato di questo trattato di libero scambio che tutto sommato non piace troppo ai francesi insomma l'imperatore non è a secca più una la gente se la prende come al solito i francesi un po' stranamente quando le cose non vanno bene più che corresse la prendono con la regina l'hanno già fatto con Luigi XVI Madame Vettola povera Maria Antonietta d'Asburgo era in realtà una donna che aveva molto meno responsabilità negative di quelle che una certa tradizione le ha dato e bisogna sottolinearlo non è vero che abbia pronunziato la frase a chi le ricordava che i parigini non avevano più pane che abbia pronunziato la fatidica frase che mangino brioche questa è una battuta di un romanzo libertino del settecento che circolava riferita agli aristocratici non alla corte che circolava ma è una leggenda metropolitana la povera Maria Antonietta ci ha rimesso la testa e non per le brioche per altre cose come sappiamo però la gente dava la colpa a lei più che al re delle cose che non andavano bene durante la rivoluzione francese i parigini se la prendono con la contessa Eugenia Montico questa aristocrafica spagnola un po' bigotta cattolicissima entrante prepotente un pochino violenta a modo suo anche in fama di non essere neanche fedele all'imperatore quindi di non essere nemmeno una signora di specchiata una signora insomma Napoleone III non se la passa benissimo ma passiamoli un po' da vicino un po' più da vicino in rassegna le cose che non vanno bene e magari anche quelle che vanno bene non facciamo un quadro troppo nero perché non dimentichiamoci che Napoleone III in questa seconda metà degli anni 60 è ancora il padrone dell'Europa o perlomeno è quello che dà l'impressione di esserlo lo Tsar da Mosca pensava che Napoleone III fosse il primo interlocutore europeo il presidente degli Stati Uniti da Washington pensava la stessa cosa e quindi insomma non esageriamo con questa crisi la crisi c'è gli storici la vedono a posteriori la denunziano però chi ascolta non deve farsi l'idea che l'Aquila avesse cominciato il suo volo impicchiata verso il basso no no la Francia di Napoleone III è ancora qualche cosa di splendido le sue armate sono temute la sua economia sembra straordinariamente solida l'imperatore ben in sella in tutti i sensi i suoi bei cavalli i suoi suoi bellissimi baffi beh bellissimi perlomeno per chi piacciono per il gusto del tempo lo erano tra l'altro vorrei segnalarvi una cosa che forse vi è sfuggita guardatelo bene perché Napoleone III assomiglia dannatissimamente a suo zio assomiglia moltissimo a Napoleone I il fatto è che naturalmente noi lo vediamo con questi baffi un pochino improponibili con questa barba che è un pizzetto da moschettiere un po' allungato questo look tra il moschettiere e il romantico mentre per Napoleone siamo abituati a un'altra idea di ovale di ovale facciale no no ma ci somiglia e come ci somiglia anche come carattere insomma la circheria per esempio la pignoleria l'interesse per la storia Napoleone III è un buon studioso è un buono studioso questo va detto la sua biografia di Giulio Cesare per esempio è un'ottima biografia l'ha recentissimamente rivalutata anche un personaggio che è un grande studioso della cultura classica in genere latina in particolare anche lui biografo di straordinaria intelligenza di Giulio Cesare questo personaggio è l'amico e collega Luciano Canfora e Canfora sostiene io francamente sono stato preso un po' in contropiede l'avevo sottovalutato infatti io non l'ho mai letta si è detto fra noi la biografia di Cesare è fatta da Napoleone III ma Canfora sostiene io mi fido di lui e quando posso quando potrò appena mi capiterà ci darò un'occhiata Canfora dicevo sostiene che si tratta di una buona biografia Napoleone III era uno straordinario artigliere era un buon matematico era un uomo curioso di infinite cose insomma siamo davanti a un personaggio di grande livello questo non va dimenticato insomma se avete avuto la pazienza di seguirmi per queste dodici puntate con l'attuale fanno tredici io forse vi ho dato l'impressione di avercela un po' con Napoleone III di essere un po' troppo critico forse qualche volta ho insistito un po' troppo su certi aspetti problematici questo non è un'autocritica tantomeno un'autorevisionismo è semplicemente un pochino una messa a punto mi permetto in questa puntata mi sono permesso di fare una pausa di riflessione critica lo so che forse le cose sono più divertenti quando si raccontano dei fatti invece quando si fanno delle riflessioni critiche ma insomma la storia rendiamoci conto che la storia è questa la storia non è conoscere delle date e dei fatti è cercare di rifletterci sopra le date e i fatti vi comprate un un atlantino storico della Garzanti e ci avete tutte le date e i fatti che volete però non avete ancora capito la storia e Napoleone III ha bisogno di una riflessione allora riprendiamolo un po' da lontano lo faremo naturalmente anche nella puntata che seguirà questa e cerchiamo di vedere un po' quali sono state fino ad ora fino a questo 67 sul quale ci siamo un po' arenati e che prelude all'ultimo triennio triennio meno felice più triste meno coronato dal successo della vita e del governo dell'imperatore cerchiamo di capire un po' quali fossero le sue linee di azione perché questo mi sembra molto importante allora cominciamo a fare i buoni propositi per la prossima volta in cui ci sentiremo e cerchiamo di vedere politica estera Germania e prospettive di ampliamento territoriale l'abbiamo visto la politica dei furbuar che l'imperatore sperava di avere verso il Belgio addirittura quindi mangiarsi la vallonia che è francofona e perché no magari anche la germanofona fiandra vicina direttiva di sbocco verso il Lussemburgo insomma l'imperatore preme verso il Reno la Spagna e l'Inghilterra potenze navali la Francia vorrebbe sempre diventare una potenza navale non ci riesce mai del tutto ma ci prova più volte il rapporto con la Piemonte con la Svizzera anche verso la Svizzera Napoleone avrebbe delle idee insomma Napoleone non nasconde che secondo lui Ginevra e Losanna sono due grandi città francesi prima o poi dovrebbero tornare alla madre patria il rapporto con la Russia e la Turchia Napoleone si è fatto invischiare nella guerra di Crimea contro la Russia ma non ha nessuna intenzione di proseguire in una politica antirussa e nello stesso tempo fa l'occhietto al sultano e si dice l'occhietto al sultano lo facesse soprattutto sua moglie Eugenia Montico c'è una famosa storia di un viaggio dell'imperatrice a Istanbul e di una sorta di idilio con il sultano ma di questo non parleremo potrebbe sembrare un po' una storia da buduare eccetera ma attenzione perché la diplomazia passa anche attraverso questi canali e noi dovremo parlare in particolar modo dei rapporti con l'Italia insomma è quello l'abbiamo già fatto lo rifaremo e poi la politica coloniale e infine insomma la nuova Parigi perché Napoleone III è l'inventore della Villumienne sul serio come vedete insomma di cose da dire ce ne sono tante buonasera Napoleone III e la politica coloniale come si sviluppa la politica coloniale francese siamo nell'ottocento tutte le grandi potenze hanno un gran bisogno di materie prime le grandi potenze che non hanno anche un impero coloniale vengono guardate come potenze di seconda scelta dalle colleghe con qualche eccezione naturalmente la Spagna l'impero coloniale ormai lo sta perdendo a pezzi il suo impero lo ricordo era nel sud del continente americano quella che noi chiamiamo ordinariamente America Latina e lì c'era stata una condanna a morte la condanna a morte pronunziata dal presidente statunitense presidente Monroe che nel 1823 ha pronunziato la sua celebre dichiarazione noi la conosciamo come l'America e gli americani ordinariamente la leggiamo forse non più ormai perché specialmente con le ultime fasi della politica statunitense attuale certe linee che erano linee antiche della politica americana si sono anche chiarite e quindi oggi sarebbe un po' ridicolo continuare in questa lettura scolastica banale della dichiarazione del presidente Monroe del 1823 come una dichiarazione isolazionista l'America agli americani è tutt'altro una dichiarazione isolazionista in pratica vuol dire questo l'egemonia del continente americano tutto anche sud America anche l'America latina spetta alla superpotenza locale che sono gli Stati Uniti gli europei faranno bene a togliersi di torno da là questo è il succo della dichiarazione di guerra implicita che toccherebbe anche l'Inghilterra e la Francia in una certa misura pensate al Canada però soprattutto tocca alla Spagna e mentre l'Inghilterra e la Francia hanno un pochino retto beh poi del resto la Louisiana Napoleone l'aveva già venduta agli Stati Uniti insomma il rapporto con la Francia in Alaska c'erano i russi ma gli statunitensi l'Alaska se la compreranno e il Canada ha questo rapporto con il Commonwealth e con la corona britannica e la corona britannica resta un osso duro invece la Spagna sarà progressivamente cacciata come il Portogallo del resto dal continente americano e la protagonista di questa cacciata sarà la forza la volontà la straordinaria capacità imprenditoriale politica degli Stati Uniti d'America questo non va dimenticato perché la guerra del Messico quindi il fracassare la sconfitta di Massimiliano d'Asburgo e quindi dei francesi che ne erano in supporto Massimiliano d'Asburgo aveva una truppa imperiale messicana che era inquadrata da francesi e anche questo è un episodio dipendente dalla politica dalla famosa dichiarazione di Monroe quindi l'America ha un ruolo particolare nella storia del colonialismo europeo di cui essa è partner poi c'è la Russia che ha un ruolo ancora particolare perché il suo colonialismo non è un colonialismo navale come in generale sono un po' tutti pensate a quello inglese o a quello olandese o a quello spagnolo stesso ma è un colonialismo territoriale verso il sud del continente asiafico attraverso l'Asia centrale quindi insomma c'è una corsa praticamente ad appropriarsi del mondo e la Francia sta restando indietro vuole recuperare il tempo perduto da dove comincia Napoleone III a fare la sua grande politica coloniale perché è una grande politica coloniale beh anzitutto c'è il piede che la Francia ha messo in Africa l'ha messo in Algeria nel 1830 lo abbiamo ricordato qualche giorno fa proprio occupando la capitale di Algeria dove il Bay di Algeria era un pochino il leader di questi principi magrebini delle grandi città navali dell'Africa settentrionale quindi Algeria Tunisi Tripoli e via discorrendo che facevano una politica corsara praticamente politica corsara quindi di attacco alle navi mercantili qualche volta anche alle navi militari più raramente è un'attività che ormai era antica la facevano già fino almeno dal XV secolo all'ombra formalmente dell'impero ottomano quindi erano formalmente sudditi dell'impero ottomano questi principati corsari del Nord Africa ma in realtà facevano una politica del tutto autonoma e infatti l'impero sultaniale di Istanbul non interviene in Africa in generale intanto perché non ne ha più la forza è già un impero in crisi già l'uomo malato che poi sarà noto come tale nella diplomazia e nella politica europea ma poi perché in fondo non gli importava più di tanto di quest'area che non poteva controllare e allora i francesi nel 1830 hanno messo a tacere la guerra corsara una volta per tutte con una sorta di ultima crociata bandita niente meno che da René de Chateaubriand con un famoso discorso in Parlamento e hanno occupato Algeri dopo di che hanno organizzato la colonia algerina insomma il segno lasciato dalla Francia è profondissimo ancora oggi gli algerini che pure contro la Francia hanno sostenuto una lunga guerra di resistenza e di liberazione che tutti noi ricordiamo eppure gli algerini ancora oggi sono legatissimi alla Francia si dichiarano il secondo paese francofono del mondo quindi dopo la Francia prima del Quebec che non è dichiarazione da poco e in effetti si sentono ancora legatissimi alla madre patria francese questo legame Napoleone III ha contribuito a costruirlo con straordinaria energia nel 1857 c'è la conquista infatti del territorio della Cabila il territorio della Cabila è un territorio particolare dell'Algeria è una zona prevalentemente o quasi totalmente berbera non vorrei sbagliare ma mi sembra che l'elemento arabo sia molto poco presente è uno dei granai del Mediterraneo conquistare la Cabila vuol dire non avere per esempio più bisogno del grano della Crimea non dimentichiamo che c'è stata la guerra in Crimea fra 54 e 56 esattamente nel 57 i francesi conquistano la Cabila questo vuol dire che constatato che la Crimea è un po' lontana constatato che è un territorio contestato constatato che comprare il grano dalla Crimea significa legarsi a una politica di servitura economica nei confronti della Russia azzarista i francesi da allora con la conquista della Cabila mangiano veramente un pane quasi esclusivamente fatto di grano francese che in realtà poi è grano algerino non dimentichiamole queste cose perché la Francia operaia del tempo che è una Francia in cui comincia a vivere il primo socialismo eccetera è una Francia che ha fame e chi ha fame nell'ottocento ha bisogno soprattutto di pane quindi la conquista della Cabila ha significato molto si parla di Cabila si parla di grano si parla di pane vi verranno in mente le baguette francesi e non solo quelle la Francia fa molti tipi di pane dalla fame coloniale della Cabila l'appetito vi è mangiando si comincia a guardare sempre più profondamente nel continente africano si scende dal nord dalle coste dell'Algeria si comincia a incontrare questo straordinario deserto brullo ma anche pieno di minerali ma anche pieno di fasci insomma il padre di Foucault questo straordinario missionario nell'Africa nella fine ottocento primi novecento non si spiegherebbe del resto come ricorderete era un ex militare il padre di Foucault non si spiegherebbe senza questo sviluppo della volontà coloniale della Francia è il tempo in cui si fondano anche certe cose che per la nostra cultura hanno significato moltissimo pensate ai viaggi di pittori orientalisti come il grande Eugène Delacroix in Africa soprattutto in Marocco e ai quadri alle tele che Delacroix ha dipinto per noi in gran parte oggi sono al museo del Chia d'Orsay ma non soltanto lì a Parigi che sono i fondamenti del nostro immaginario dell'Africa arabo-musulmana quindi siamo alle radici di una tradizione orientalistica che sotto Napoleone III proprio farà passi da gigante la cultura del tempo di Napoleone III è una cultura profondamente legata a queste cose l'amore dell'Africa il Mar d'Africa è qualcosa che nasce nella Francia di Napoleone III chi ha letto per esempio Camus si ricorderà di questo straordinario rapporto che Camus ha con l'Algeria ebbene le radici sono lì ma Camus ha un rapporto con l'Algeria mediterranea la sua Algeria è l'Algeria da cui si vede il mare invece no i francesi vanno avanti vanno avanti e procedono verso il deserto vanno verso sud è il tempo in cui si fondano le fortune di questo straordinario corpo che sarà la legione straniera francese e con questo richiamo romantico che poi passerà al cinema beh la legione straniera ha molto poco in realtà di romantico è una storia molto interessante ma piuttosto dura però noi la vediamo con questo prisma quella del cinema degli anni 20 20 30 40 ancora 50 insomma bene tutte queste cose sono come avrebbero detto una volta i critici marxisti sono un po' sovrastrutturali rispetto a una realtà strutturale che noi bisogna delineare rapidamente ma non dimenticare la penetrazione verso il sud sud significa Senegal significa addirittura un occhio verso lo sterminato deserto ricchissimo di minerali soprattutto minerali di ferro ma non solo della Mauritania e a questo punto si deve parlare del governatore Feiderb questo francese dal nome tedesco d'origine alsaziana se non mi sbaglio il quale governatore generale Feiderb conquista fra 1854 e 1865 quindi parte dal tempo della guerra di Crimea e fa una guerra durata una decina d'anni conquista il Senegal fonda Dakar nel 1857 una delle città come è stato detto più francesi del continente africano ma le cose non sono finite qui le cose dicevo non finiscono qui perché intanto Napoleone continua a guardarsi intorno le cose relative ai rapporti con l'impero turco vanno sempre peggio l'impero turco è sopravvissuto a se stesso ci può dire grazie soprattutto alla volontà delle grandi potenze liberali occidentali che l'hanno tenuto in piedi sono la Francia e l'Inghilterra che hanno impedito all'impero zarista dopo un celebre pasticcio di cui abbiamo già fatto qualche cenno nelle puntate precedenti la cosiddetta guerra della stella di Betlemme una stella d'argento che decora il luogo nella basilica di Betlemme dove tradizionalmente sarebbe nato il bambino Gesù e che la basilica di Betlemme è tenuta da monaci marmeni e ortodossi quindi lo zar ne rivendica un pochino il patronato come fa anche per il santo sepolcro di Gerusalemme però ci sono anche i cattolici e i cattolici guardano all'imperatore d'Austria che in quel momento è il grande Francesco Giuseppe e al anche se era un Francesco Giuseppe ancora giovane nel 1869 andrà egli stesso in prelegrinaggio a Gerusalemme e guardano anche naturalmente a Napoleone III e Napoleone III ha ripreso la politica di Luigi XVI che l'aveva già ripresa da Francesco I di atteggiarsi a grande protettore della Siria Palestina e della Terra Santa dal punto di vista cattolico perché in Terra Santa sono presenti molte comunità i protestanti ancora non guardano con simpatia alla Terra Santa sapete che i protestanti non amano le reliquie ovviamente quindi è un po' difficile non amare le reliquie e avere interesse per la Terra Santa però verso l'Ottocento arriveranno anche loro non ci arriveranno per le reliquie ma ci arriveranno un po' per la politica coloniale inglese e un pochino ci arriveranno anche perché si rendono conto che un rapporto con la Terra Santa è sempre molto prestigioso per chi si dica cristiano in questo momento alla metà dell'Ottocento i concorrenti al patronato dei cristiani che abitano in Terra Santa e che custodiscono i luoghi santi che fin dal Medioevo si litigano e si litigano fra cristiani occidentali quindi cattolici latini e cristiani orientali ortodossi e anche le chiese arabe che sono in qualche modo legate più all'ortodossia greca che non al mondo latino ecco in questo quadro così complesso arrivano proprio come falchi e non ci arrivano soltanto per motivi religiosi ma per altri motivi i sovrani cristiani dell'Ottocento ce ne sono noi guardiamo all'Ottocento come al luogo storico della desacralizzazione della raicizzazione dell'Europa e sarà anche vero però io ho la sensazione che quando gli Stati Uniti i pensatori politici degli Stati Uniti del tempo dell'Ottocento guardavano all'Europa e dicevano ma l'Europa è piena di sovrani reazionari ancora per diritto divino beh bisogna dire che gli osservatori politici statunitensi non avevano mica poi tutti i torti ecco Napoleone III Francesco Giuseppe Lozar ma anche il re d'Inghilterra visto da lontano danno l'impressione e lo sono in realtà di monarchi cristiani autoritari più che non di monarchi costituzionali anche se ormai verso la metà dell'Ottocento tutti cominciano più o meno a essere costituzionali Buonasera riprendiamo il nostro discorso sul Napoleone III che abbiamo lasciato per così dire in terra santa ma non bisogna dimenticare che Napoleone III il Napoleone III colonialista di cui stiamo parlando adesso in questo paio di puntate il discorso forse sarebbe ancora più ancora più ampio se lo volessimo approfondire si potrebbe perché la politica coloniale francese del tempo poi proseguita durante la Repubblica dopo il 1871 è molto interessante beh diciamo che Napoleone ha partito dal conquista dal consolidamento della conquista dell'Algeria si è spinto verso il sud verso il Senegal il generale Federb ha fondato Dakar e intanto lui sta guardando però anche ad altre aree del Mediterraneo e a incoraggiarlo è la situazione della grande potenza egemonica del Mediterraneo orientale del tempo che è la Turchia che come sappiamo è in crisi non ce l'ha buttata la guerra di Crimea ma certo la guerra di Crimea ha dato un forte colpo all'autorità sultaniale anche se formalmente la guerra di Crimea in fondo è stata vinta dal sultano o meglio è stata vinta dalle potenze liberali Francia e Inghilterra che si sono opposte a una sconfitta turca da parte della Russia che avrebbe portato la Russia in pieni mari caldi la Russia domina già il Mar Nero sconfiggere la Turchia significa per la Russia arrivare oltre i Dardanelli e affacciarsi sul Mediterraneo questo Francia e Inghilterra non lo vogliono assolutamente lo vorrebbe no forse non lo vorrebbe però in fondo sarebbe meglio disposto più disposto a far affacciare la Russia sui mari caldi ma più a oriente dell'Adriatico l'imperatore d'Austria questo perché non soltanto perché Francesco Giuseppe ha sempre avuto un rapporto di riguardo in un certo senso con il suo collega di Mosca beh di Mosca qualche volta viveva piuttosto a Pietroburgo insomma a San Pietroburgo comunque con Nozzaro il problema è che ci sono i Balcani la politica balcanica del tempo è particolarmente complessa la politica balcanica come sapete purtroppo è sempre complessa però i Balcani sono spartiti in un modo ormai abbastanza consolidato per il momento siamo lo ripeto non lo dimenticate a metà dell'Ottocento i Balcani sono divisi fra Turchi e Austriaci lo sapete bene avete letto Ivo Andric il ponte sull'Adrina eccetera sapete bene qual è la situazione c'è però la potenza russa che soffia sul fuoco da est e dal nord est soffia sugli slavi ortodossi che si sentono tutti legati in un modo o nell'altro alla potenza russa e la ritengono la loro grande protettrice e i russi vorrebbero scompigliare l'equilibrio balcanico perché? la solita storia perché i russi vogliono arrivare al Mediterraneo e hanno due strade per arrivare al Mediterraneo o ci arrivano attraverso il Mar Nero il Bosforo e l'Ardanelli quindi mettendosi in urto con la Turchia o ci arrivano attraverso il mondo balcanico danubiano quindi arrivano all'Adriatico però questo li mette in urto anche con l'Austria in questo momento i russi hanno bisogno dell'appoggio internazionale austriaco non dimentichiamo che l'Austria è un piccolissimo paese è un piccolo paese però ha una grande potenza che è soprattutto una potenza morale l'impero d'Austria è guardato come la prima monarchia d'Europa nonostante tutto nonostante la sua potenza che è in declino il suo imperatore è straordinariamente reputato a livello diplomatico quindi questa è la situazione che sembrava una situazione di stallo in realtà non lo è quindi il quadro che ho cercato di delimitare un po' molto sommariamente dà l'idea del fatto che del resto è noto che la Turchia è il grande uomo malato dell'Ottocento e tutti corrono al capezzale dell'uomo malato ma non tanto per salvargli la pelle quanto piuttosto per prenderne l'eredità insomma per aspettare che muoia perché questa è la realtà insomma è il dramma che poi si è consumato durante la prima guerra mondiale che non va dimenticato è scoppiata proprio a partire dalla tensione austro-russa nei Balcani quindi come vedete sono nodi che vengono al pettine perché venivano da lontano per il momento e siamo alla metà dell'Ottocento per il momento i russi preferiscono non inimicarsi l'impero d'Austria hanno bisogno dell'appoggio all'impero d'Austria e l'impero d'Austria sta al loro gioco gli conviene infatti Francesco Giuseppe si è ben guardato da entrare in qualche modo nella guerra di Crimea non ha evidentemente appoggiato i turchi e quindi le potenze occidentali liberali che appoggiano in quel momento i turchi perché conviene loro ma non ha nemmeno appoggiato lo zar ma certo la sua neutralità è stata una neutralità di fatto più filorussa che non filoturca è il mantenimento dei Balcani che gli interessa e siccome nei Balcani l'elemento che potrebbe essere dinamico e potrebbe un pochino scuotere l'equilibrio precario ma a modo suo abbastanza solido fra austriaci e turchi insomma Francesco Giuseppe ha paura che la Russia si muova un po' troppo nei Balcani preferisce che si muova nel Mar Nero e verso i Dardanelli il che è perfettamente comprensibile ma tutto questo porta naturalmente le altre potenze Francia a Inghilterra che hanno salvato la Turchia dall'impatto della guerra contro i russi li porta ad esse a presentare il conto e Napoleone III il conto al sultano lo presenta piuttosto salato quindi lasciamo perdere il flert fra l'imperatrice Eugenia e il sultano che del resto non sappiamo nemmeno fino a che punto si sia spinto anche se le storie di Alcova parlano di notti folle nei palazzi del Bosforo ma questo sì insomma riguarda la storia la storia è fatta anche di queste cose ma il nostro tempo è limitato occupiamoci di altro la cosa fondamentale è che Napoleone III sulla scia di Luigi XVI e del suo grande zio Napoleone I sta guardando alla Terra Santa sta guardando a tutto il Mediterraneo orientale fondamentalmente guarda all'Egitto quindi vedete insomma conquista l'Algeria dall'Algeria va verso sud intanto guarda all'Egitto fra l'Algeria e l'Egitto ci sono perlomeno la Tunisia e la Libia ma la Libia a sua volta è almeno per la parte la cosiddetta Cirenaica la parte più orientale già Egitto insomma Napoleone III si vuole mangiare tutto il Nord Africa non se la sente proprio di dirlo apertamente ma è quello che si sta apprestando a fare 50-60 ormai l'Egitto che era in mano a questa sorta di famiglia di governatori per conto della sublime porta per conto del sultano di Istanbul i cosiddetti chedivè che però facevano anche loro una politica largamente autonoma e quindi si può dire che fossero i re d'Egitto i chedivè guardavano con grande simpatia con grande interesse alla Francia e la Francia d'altra parte era la promotrice di un progetto progetto in cui c'entrano molto anche gli italiani ma dal punto di vista piuttosto tecnologico che è quello del taglio dell'ismo di Suez tagliare l'ismo di Suez significava veramente sconvolgere le linee economiche commerciali eccetera del mondo perché evidentemente significava mettere direttamente attraverso il Mar Rosso il Mediterraneo in comunicazione con l'Oceano Indiano la cosa interessa molto all'Inghilterra l'Inghilterra ha questo rapporto un pochino agrodolce che ben conosciamo nei confronti della Francia ma nello stesso tempo sono i capitali francesi è l'autorevolezza dell'imperatore dei francesi che impone una grande operazione un grande trust economico una grande mobilitazione di capitali una straordinaria mobilitazione tecnologica qualche cosa di impensabile per i suoi tempi guardate il taglio dell'ismo di Suez non era mica un'idea originale di Napoleone Terzo ci avevano già passato i faraoni egiziani ci avevano pensato più tardi i sultani ottomani il grande Solimano il magnifico che ha regnato grosso modo fra gli anni venti e gli anni sessanta del cinquecento a Istanbul aveva fatto un progetto di taglio di due canali uno fra il Don e il Volga quello che poi sarà fatto negli anni trenta sarà il cosiddetto canale Stalin che avrebbe messo in comunicazione Don e Volga quindi Mar Caspio col Mar Nero quindi vi immaginate le flotte del Mar Nero portate sul Mar Caspio la possibilità di assalire alle spalle l'impero persiano la storia sarebbe stata diversa però Solimano come già anche i faraoni egiziani non ha i mezzi tecnici per fare un'operazione di questo genere guardate la tecnologia non si è poi grandemente mossa fino al diciannovesimo secolo e nel diciannovesimo secolo c'è un salto straordinario a questo punto Napoleone a differenza dei faraoni egiziani a differenza di Solimano gli elementi tecnologici ce li ha e anche se la mano d'opera costa decisamente di più di quanto non costasse ai faraoni o a Solimano però c'è anche gli elementi economici per fare un'operazione del genere operazione su cui si buttano a pesce tutte le potenze navali del tempo la cantieristica straordinari sviluppi per l'industria navale insomma qualche cosa di straordinario di enorme e infatti il canale di Suez a suo tempo sarà inaugurato con grande sfarzo con grande solennità sarà un po' il canto del cigno della superpotenza della Francia di Napoleone III ma non corriamo troppo avanti ai fatti limitiamoci a dir questo la Francia ormai è quasi la padrona incontrastata di tutta l'Africa settentrionale poi le cose cambieranno e si appresta anche a guardare un pochino più a nord vedremo come un balzo un pochino più a nord aveva già cominciato Napoleone quando era ancora il generale buona parte in appendice alla sua celebre campagna d'Egitto era passato in Siria aveva assistito a una spaventosa epidemia di peste durante la quale si era comportato con grandissimo coraggio restando fra i suoi soldati eccetera si era quasi guadagnato lì sul campo le insegne imperiali perché c'è un'antica tradizione medievale secondo la quale il re di Francia col suo tocco può guarire certe malattie il giovane generale buona parte repubblicano giacobino e in quella scorcio del settecento sembra già quasi profeticamente lanciato a sostituire i re di Francia gli antichi i re di Francia del medioevo del resto ancora il re sole faceva queste cose toccava per esempio le scrofole cioè certe particolari affezioni glandolari che danno delle tumescenze soprattutto nella zona del collo eccetera non sono cose belle a vedersi e tantomeno a toccarsi il re le toccava e si diceva che poteva guarirle il re è persona sacra questo generale giacobino di poco più di vent'anni alla fine del settecento nel calore della Siria fa le stesse cose abbiamo un quadro di David famoso con il generale Bonaparte che visita i soldati appestati e che li tocca che li cura che li conforta beh Napoleone III non era capace di questi slanci Napoleone III non è mai stato in fondo grande artigliere ma piuttosto dal punto di vista della teoria e dell'impiego industriale della tecnica e della balistica ma non uomo di guerra come il suo grande zio quindi non ha mai fatto queste cose però insomma da fare se lo dà anche lui e come non ha dimenticato l'antico desiderio l'antico progetto dello zio di mettere il suo piedino nel vicino oriente come diciamo noi e sceglie naturalmente un'area che non è tanto la Palestina un'area piuttosto povera molto desertificata a quel tempo anche Gerusalemme era ridotta in condizioni piuttosto piuttosto negative ma sceglie il ricco Libano e la verde Siria zone tra l'altro importantissime per i loro commerci per la vivezza delle loro città Damasco Beirut e comincia lì una grande penetrazione coloniale che culmina con un vero e proprio sbarco militare a Beirut nel 1860 quindi guardate la cronologia insomma Napoleone ha già quasi risolto le cose italo-austriache nel 1859 bloccando i piemontesi che poi andranno avanti per conto loro nel progetto di unità d'Italia ne riparleremo naturalmente quindi si è rappacificato con l'imperatore d'Austria perché ha proibito agli italiani di andare troppo oltre nel loro processo unitario soprattutto perché questo processo unitario poteva portare all'occupazione degli stati della chiesa quindi Napoleone nel 1859 ferma sì gli italiani e i piemontesi e si prenderà l'inemicizia di il rancore di Vittorio Emanuele II del conte di Cavour dei tutti i rivoluzionari di Garibaldi eccetera eccetera di Mazzini che ce l'aveva già con l'imperatore ma anche se l'attentato di Felice Orsini è il precedente ma in cambio si la pacifica con l'impero d'Austria e soprattutto si guadagna l'appoggio grato riconoscente della chiesa cattolica come vedete insomma è un uomo che sta disponendo le sue carte sul suo tavolo verde con grande perizia e con grande prudenza buonasera abbiamo lasciato Napoleone III fra l'Africa settentrionale e il vicino oriente lo abbiamo visto sbarcare gloriosamente insomma positivamente felicemente a Beirut nel 1860 bisogna aggiungere che a questo punto si sviluppa in tutta la Francia ha un grande entusiasmo la Francia ama l'Oriente c'è tutta una tradizione che riviene dal Medioevo secondo cui la Francia è la nazione che ha tenuto a battesimo le crociate gesta dei per francos azioni di gloria fatte compiute da Dio ma attraverso i francesi è tutta la tradizione che dalla prima crociata arriva alle due crociate di San Luigi in pieno 200 e che poi viene ripresa fra il 5 e il 600 i re di Francia fra il 500 e il 600 che vuol dire tra Francesco I e il re Sole e Luigi XVI siccome facevano una politica obiettivamente filoturca perché facendo una politica anti-spagnola e anti-imperiale e un po' anti-veneziana e qualche volta anche un po' anti-papale il loro alleato naturale era il sultano però allearsi col sultano significava rinnegare la cristianità a chi li accusava di tanto i re di Francia rispondevano orgogliosamente che loro erano stati sempre la spada snudata contro l'Islam per difendere la cristianità erano i promotori delle crociate ma date profondevano anche molto denaro per studiare questi movimenti quella sezione della storia medievale che è come dicono gli specialisti la crociatistica lo studio delle crociate è nata proprio grazie agli sforzi che i re di Francia soprattutto nel 5-600 hanno fatto per finanziare gli eruditi che studiavano i rapporti con l'Oriente che volevano dimostrare che la Francia era sempre stata in prima fila per tutelare la cristianità orientale contro l'Islam nascono quindi le grandi raccolte di cronaca delle crociate proprio grazie a un ex Ugo Notto un ex calvinista che reduce dalle guerre di religione della fine del 500 scrive in omaggio al suo re che era anche lui un Ugo Notto convertito Enrico IV che era morto però nel 1610 questo studioso ex calvinista o calvinista ancora Jacques Bongard raccoglie e li dedica al successore di Enrico IV a Luigi XIII che tutti i lettori di Dumas conoscono è il re dei che vediamo agire poco per la verità ma insomma sotto il cui regno si svolge la vicenda dei tre moschettieri come appunto i cultori di Dumas ricorderanno bene Jacques Bongard dedica a Luigi XIII successore di Enrico IV un grosso volume di cronache medievali stampate intitolato proprio Gesta dei per Francos dopodiché su questa base si edifica tutto il complesso edificio dell'orientalistica francese che arriva proprio con Napoleone III a fastigi straordinari molti di voi avranno certamente visitato la regia di Versailles e si ricorderanno forse anche se è una cosa che francamente non tutti quelli che vanno a Versailles guardano con attenzione la sala delle crociate dove i grandi pittori orientalisti del tempo torna Eugène de la Croix hanno affrescato l'epopea delle crociate presentandola come epopea nazionale francese ma non finisce qui c'è anche altro da dire al riguardo Amore per l'Oriente e qua si potrebbe parlare peccato che stiamo alla radio perché altrimenti si potrebbe spaziare dalla pittura degli orientalisti fino ai grandi padiglioni organizzati dagli architetti i grandi edifici in stile che noi italiani chiamiamo Moresco in stile quindi orientalizzante e poi ancora la musica di Saint-Saënt eccetera eccetera l'orientalismo in musica o l'orientalismo in pittura o in architettura ha significato moltissimo nel pieno ottocento e Napoleone III è al centro è un centro propulsore lui stesso compartecipe di questa passione come la passione storica la passione per il medioevo la passione per la romanità insomma siamo davanti a un uomo che è anche qui uno che detta un po' i gusti del tempo e con grande attenzione non solo a quella che noi definiremo la cultura divulgativa la cultura massmediale ma con grande attenzione anche alla grande cultura accademica nasce per esempio proprio si può dire nella grande biblioteca imperiale che è la biblioteca nazionale francese quella gloriosa che tutti gli studiosi conoscono che fino a pochi anni fa era nel grande edificio di Rurichelier a due passi dal Palais Guaial e dalla Borsa a Parigi e che ora si è trasferita nei locali ultramoderni della Tre Grand Biblioteque oltre l'Arsenal quindi nella zona est di Parigi ma la biblioteca nazionale che tutti noi non più giovanissimi ricordiamo molti di noi ci hanno passato la giovinezza eccetera è quella senza dubbio di Rurichelier e lì si respira Napoleone III Napoleone III che fra l'altro mette a punto una grande operazione editoriale detta conosciuta come la il recale des historiens un'opera splendida benissimo stampata enormi volumi in foglio sono stati ripubblicati anche recentemente ma in un'edizione un pochino più maneggevole ma quella grande in foglio è straordinaria beh non vi ci avvicinate se ne avete voglia con grande riverenza perché in fondo ormai la si vede anche online insomma la si consulta anche online certo però chi la va a vedere tutte le grandi biblioteche ne hanno un'edizione originale resta affascinato decine di volumi che riguardano le cronache delle crociate occidentali ma anche greche ma anche arabe ma anche armene perfino anche cronache minori appartenenti ad altre culture perché lo fa l'imperatore tutto questo guardate un grosso impegno anche economico un impegno anche accademico oggi si direbbe mass mediale naturalmente beh lo fa in gran parte perché ha una precisa politica coloniale in parte perché si rende conto di essere un imperatore che in gran parte insomma ha il complesso di inferiorità che hanno sempre un po' i Napoleoni nei confronti delle grandi case regnanti si è un imperatore ma insomma di questa casa imperiale d'origine giacobine che si è costruita sui campi di battaglia e che non ha veramente sangue blu nelle vene lui poi lo zio almeno aveva sposato un Asburgo ma lui aveva sposato questa intrigante pare anche poco seria contessa francese insomma un pochino di complesso inferiorità Napoleone III ce l'aveva si vedeva dalle uniformi che si faceva disegnare però fa grandi cose bisogna dirlo e questa impresa editoriale non è fra le sue fra i suoi ultimi monumenti quindi Francia grande protettrice della Terra Santa e la guerra di Crimea è scoppiata anche per questo cioè in fondo è stata all'inizio una diatriba fra i re di Francia e lo zar col silenzio un po' complice dell'imperatore d'Austria su chi dovesse difendere i cristiani latini aggrediti dai cristiani greci e poi la cosa si è trasformata in guerra in guerra di Crimea siamo fra il 1854 e il 1856 nello stesso tempo direzione di penetrazione fra Siria e Libano vedete che c'è una logica sbarco a Beirut nel 1860 vi ricordo a costo di sembrare noioso che tre anni prima il generale Federb aveva fondato Dakar la capitale del Senegal e quindi insomma c'è una politica che avvolge tutto il Mediterraneo e che passa attraverso il progetto di taglio dell'ismo di Suez non è una politica da poco è una politica di grandissimo respiro nel frattempo questa politica mira anche a costruirsi delle radici intellettuali delle radici storiche e Napoleone III diventa il grande lui che è uno studioso piuttosto dell'antichità abbiamo ricordato a qualcuna una delle volte scorse il suo grande lavoro biografico sul Giulio Cesare lui però si occupa anche di storia medievale di crociate e vuol dimostrare che anche nel medioevo al tempo delle crociate la Francia è in prima linea nella conquista e nella cristianizzazione del Mediterraneo e quindi in fondo a tutte le carte in regola per legittimare una sua nuova egemonia è un grande disegno grande disegno che viene attraversato anche da altre realtà ho un promesso che parlerò anche di monumenti fatti fare dall'imperatore ne dovrò parlare però continuiamo su questo discorso coloniale perché l'interesse della Francia per le conquiste coloniali non finisce qui Napoleone III si vuole appropriare del Mediterraneo e insomma appropriare è una parola un po' grossa un po' rossa un po' grossolana mi è scappata diciamo che vuole egemonizzare il Mediterraneo soprattutto quello orientale naturalmente lui si rende conto che col taglio dell'ismo di Suez le navi inglesi gli inglesi sono quelli che hanno le chiavi di Gibraltar quindi governano uno dei due accessi al Mediterraneo naturalmente si butteranno a pesce sul Suez sull'ismo di Suez è bene contenere questo prepotere inglese perché se gli inglesi potessero avere insieme le chiavi del Mediterraneo dell'ingresso ovest Gibraltar e dell'ingresso est o sud-est Suez voi capirete che considerando che l'impero inglese è un impero delle Indie l'egemonia inglese sarebbe irreversibile Napoleone questo non lo vuole noi sappiamo col segno di poi che invece è proprio quello che è successo ma adesso siamo ancora al 1860 e quindi si può ragionare ancora come se quel che è successo non fosse successo avrebbe potuto non succedere in fondo parlare di storia significa anche esaminare un pochino cronicamente che cosa avrebbe potuto accadere che è stato detto che la storia non si fa con i se e con i ma non è assolutamente vero per capire la storia bisogna porsi i problemi parlare di se e parlare di ma vedremo tra breve in che senso si sta quindi profilando un certo conflitto con l'Inghilterra noi abbiamo già detto qualche puntata fa che poi con l'Inghilterra si arriverà un po' a una sorta di gentleman's agreement si arriverà a un accordo di tipo libero scambista con il quale la Francia getterà un po' la spugna e ammetterà di non essere in grado di competere veramente con questa grande potenza coloniale industriale fino a un certo punto lo era già sicuramente ma soprattutto coloniale commerciale vuol dire parlare del dominio delle materie prime che vengono dai paesi coloniali che naturalmente vengono commercializzate secondo la volontà delle matri patrie che dettano i costi di queste merci e di queste materie prime questa è la corsa che Napoleone la perderà noi lo sappiamo già che la perderà sappiamo che l'accordo libero scambista con l'Inghilterra del 67 significherà che Napoleone si è reso conto di aver perduto la corsa coloniale però riflettiamo un po' su queste cose questo è quello che stiamo cercando di fare adesso e per riflettere su queste cose bisogna tenere presente che Napoleone ha tentato anche la carta estremo orientale in quel momento c'è una grande corsa all'appropriazione dei brandelli per lo meno dei brandelli costieri dell'impero cinese le potenze occidentali sono alle prese con questi due grandi imperi asiatici che sono la Turchia a ovest del continente asiatico e la Cina a est sono due imperi che si vanno lentamente disfacendo le potenze coloniali europee stanno guardando il momento più opportuno per strappare brani più grossi possibili di questi corpi che si vanno disfacendo mentre stanno già guardando ad altri due imperi che sono quello persiano e quello giapponese che invece appaiono più solidi appaiono strutturati su una compagine più coerente però anche loro sono sotto l'occhio delle potenze coloniali e poi c'è l'India nell'India l'impero dei Mogul fondato dai conquistatori d'origine tartara che sono discesi dall'Asia centrale nel primo cinquecento Mogul è un termine che significa appunto mongolo mongolico questo impero ormai praticamente si va disfacendo i Raja e Maharaja già hinduisti non l'hanno mai amato si tratta di un impero musulmano perché i Mongoli che venivano dall'Asia centrale erano musulmani erano i discendenti del grande Timurkan del grande Tamerlano e quindi anche lì c'è un momento delicato di passaggio infatti proprio in quegli anni la compagnia inglese delle Indie constaterà di non riuscire a dominare la situazione e passerà il gioco allo stato inglese e la regina vittoria diventerà anche imperatrice dell'India quindi c'è una grande ridefinizione di tutta l'Asia vediamo quindi e lo vedremo nella prossima puntata il ruolo che in questa grande definizione di tutta l'Asia ha la Francia di Napoleone III Buonasera abbiamo lasciato il nostro Napoleone III alle prese con l'Asia profonda nell'Asia profonda nell'Asia sud-est asiatico è già in atto da molto tempo una profonda riorganizzazione la Cina è praticamente l'impero cinese è praticamente ormai quasi in ginocchio l'interesse delle potenze coloniali europee abbiamo i britannici presenti con la parte nord del Borneo Sarawak Brunei eccetera ve la ricorderete perché insomma siamo tutti almeno noi non più giovanissimi dei lettori di Salgari e Salgari come sapete organizza impianta i suoi racconti dedicati a Sandokan e alle Tigri di Monprasem eccetera proprio in quell'area che è circostante la grande isola del Borneo quindi immediatamente a est di Sumatra e della penisola della Malacca Sumatra penisola della Malacca Birmania eccetera che sono ormai entrate nella giro di interessi coloniali degli inglesi ma c'è anche lì al tempo stesso lì presente un forte interesse da parte degli olandesi che hanno un rapporto un pochino complesso proprio di anello di congiunzione ma anche di pietra e lo scandalo tra la politica inglese e la politica francese del tempo all'Olanda appartiene tutto il centro il sud dell'isola della grande isola del Borneo e appartiene anche Sumatra ecco dire che gli olandesi hanno il Borneo e Sumatra vuol dire che gli olandesi dominano gran parte del commercio delle spezie perché le cosiddette spezie cioè tutta quella infinita gamma di prodotti che poi sono importantissimi per la medicina l'alimentazione la tintura delle stoffe eccetera quindi cose che sono fondamentali per lo sviluppo economico del tempo sono commerciate dagli olandesi la piccola Olanda domina e non domina soltanto il sud-est asiatico ma domina anche come sapete una parte dell'oceania insomma è una potenza coloniale di grande importanza così come gran parte del lavorio beh in una certa misura lavorio viene anche dal Siam ma lavorio viene assomata poi c'è la gomma è una sostanza fondamentale per lo sviluppo dell'industria dell'ottocento e la gomma viene principalmente dal sud-est asiatico quindi Tonchino Laos Annam Cambogia Cocincina cioè proprio la punta sud dell'area che oggi è l'attuale Vietnam eccetera ecco i francesi si interessano a questo ricchissimo mondo è il mondo dal cui proviene naturalmente anche il riso poi non c'è soltanto il riso c'è anche per esempio lo stagno c'è il tabacco c'è la seta ci sono insomma tanti prodotti che servono moltissimo all'industria allo sviluppo del tempo la corsa a questi prodotti è quello che poi permette lo sviluppo straordinario dell'economia e quindi anche del benessere europeo non dobbiamo dimenticare che questo benessere europeo è profondamente collegato a una politica coloniale che è una politica fra l'altro e questo va detto di straordinaria brutalità quindi si crea anche un impero indocinese nel periodo in cui la Francia è dominata da Napoleone III Napoleone III entra con una certa decisione anche con una certa brutalità appunto l'abbiamo detto e va ripetuto in Indocina conquista la Cocincina a due riprese fra 1862 1867 impone il suo protettorato alla Cambogia imporre il protettorato alla Cambogia significa naturalmente anche se poi la vera e propria occupazione generale dell'Indocina avverrà soltanto una ventina d'anni dopo nel 1887 significa praticamente scompigliare le carte in tavola alla politica commerciale e coloniale inglese anche naturalmente olandese ma soprattutto inglese e questo avrà una sua straordinaria importanza ecco non dimentichiamo che questa politica significa anche pressione sulle tre grandi città del sud della Cina cioè Macao che è ancora portoghese Hong Kong e Canton praticamente quindi la corsa delle grandi potenze del tempo mira a dominare questo scacchiere direi fondamentale dell'economia del tempo se non ci fosse stata la conquista e la razionalizzazione di quest'area del sud-est asiatico da parte dei paesi dell'Europa occidentale negli anni 60 dell'ottocento lo sviluppo industriale europeo sarebbe stato di altro tipo naturalmente molto inferiore non possiamo certo dimenticare cose di questo genere come non possiamo dimenticare che l'impero l'impero coloniale francese a partire da Napoleone III e poi anche in seguito si svilupperà straordinariamente in Africa si può dire che tutta l'area del nord-ovest dell'Africa diventerà francese progressivamente ma saranno francesi anche le comore sarà francese in Madagascar le isole della riunione la New Amsterdam l'isola di Saint Paul cioè tutte le isole che stanno nel cuore dell'oceano indiano piuttosto verso il sud dell'oceano indiano tra Sudafrica Sumatra l'India naturalmente e l'Australia quindi insomma siamo davanti a una politica coloniale di veramente di grandissimo respiro e questo è quello che non va mai dimenticato quando si vuol giudicare a 360 gradi la politica di Napoleone d'altra parte però diamo a Cesare quel che è di Cesare è il caso di dirlo visto che siamo davanti a un imperatore che fra l'altro era un grande ammiratore di Giulio Cesare del vero Giulio Cesare di quello dell'antica Roma però non diamoli troppo voglio dire che è vero che il grande impero coloniale francese che si svilupperà fra 1871 e 1914 è un esito della politica di continuo intervento non solo militare non solo diplomatico ma anche economico e finanziario di Napoleone mai dimenticare questa grande propensione dell'imperatore per il gioco in borsa e per gli interventi finanziari ma è vero anche questo va detto che lo sviluppo dell'impero coloniale sarà anche il contraccolpo della crisi della sconfitta il contraccolpo del fatto che i francesi erano rimasti attoniti atterriti e atterrati davanti alla rapidità con cui l'impero si era dissolto e allora evidentemente se dobbiamo dare delle valutazioni anche positive e ne abbiamo date molte mi sembra alla politica di Napoleone III non bisogna dimenticare che il grande sviluppo il grande slancio coloniale della Francia del secondo 800 che poi porterà alla belle epoca sarà uno degli elementi fondamentali della rinascita culturale economica eccetera è il frutto del contraccolpo della sconfitta detto questo e messi gli opportuni puntini su lì siamo arrivati al momento in cui possiamo tranquillamente parlare d'altro ecco la prossima volta che andate a Parigi dateci un'occhiata con un'attenzione che non sia soltanto quella per carità più che giustificata e giustificabile di chi visita il Louvre di chi visita Notre Dame di chi magari visita invece preferisce cose più moderne e guarda la tour Eiffel ai quartieri industriali ai quartieri delle grandi esposizioni oppure a chi preferisce gli splendori dell'età barocca o del settecento e si reca fino a Versailles eccetera in linea di massima la Parigi di Napoleone III nonostante si vedano aquile imperiali e iniziali con la N che non è quella di Napoleone zio ma quella molto più spesso di Napoleone i nipoti si vedano un po' dappertutto sui grandi ponti sulle facciate del Louvre all'Opera sui boulevard eccetera in molte stazioni e la metropolitana però non si fa troppo caso alla Parigi di Napoleone III perché è per una ragione che in fondo in fondo se ci pensate è tutto normale perché ci si vive dentro perché la Parigi che noi vediamo oggi e la Parigi c'è anche più familiare quelli di noi che la conoscono meglio che la più amata è profondamente segnata da questa presenza di Napoleone III che ha veramente rifondato la monumentalità parigina non dico mica che l'aveva migliorata magari perché no è il tempo dei grandi sventramenti i Savoia nel loro piccolo hanno sventrato Torino e soprattutto Firenze dico nel loro piccolo relativo riferendosi evidentemente all'impero francese che aveva evidentemente altre possibilità Napoleone III che è il loro modello è il modello di Savoia i Savoia hanno ristrutturato Torino e soprattutto Firenze pensando a Parigi pensate al rapporto che c'è fra i vulvar parigini per esempio e i diali di circonvallazione a Firenze che è un rapporto certo siamo in una grandezza quasi in miniatura ma il modello è quello ecco Parigi viene ripensata profondamente da Napoleone III e dai suoi architetti funzionari Napoleone III è un dirigista è un centralista convinto lo sarà finché non avrà preso poi la strada che anche il suo grande zio aveva dovuto accettare nel 14 e che accetterà egli stesso dopo il 67 la strada della rivoluzione liberale ma non sarà mai un liberale troppo convinto probabilmente era troppo napoleonide ed era troppo militare per essere un liberale convinto in fondo anche in questo prendeva un pochino riprendeva un po' le misure di Napoleone primo senza dubbio liberale e liberista ma un liberale liberista segnato da una grande volontà dirigista e si può dire anche militarista e militarista che naturalmente anche quando è liberale lo è in un modo molto particolare quindi monumentalità e modernizzazione di Parigi che portano dei nomi illustri nomi che anche adesso chi visita Parigi conosce nomi come quelle di Haussmann come quelle di Baltar eccetera ecco cosa c'è dietro a questi nomi che ormai sono associati a vie a piazze a stazioni del metro Haussmann Haussmann Boulevard Haussmann è noto tutti lo conoscono a Parigi il prefetto Haussmann prefetto della Senna anche lui un uomo francese d'origine tedesca quindi viene dalla Francia orientale ed è il grande riorganizzatore della Parigi del Tempo sistema dei boulevard i grandi carrefour quindi l'Ethoile l'Alma l'Opera il Trocadero eccetera eccetera i grandi parchi urbani una riorganizzazione che mira a molte cose l'igiene la viabilità la rapidità con cui ormai ci si deve muovere nei tempi moderni con una visione molto avveneristica proiettata molto in avanti non è certo ancora la Parigi che sa che da lì a pochi decenni sarà letteralmente assediata dai motori a scoppio però è una Parigi rispetto alla quale il motore a scoppio ha potuto vivere e convivere felicemente fino a qualche anno fa adesso è in alto naturalmente una nuova ristrutturazione naturalmente si avvia lo scavo della ferrovia metropolitana in gran parte sotterranea il cosiddetto metro quindi si mira a decongestionare le strade nello stesso tempo si abbattono i vecchi baluardi si abbatte la vecchia cinta muraria che a Parigi dominava ancora e al suo posto si sostituiscono appunto i baluardi con quei grandi viali che dei baluardi quindi delle fortificazioni muralie manterranno il nome vulvar significa appunto questo baluardo certo non è soltanto una rivoluzione funzionale non è soltanto una rivoluzione estetica Napoleone III questo ex agitatore neo-giacobino come lo abbiamo definito cominciando questa serie ormai parecchie puntate fa è uno che il 48 l'ha visto ha visto le barricate si è reso conto che Parigi è una bomba a orologeria in un certo senso che per dominare Parigi e questo lo si sapeva fino dal 300 bisogna con molta attenzione gestire il popolo parigino il che vuol dire dargli sicurezza dargli benessere ma anche controllarlo attentamente negli anni fra 1852 e 1870 in questi 18 anni Parigi è un immenso cantiere e cambia completamente il suo look la sua immagine urbana la sua forma urbis come si sarebbe detto una volta abbattimento delle grandi barriere murarie restano in piedi le porte costruzione di boulevard che oltretutto sono anche ottimi per le cariche di cavalleria il che significa naturalmente grandi strade che non sono più suscettibili di essere controllate dalle barricate popolari anche di questo bisogna tenere presente buonasera stiamo ancora parlando di Napoleone terzo e attraverso un esame della sua politica sociale liberista della suo atteggiamento nei confronti del mondo europeo teso a una conquista sempre maggiore dell'egemonia e qui in questo atteggiamento va inscritto il suo rapporto particolare con la costruzione dell'unità italiana che si fa proprio in quegli anni ci ritorneremo fra breve abbiamo visto la sua politica coloniale abbiamo considerato come i risultati di questa politica di potenza e di questa politica coloniale convergessero poi con una modificazione del tessuto sociale francese un arricchimento senza altro senza dubbio un passo avanti anche sul piano dell'economia sul piano dell'industria sul piano dei consumi e quindi evidentemente tutto questo poi si trasferisce nella grande capitale i re di Francia non avevano mai amato particolarmente Parigi in fondo la temevano ne temevano la turbolenza eccetera Napoleone primo rispetto a Parigi aveva uno strano atteggiamento per un certo verso è chiaro che Napoleone pensava che Parigi avrebbe dovuto essere la sua nuova Roma però allo stesso tempo anche lui conservava una certa diffidenza anche la diffidenza del militare in fondo pensate alla Malmaison eccetera quando può Napoleone si tiene distante dalla città di Parigi non così accade per il nipote Napoleone III è un monarca parigino è un uomo che ama Parigi è un uomo che ama anche riorganizzare Parigi abbiamo parlato appunto della monumentalità abbiamo parlato la volta scorsa dei grandi boulevard dell'avvio della ferrovia metropolitana dei grandi carrefour come l'Othea lo Pond de l'Almao il Trocaderot o il carrefour dell'Opera che è proprio uno snodo nevralgico della città verso nord tante altre cose ci sarebbe da dire sottolineare il riassetto per esempio del fiume della Senna e qui il lavoro del prefetto Osman è stato notevole l'organizzazione dei parchi urbani e anche qui c'entra il prefetto Osman la trasformazione urbana Parigi si trasforma in una città di consumatori molto ricca di sottoproletari eccetera sempre più in una città operaia anche se certi elementi come la moda gli intellettuali eccetera significano evidentemente molto per la vita parigina comincia a svilupparsi in fondo la Parigi del grande mito contemporaneo di Parigi stessa che nasce senza dubbio da Napoleone III e poi si sviluppa attraverso la cosiddetta Belle Epoque eccetera non c'era prima di allora abbiamo parlato del profetto Osman senza dubbio uno dei protagonisti di questo mutamento urbano l'altro sarebbe un architetto Vittor Baltar Vittor Baltar è importante perché è un architetto che usa molto quella novità del tempo che a metà ottocento era veramente molto utilizzata che sono le strutture in metallo ghisa o ferro su questo bisognerà un po' insistere Baltar ferro e ghisa si viene ancora colpiti queste grandi strutture per esempio nelle stazioni esterne nelle stazioni non sotterranee del metro oppure ancora quando ci trovavamo davanti fino a pochi anni or sono ai grandi padiglioni delle Halle questi grandi padiglioni di ferro in struttura metallica enorme oggi se si vuole avere idea di che cosa era il Parigi di Baltar che era una Parigi in gran parte di ghisa ferro e lamiera e naturalmente si va sotto la tour Eiffel e si pensa all'ingegnere Eiffel che come sapete ha lavorato splendidamente a Parigi e ha lavorato anche altrove per esempio il grande ascensore di Lisbona e altre operazioni ecco però in fondo Eiffel sia dal punto di vista della tecnica del ferrofuso sia dal punto di vista dell'estetica Eiffel non avrebbe mai potuto muovere un passo se non ci fosse stata alle spalle questa grande esperienza di Victor Baltar Victor Baltar fra l'altro è quello che appunto costruisce quasi da niente i grandi mercati generali di Parigi li costruisce molto arditamente in un'area fra praticamente tra il fiume e la chiesa di Santo Stasch una delle chiese chiesa del rinascimento una chiesa molto particolare in cui ancora si vedono con chiarezza le impronte della tradizione gotica ma che già si avvia a essere una chiesa anzi è senza dubbio una chiesa del pieno rinascimento francese quindi siamo alla fine del XVI secolo in un'area che tocca d'altra parte la borsa e arriva all'ambire il quartiere popolare il quartiere ebraico quello del Mare in quest'area si crea uno spianato enorme e su questo spianato Baltar costruisce delle splendide hall delle grandi sale coperte arditissime quasi completamente in ferro che saranno poi il modello per tutti i mercati ottocenteschi e novecenteschi insomma tutti i mercati europei se volete ogni città non c'è città d'Europa che non abbia le sue grandi o piccole hall nella mia Firenze per esempio i due mercati sia quello di San Lorenzo che quello più a ovest oltre Piazza Santa Croce di Sant'Ambrogio sono due piccole hall che ha avuto la fortuna di vedere ma io insomma credo sia stata una fortuna onestamente di visitare Parigi prima del 72 ha visto ancora le vecchie Aldi Vittor Baltar a Vinay come dicono i francesi cascavano un po' a pezzi erano vecchie arrugginite erano diventate poco igieniche perfino pericolose popolate da topi eccetera tutto quello che volete ma erano anche aree di grande fascino mi ricordo che ci fu una sorta di insurrezione popolare nel 1972 quando si venne a sapere che quell'area era destinata a una ristrutturazione generale se permettete il piccolo inserto autobiografico si era all'inizio di quelli che poi saranno stati gli anni di piombo ma si era ancora nell'atmosfera del 68 e io mi ricordo per averlo vissuto come giovane ricercatore il momento drammatico dei moti del 72 che miravano a impedire la distruzione delle alla per l'organizzazione di quello che è stata una grande operazione urbanistica economica commerciale finanziaria si distrussero i padiglioni e non ci fu movimento studentesco che tenesse la CRS e i reparti speciali della polizia francese in questi casi non erano esattamente un interlocutore troppo accomodante e si cominciò dopo aver distrutto molto rapidamente questi grandi enormi questi palazzi queste cattedrali tutte in ferro forgiato così caratteristiche eccetera si scavò una sorta di cratere enorme una specie di cratere infernale così come se lo ricorda Dante e con grande disappunto ma che curiosità del resto devo dire della popolazione cittadina si cominciò a costruire le all così come le conosciamo adesso all'aria aperta un grande sistema di giardini di prati di aiole tenute in arse topiaria quindi con alberi ritagliati secondo formule geometriche eccetera Fontane è un vero e proprio grande parco urbano e sotto in questa specie di cratere sempre più profondo una spirale di vari tipi di negozio oggi le all sono un luogo di ritrovo ordinario sono uno dei luoghi più caratteristici della Parigi di oggi e quindi ormai non ci ricordiamo più di questa grande rivoluzione urbanistica voluta dall'impareratore Napoleone III quello che si può dire però oggi senza rimpianti nei confronti delle vecchie Hall che forse avevano fatto il loro tempo della necessità di organizzare nuovi market o super market o centri commerciali altrove e quindi di questo centralismo di questo ventre di Parigi di questo luogo dove si riuniva ogni giorno una quantità enorme soprattutto di derrate alimentari probabilmente voi vi ricorderete la riduzione cinematografica di una divertente commedia parigina Irma la Duce Irma la Dolce che fu portata sugli schermi niente meno che da Shirley MacLean e da Jack Lemmon e vi ricorderete quindi anche i più giovani possono vedere che cosa erano le Hall di una volta fra l'altro questo racconto racconto molto divertente di una giovane intelligente affascinante prostituta e di un poliziotto della polizia urbana della comunità di Parigi che finisce con un grande matrimonio nella chiesa di Saint-Eustache bene è un omaggio un omaggio cinematografico a una Parigi che non c'è più al 20 di Parigi il cui grande regista era stato appunto l'imperatore Napoleone III Bonaparte bene credo che abbiate notato e me ne scuso ma non poi più di tanto in fondo siamo macchine imperfette questa vena un pochino autobiografica anche un po' commossa sto parlando di cose di una trentina facciamo pure quasi quarantina di anni fa vecchi ricordi di studente vecchi ricordi di una Parigi che poi non c'è più che ormai appunto bisogna ritrovare nelle fotografie bisogna ritrovare nel cinema non solo correndo dietro a Shirley MacLaine o a Jack Lemmon ma anche anche in altri film la Parigi la vecchia Parigi che era ancora in piedi fino agli anni 70 è stata abbondantemente cinematografata la Greco Jean Gaben eccetera quindi in fondo è oggi ancora familiare anche se gran parte di queste cose bisogna andarle a trovare ormai nelle trasmissioni notturne delle nostre reti televisive che qua e là fanno ancora vedere questi film oppure è materiale da cineforum però è materiale ancora ricco ancora vivo che ancora ci appartiene certo è una Parigi finita superata magari in meglio però è una Parigi che ha avuto una straordinaria vitalità ancora nel fatidico 67 l'anno veramente in cui qualcosa si rompe all'interno dell'impero l'anno dell'autentico crack anche se quello vero e drammatico sarà nel 70 il 67 è anche l'anno del trionfo di Parigi Napoleone prende delle sonore mazzate un po' a giro dalla questione messicana fino alla questione indiretta della crescente egemonia prussiana che colpendo il suo alleato austriaco gli darà anche il segno del fatto che la sua egemonia in Europa sta finendo ha già dovuto piegarsi alla superiore forza industriale e manifatturiera inglese però insomma ma sì queste cose le diciamo bene adesso ma diciamola come ne avrebbe detto il vecchio Dumas il forestiero che si fosse trovato a passare nella Parigi del 1867 non avrebbe assolutamente rilevato i segni di questa decadenza si sarebbe trovato davanti a una città magnifica una città di grande qualità della vita una città dove quasi tutti avevano l'acqua in casa o nel cortile del loro caseggiato e dove non c'era più quasi nessun caseggiato che non avesse i suoi bravi servizi igienici magari in cortile in una casetta apposita oppure addirittura sul pianerottolo o sul balcone il che a voi sembrerà una cosa a livello igienico a livello del conforto è quasi disumana ma a metà dell'ottocento è una cosa straordinaria e questa è la Parigi di Napoleone terzo è la Parigi dell'esposizione universale del 1867 che si ricorda ancora su cui si fanno continuamente convegni pubblicazioni mostre eccetera un grande avvenimento bisognerà aspettare veramente l'alba del nuovo secolo la Tour Eiffel il ballo Eccelsior e tutto il resto per superare i limiti raggiunti dall'esposizione universale del 1867 del 1867 buonasera l'esposizione del 1867 dicevamo la volta scorsa è il trionfo trionfo apparente un trionfo in un anno che non è uno dei migliori che forse uno dei peggiori Napoleone terzo è il trionfo di Parigi Parigi che si propone proprio a tutti i livelli anche a livello dell'illuminazione pubblica se vogliamo come la Ville Lumière anche qui insieme ad Ousmane a Baltaro dopo Ousmane e Baltar si dovrebbero ricordare i protagonisti che sono i promotori dell'esposizione del 1867 che sono Le Ple e Chevalier che propongono proprio una Parigi che deve essere il centro il centro della capitale la capitale dell'Europa secondo il disegno di Napoleone il Grande e la capitale anche della cultura universale quindi uno sviluppo urbanistico che si propone come modello con la sua rivoluzione rivoluzione anche ferroviaria una Parigi che ha un cuore profondo di tipo finanziario collegato naturalmente sia alla concentrazione capitalista sia all'esportazione dei capitali quindi il ruolo fondamentale della borsa e questo ruolo fondamentale della borsa lo si vede lo si vede proprio a due passi dalle hall di cui abbiamo diffusamente quanto ci permette il tempo parlato noi abbiamo il quartiere delle borse la borsa commerciale al margine ovest della spianata delle hall e poi la borsa vera e propria leggermente a nord questa specie di grande di grande tempio classico superato in misure e in solennità greca soltanto dalla chiesa della madrenne e dalla camera dei deputati che gli fa da pandan cioè un asse che passa sul ponte della senna che collega i due grandi frontoni classici della camera dei deputati e della chiesa della madrenne ma se noi usciamo da quest'asse neoclassico molto forte il cui centro è proprio l'obelisco di piazza della concordia noi bisogna andare alla borsa se vogliamo respirare ancora quest'area del classicismo parigino la Parigi nuova Roma come potenza politica e militare ma anche nuova Atene come potenza intellettuale e infine Parigi Tucur come luogo degli scambi economici e della borsa questo è il quadro generale di riferimento a cui ci potremmo rifare tenendo presente però che nello stesso tempo l'imperatore è molto preoccupato per la Parigi proletaria la Parigi che rende la città troppo troppo densa ad abitanti la Parigi che finisce colporre grossi problemi di igiene grossi problemi anche di ordine pubblico il fondo Napoleone III sa bene che tutto sommato anche la sua politica operaistica va fallendo ecco Napoleone non è mai riuscito ad avere un rapporto di successo con il mondo operaio certo fra repressione e demagogia guardate che anche nella costruzione nella nuova città di Parigi c'è molta demagogia e si è riusciti a fare qualcosa però in fondo anche lì ci sono delle cose che scricchiolano si riceva difficoltà di entrare in contatto anche con i certi subalterni la politica di Napoleone in questo senso politica se si vuole in parte repressiva in parte paternalista è stata molto meno fortunata della politica tenuta tenuta allo stesso modo partendo da problemi analoghi solo per esempio dalla corona prussiana che non è ancora la corona tedesca ma che si appresta a diventarlo in Prussia il cancelliere Bismarck e poi lo stesso Kaiser Guglielmo II riescono a ottenere profondamente l'appoggio operaio addirittura l'appoggio dei movimenti socialisti Napoleone non ci riesce mai del tutto intanto c'è in lui molta diffidenza nei confronti del movimento operaio per le organizzazioni operaie Napoleone è contrario non dico alla concessione del diritto di sciopero che insomma a chi conosce la situazione degli anni 50-70 dell'Ottocento non sembra certo strano ma Napoleone è contrario anche all'organizzazione delle società operaie si destreggia un po' meglio con quelle artigiane ma insomma ha sempre paura nei confronti di qualunque organizzazione possa sembrar preludere a una mobilitazione delle masse questo è un elemento fondamentale che in fondo sarebbe logico se poi Napoleone stesso non facesse una politica in contraddizione a questo a questo livello con se stesso perché egli stesso poi cerca invece di mobilitarle di mantenerle a un livello di mobilitazione generale alta queste masse e allora non si capisce bene qual è il tipo di soluzione il tipo di tattica o di strategia che lui ha nella mente nei confronti del mondo operaio certo la sua grande politica operaia perché è stata una grande politica operaia ma ha fallito perché è fondata in generale costantemente su una vecchia forma di assistenzialismo assistenza dovuta più a livello di pubblica carità che non a livello di diritto riconosciuto e questo è il primo limite limite molto grave per noi naturalmente noi guardiamo tutto questo dallo sponda dello welfare moderno e quindi il discorso dovrebbe essere temperato evidentemente ma Napoleone fallisce perché la sua visione è una visione ancora profondamente vecchia Napoleone sembra ragionare ancora da monarca illuminato mentre i tempi sono profondamente cambiati e poi una politica che è la politica dell'impiego la politica della ricerca di organizzare nuovi posti di lavoro la politica beh la politica diciamo pure dei cantieri che non sarebbero poi stati così sempre e tutti così necessari e Parigi ne è un esempio straordinario ma che invece viene perseguita con con grande sistematicità certo questi cantieri danno molto lavoro le imprese pubbliche danno molto lavoro l'organizzazione ferroviaria o metro dà molto lavoro ma è un lavoro destinato a finire almeno di non riprodurlo continuamente questo naturalmente finisce con l'aprire una sorta di contenzioso senza fine in ultima analisi dietro l'angolo c'è la disaffezione della ceto operaio della classe operaia degli operaia in genere nei confronti dell'imperatore naturalmente successi ce ne erano stati per esempio intorno a Parigi si era organizzato ma anche nel resto della Francia degli esperimenti anche di nuova sistemazione urbanistica le cosiddette villuvrier per esempio non erano cose cose da poco si era provato anche a in qualche modo a domesticare le opposizioni ricorrendo a veri e propri procedimenti scelte di indulgenza che erano in fondo un surrogato ancora un pochino paternalista e autoritario diremmo noi ma un surrogato comunque di una politica di distensione sociale ve ne faccio solo un esempio perché i casi potrebbero essere moltissime il decreto del 16 agosto 1859 nel quale si proclama ve lo traduco ma ve lo dico letteralmente con le parole del decreto amnistia piena e intera a tutti gli individui che sono stati condannati per crimini o per irregolarità a sfondo politiche delitti politici oppure per tutti quelli che sono stati oggetto di misure di sicurezza generale beh questo documento del 16 agosto 1854 lancia anche senza bisogno di saperle leggi ed è chiaro le leggi vanno conosciute soprattutto quando si vuole fare storia ma anche chi non è uno storico di professione legge queste poche righe e si rende conto in fondo a che punto è la notte amnistia piena e intera benissimo a tutti gli individui che sono stati condannati per crimini e delitti a sfondo politico questo qualifica già una situazione istituzionale in cui esiste un delitto politico che porta in galera e non sempre nemmeno per brevi periodi oppure persone che sono stati oggetto di misure di sicurezza generale che vuol dire che in fondo in questo regime c'è ancora in qualche modo un barlume della legge dei sospetti guardate riflettiamoci su queste cose perché oggi alla luce per esempio di quello che è stato decretato dopo l'11 settembre del 2001 dal presidente Bush per gli Stati Uniti d'America il cosiddetto Patriot Act queste misure di sicurezza generale questo ristringersi della libertà individuale nel nome del raggiungimento della sicurezza collettiva tutto questo ci può sembrare oggi del tutto ragionevole razionale normale qualche anno fa non l'avremmo considerato con questa indulgenza oggi ci capita perché siamo di nuovo in un momento di tensione di paura di insicurezza e allora sentiamo tutti noi che potremmo anche barattare qualche brandello della nostra cara libertà personale a patto di avere più sicurezza queste cose però fino a poco tempo fa noi le abbiamo pensate diversamente ed ecco perché il giudizio su Napoleone III è stato dal punto di vista dell'apprezzamento della sua politica soprattutto interna un giudizio sostanzialmente di condanna come un giudizio portato nei confronti di un sistema a carattere autoritario si diceva una politica repressiva beh insomma l'atto del 16 agosto 1859 è diventato un classico della svolta del pensiero giuridico e politico di Napoleone III un atto una sorta di moto proprio se si vuole tanto è vero che gli esiliati soprattutto gli esiliati intellettuali a quel punto rientrano è una vittoria in dubbia per il regime mica tutti chi ne non rientra Vittorio Hugo non ci pensa nemmeno però certamente molti rientrano danno vita anche a quel nuovo sviluppo della parigi intellettuale che sarà importante negli anni 60 e non è finita lì perché poi c'è il decrito del 24 novembre 1860 che finisce con sorprendere perfino gli stessi ministri perché quello del 59 era stato accuratamente discusso animatamente discusso se si vuole mentre invece quello del 60 sorprende sia i ministri sia l'opinione pubblica perché comincia a riorganizzare come motu proprio lo stesso governo imperiale ormai a ogni inizio di legislatura l'imperatore accetta che insieme al suo discorso ufficiale discorso della corona che in un certo senso segna le linee di sviluppo della politica ci sarà anche un intervento del corpo legislativo cioè della camera dei deputati e del senato che a loro volta indicheranno le loro linee quindi si apre un discorso dialettico che già prelude in un qualche modo a quello che vabbè forse esagerando noi abbiamo chiamato e la storiografia chiama la rivoluzione liberale nel 1861 ancora una novità a partire dalla fine di quell'anno viene la notizia che sul monitor cioè sulla quella che noi chiameremmo oggi la gazzetta ufficiale tutti i giornali potranno riprodurre la versione stenografata proprio in extenso cioè di tutto il testo dei dibattiti delle due assemblee cioè fino allora il paese funziona in questa maniera che a noi può sembrare strana ma che per l'ottocento è tutto normale c'è un dibattito parlamentare la monarchia è una monarchia costituzionale però questo dibattito parlamentare non concerne l'opinione pubblica l'opinione pubblica viene lanciata all'oscuro del dibattito parlamentare con il decreto del 1861 assolutamente aperto e quasi avvenerista per il tempo si viene avvertiti che i giornali potranno accedere e riprodurre le discussioni parlamentari siamo alla vigilia della rivoluzione liberale e d'altra parte sappiamo che la rivoluzione liberale sarà per molti versi l'ultimo atto della politica dell'imperatore buonasera eccoci dunque alla puntata definitiva conclusiva sul regno sull'impero di Napoleone III 1852 1870 e sulle sue sulle ragioni anzi del suo sostanziale fallimento passato attraverso come abbiamo visto grandi risultati in fondo l'inaugurazione del canale di Suez è del 1869 e vi partecipò l'imperatrice Eugenia vi parteciparono le più importanti teste coronate del tempo si fece una rappresentazione rimasta storica della della Ida del resto il progetto di Ferdinand dell'essere grandemente è stato sostenuto anche da progettatori italiani come sappiamo fino dal 1862 la Francia aveva messo bene le mani avanti nel Mar Rosso che sarebbe diventata questa grande arteria di scorrimento del traffico da e per il Mediterraneo e da e per l'Oceano Indiano perché i francesi si erano acquistati la città di Hoboc sul Mar Rosso appunto per farne una base quindi a quel punto la politica di Napoleone sugli oceani verso naturalmente i nuovi possessi del sudest asiatico di cui abbiamo già parlato d'altra parte non bisogna dimenticare che la Francia possedeva anche il Madagascar sud dello sbocco del Mar Rosso e quindi evidentemente c'è un ponte di tutte le colonie francesi che dalla Francia arriva fino alla Cocincina siamo davanti a un grande evento però ci sono stati fallimenti fallimento del Messico e lo sappiamo 67 sfallimento della linea dell'asse cattolica franco austro ispano bavarese a cui avrebbero dovuto aderire anche i polacchi e magari anche gli italiani insomma tutti i paesi cattolici del sud dell'Europa che avrebbero dovuto creare una sorta di asse per contrastare in qualche modo l'avanzare il crescere delle potenze protestanti nel nord un crescere di carattere economico di carattere commerciale di carattere civile eccetera che naturalmente preoccupa molto la Francia quindi a questo punto i sensori dell'imperatore non sono più tanto rivolti alla tradizionale avversaria economico commerciale che è il pericolo è sempre più la Prussia Prussia pericolo industriale ma anche pericolo militare nel 1866 lo sappiamo ne abbiamo già parlato ampiamente ma richiamiamolo c'è stato la vittoria schiacciante della Prussia contro l'Austria l'Austria alleata della Baviera la Prussia alleata anche dell'Italia Italia che ha fatto coincidere tradizionalmente questa guerra austro-prussiana con la sua terza guerra di indipendenza quindi a questo punto l'astro nascente è quello prussiano e Napoleone ne ha paura come si contrasta l'egemonia prussiana sull'Europa è resistibile l'ascesa del principe di Bismarck diciamolo un pochino parafrasando una vecchia cosa molto nota di Bertolt Brecht l'irresistibile ascesa di Arturo Ui che poi era una figura gangsteristica dietro la quale si nascondeva come tutti sanno una allegoria di Adolf Hitler beh Bismarck non è Hitler naturalmente anche se Hitler avrà in Bismarck una costante fonte di ispirazione almeno formale però Bismarck fa paura alla Francia non solo per le sue straordinarie realizzazioni non solo perché ormai soprattutto dopo la guerra con la Danimarca ispirata una tensione su chi avrebbe dovuto dominare lo Schlewig lo Horstein e l'Auenburg ma anche perché ispirato dal principe di Bismarck il re di Prussia si appresta a essere imperatore ma non lo è ancora però ha fatto un passo avanti subito dopo la guerra contro la Danimarca e la guerra contro l'Austria che era una guerra chiaramente tesa a ridefinire e ridimensionare totalmente il peso anche morale che l'imperatore d'Austria aveva nei confronti di tutta la confederazione tedesca è nata praticamente la confederazione germanica il Deutsche Bund la confederazione germanica non è più soltanto una generica unione praticamente della nazione tedesca intorno a quella che può essere stata identificata dai tedeschi del tempo come la nazione guida quindi era stata l'Austria fino allora ma ormai i tedeschi si stanno tutti orientando piuttosto gli stati tedeschi naturalmente verso la Prussia che vuol dire anche un mutamento di asse di asse geografico spostamento dal sud al nord ma anche di asse per esempio religioso la Prussia è un paese rigorosamente luterano guidato da una dinastia luterana anch'essa ma che ha radici mai del tutto superate mai del tutto metabolizzate radici nel calvinismo la religione evangelica tedesca sarà un pochino il risultato della fusione di elementi luterani con elementi calvinisti anche questo non va dimenticato quindi naturalmente siamo davanti a una svolta nella politica europea tanto più che c'è stato un impegno russo-prussiano verso il 1863 per reprimere l'ennesimo tentativo polacco di indipendenza l'accordo russo-prussiano per reprimere la Polonia a qualcuno suonerà un po' una campana funebre perché siamo nel 1863 e chi guarda questo accordo fra il re di Prussia e lo tsar russo ci vede quasi in prospettiva in filigrana l'accordo fra Hitler e Stalin che nel 1939 portò al fagocitamento e alla spartizione fra la Russia comunista e la Germania nazista della Polonia stessa quindi siamo alla vigilia di un momento politico che ben conosciamo e i cui esiti ci fanno arrivare dritti ai giorni nostri dopo il 67 dopo che Napoleone ha gettato la spugna in parte sulla sua politica economica e ha accettato una partnership piuttosto pesante con l'Inghilterra piuttosto sfavorevole mentre i frussiani danno grandi forti segni di volere ergersi in un unificatori del paese tedesco della Germania il che vuol dire naturalmente bloccare quella spinta verso est che Napoleone III aveva sempre propagandato e sostenuto anche con le sue pretese di di compensi territoriali di purbuare eccetera ormai nella nuova situazione non c'era più da pensare al Belgio all'Ustemburgo era chiaro che nessuno avrebbe mai in Germania permesso una cosa di questo genere la Germania dopo la vittoria con l'Austria anche perché l'imperatore di la Germania la Prussia scusate e tutti i suoi alleati del Deutsche Bund cioè la Germania del Nord si era dimostrata straordinariamente generosa nei confronti della Germania cattolica e dell'Austria e della Baviera che ne erano gli assi perché la guerra del 66 non aveva portato a annessioni a umiliazioni eccetera e quindi a questo punto anche i tedeschi e i cattolici si sentono fortemente portati a simpatizzare col principe di Bismarck è veramente una ascesa diciamo tranquillamente senza paura di fare giochi di parole eccetera è una ascesa quella del principe di Bismarck che non è più resistibile non c'è nulla da fare sta marciando verso l'unificazione della Germania e questo naturalmente fa paura a Napoleone al tempo stesso risfugge anche l'Italia dopo il 1859 il regno di Piemonte divenuto regno d'Italia ha sempre più sentito di non dovere più nulla all'imperatore dei francesi ha pagato quel debito che l'imperatore gli aveva ricordato di avere Napoleone III ha sempre sostenuto l'Italia fino al 59 contro l'Austria poi come sappiamo Armistizio Villafranca ha mutato politica quindi apprezzate la differenza nel 1858 c'era stato l'attentato di Felice Orsini nonostante l'attentato che l'aveva messo in pericolo di vita Napoleone III non aveva mollato gli italiani che in qualche modo potevano anche essere ritenuti moralmente responsabili di questo attentato è vero si è molto parlato di questa nobilissima lettera di Felice Orsini in cui Orsini chiede all'imperatore alla vigilia di essere giustiziato per quello che ha fatto di non abbandonare però la causa dell'indipendenza italiana eccetera la verità è che Napoleone non aveva nessun interesse nel 58 ad abbandonare quella causa però quella causa poi va troppo oltre si rischia l'Italia nata dalla seconda guerra indipendenza da segni di voler fagocitare anche lo stato pontificio Napoleone l'impero napoleonico è tale anche perché c'è un forte appoggio dei cattolici Napoleone questo non se lo può permettere quindi l'Italia della politica marciante di quegli anni è che è l'Italia di Garibaldi è l'Italia di Mintana è l'Italia dell'Astromonte insomma l'Italia dei grandi tentativi reiterati di Garibaldi di prendere Roma e sempre del governo italiano che deve opporsi a questi tentativi perché altrimenti si guasterebbe la fiducia e la simpatia dell'imperatore e dei francesi beh insomma l'Italia progressiva è ormai rotta con Napoleone III considera Napoleone III un'arnese della reazione europea e allora ecco che sì certo l'imperatore cerca di ricorrere ai ripari il suo fronte interno scricchiola nonostante l'ultimo grande successo sia l'apertura del canale di Suez sente di non avere più i francesi dietro di sé cerca di fare ripetendo anche lì una mossa cara al suo grande zio cerca di trasformare l'impero in un impero liberale e qui c'è il grande apporto di questo straordinario personaggio che è Thiers le tre libertà necessarie libertà della persona libertà di stampa libertà delle istituzioni rappresentative la camera è l'impero liberale che tutto sommato però dura poco e che porta come primo immediato risultato alla vittoria dell'opposizione nelle elezioni del 1869 l'imperatore come risultato della sua riforma liberale si trova subito come capo dello Stato e del governo a doversi confrontare con un'opposizione che è invece la maggioranza all'interno degli organi rappresentativi e all'interno del paese è una situazione dalla quale forse Napoleone III fa l'errore di pensare è un errore comune che i politici fanno spesso che si possa uscire soltanto con la guerra tanto più che scatta in lui in questo momento il complesso dell'accerchiamento si parla di un Oensoldern Sigmaringen Leopoldo di Oensoldern Sigmaringen il principe Leopoldo sul possibile trono di Spagna è un Oensoldern come re di Prussia la Francia si trova tra la Prussia che ormai è virtualmente la Germania e la Spagna e si trova schiacciata quasi in una morsa Napoleone chiede garanzie che questo non avvenga e siamo alla stavo per dire alla comica finale forse alla tragicommedia siamo al telegramma di Ems che viene manipolato dal principe di Bismarck il re Guglielmo di Prussia assicurava Napoleone che sulla faccenda spagnola si poteva andarci tranquillamente Bismarck cambia un pochino però un messaggio telegrafico che il suo re Guglielmo gli aveva spedito in maniera da far capire che in fondo le pretese di Napoleone saranno tenute d'accanto e il testo risulta piuttosto offensivo i francesi sono colti sul vivo guerra primo settembre 1870 Sedan sconfitta 4 settembre proclamata la terza repubblica imperi che muoiono imperi che nascono a Versailles il 18 gennaio del 1871 si proclama l'impero federale tedesco è il principe di Bismarck a proclamarlo vuole programarlo proprio nella reggia di Versailles Napoleone va verso l'esilio Parigi verso la comune e l'assedio la Francia verso i tentativi di Revanche che segneranno la sua storia fino a un'età molto recente l'imperatore non regge allo smacco e morirà non più giovanissimo bisogna dire ma forse anzitempo nello stesso 1871 si chiude così un po' malinconicamente quella che era stata la lunga avventura di un sovrano di un uomo politico di un uomo di cultura che ha certamente segnato in maniera profonda la storia dell'Europa del XIX secolo Grazie a tutti